Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti nella lezione 39 di questo corso di Blender Inizio dicendo che questa è l'ultima lezione del corso di animazione Mi spiego Questo corso in Blender è diviso in essenzialmente tre parti La prima di modellazione Dove abbiamo parlato nelle lezioni dalla prima alla lezione 21 Di come creare modelli 3D altamente avanzati in Blender Apro parentesi In realtà per poter dire che proprio stavamo parlando di modellazione Dovremmo prima conoscere la edit mode Perciò magari Voglio dire scusate Magari potremmo considerare proprio di modellazione Solo le lezioni in cui conoscevamo già la edit mode Dato che la edit mode l'abbiamo appresa nella lezione 5 Magari le lezioni dalla 1 alla 4 erano più lezioni introduttive Perché fare l'entrer proprio nell'ambito della modellazione Senza che conoscessimo la edit mode Mi sembra un po' forzato Quindi invece potremmo anche dire così Le lezioni dalla 1 alla 4 erano lezioni introduttive Sulle funzioni basi di Blender Le lezioni dalla 5 alla 21 Interessantissime funzioni di modellazione Avanzata e non distruttiva E le lezioni dalla 22 alla 39 Cioè dalla 22esima lezione A questa è una lezione di animazione Quindi keyframes, fisica e tutte le altre cose Che rigging e tutte le altre cose che ci devono interessare Oggi terminiamo di parlare dell'animazione una volta per tutte Alla fine di questa lezione voi sarete esperti l'animazione E oggi studiamo i constraint Vediamo che i constraint come i modificatori Sono disposti su 4 colonne Oggi studieremo solo i constraint della seconda, della terza e della quarta colonna Perché i constraint della prima colonna Sono constraint del motion tracking E li vedremo quando parleremo del WF-X Quindi sempre in questo corso Però non in questa lezione Ora quindi andiamo a studiare tutti questi constraint differenti Andremo a vedere cosa può fare ognuno di questi constraint E poi vedremo anche che questi constraint sono applicabili anche agli ossi dei rigging Però in quel caso si chiamano bone constraint Però lo vedremo tra poco Cosa fa essenzialmente un constraint? I constraint possono sembrare simili ai modificatori Ma sono molto diversi I modificatori come abbiamo visto nella lezione 15 Sono programmini all'interno di Blender Che modificano il nostro oggetto Lo editano, cambiano la sua forma Cambiano la sua topologia, la sua struttura Aggiungono simulazioni fisiche Lavorano con i gruppi di vertici O ai disarrolli normali Invece un constraint Va più a lavorare su dove e come un oggetto può muoversi Un constraint non deforma il mio oggetto O meglio, lo deforma In alcuni casi può esserci una deformazione Però i constraint impediscono all'oggetto di muoversi oltre un certo limite Oppure costringono l'oggetto a muoversi in un certo modo I constraint sono costrittori, vincoli Ogni oggetto si può muovere liberamente nella mia scena? Bene, con i constraint non è più così Vado a limitare il suo movimento Oppure a costringerlo a muoversi in un certo modo Iniziamo con i constraint di tipo transform Il primo è il constraint più semplice Il constraint copy location Vediamo che questi tutti i constraint Per lavorare devono avere bisogno di almeno due oggetti Iniziamo ad esempio La nostra scimmietta Per chi non lo sapesse Il fatto che ci sia una scimmia all'interno di Blender È qualcosa che deriva da due spazzini fondamentali In primo luogo è già una mesh complessa Che può essere utile a livello di sperimentazione Ma in secondo luogo L'oggettino monkey è molto importante Anche perché è un easter egg Nonché la mascotte di Blender Questa ci mette la mascotte del nostro software di animazione preferito E perciò non poteva mancare all'interno delle mesh da inserire Votiamola di 90 gradi Provendo RZ 90 gradi Per votarla di 90 gradi non volassi le RZ Copy location Inseriamo il modificatore copy location E il constraint copy location Andiamo a vedere cosa fa Il constraint copy location Fa qualcosa di estremamente semplice Prende la posizione di un altro oggetto Detto target E la copia all'oggetto avanti il constraint Quindi ricordatevi che il constraint va aggiunto sempre all'oggetto vincolato Voi potete scegliere un oggetto esterno Blender andrà a controllare la posizione dell'oggetto esterno E andrà ad applicare quella posizione e quelle coordinate spaziali All'oggetto avanti il constraint Selezioniamo come oggetto esterno in target la scimmietta E vediamo che è funzionata alla perfezione Adesso il cubo si trova dove si trova anche la scimmietta Perché la posizione della scimmietta è stata trasferita al cubo Bene Gruppi di vertici Avete notato che prima che scegliesi Susanna Come oggetto i gruppi di vertici non c'erano Ho cancellato Susanna Adesso andiamo ad aggiungere Cioè ho eliminato nel target il nome della scimmietta Ho aggiunto questo empty L'ho da selezionare E vedo che va tutto come sempre Solo che stavolta non mi appare l'opzione del vectors group Questo per il semplice motivo E questo per un motivo relativamente semplice Quando voi selezionate un oggetto L'oggetto avanti il constraint Andrà a coincidere con il pivot dell'oggetto target Quindi con il suo pivot Ma se io volessi che il mio cubo coincidesse con un'altra parte della mia scimmietta Mi basterebbe creare un gruppo di vertici Come chiamarlo per esempio Orecchio Assegno i vertici E se adesso qui in vectors group Specifico il gruppo orecchio Adesso il mio cubo andrà a coincidere Con i vertici del gruppo orecchio In altre parole Velted group è un gruppo di vertici dell'oggetto target Se non c'è niente Il cubo andrà a coincidere con il pivot dell'oggetto target Se inserisco un gruppo di vertici Il cubo andrà a coincidere con quel gruppo di vertici Vediamo le altre opzioni Io posso Prima spostare un pochino la nostra scimmietta E vedo che il cubo la segue fedelmente Perché ne copierà sempre la posizione Tuttavia io posso limitare l'effetto di questo constraint A solo determinate assi Per esempio Se io le assi X, Y e Z Le lascio vuote Il constraint Se le assi X, Y e Z Le lascio tutte vuote Il constraint non avrà effetto Se abilito l'asse delle hits Il cubo copierà la posizione dell'asse in meta Lungo l'asse delle hits Ma lungo le altre due assi Resterà la posizione iniziale Asse delle Z Il cubo copierà la posizione di quei vertici Lungo l'asse delle Z Ma lungo tutte le altre assi Resterà la stessa posizione Y Il cubo copierà la posizione di quei vertici Lungo l'asse delle Y Ma lungo le altre assi Resterà la stessa posizione Io praticamente posso Praticamente Ogni vertice è identificato Dalle coordinate X, Y e Z Ma anche ogni oggetto È identificato da queste coordinate Se io abilito Axis, X Il cubo andrà a concidere con i vertici del gruppo orecchio Copiandone la posizione lungo l'asse delle hits Ma Non la posizione lungo l'asse delle Y Non delle Z Y conciderà solo con i vertici Allineandosi loro lungo l'asse delle Y E con Z Invece si troverà alla stessa altezza Come vedete Io posso dire a Blender Che il mio Praticamente Axis Sono le assi Lungo le quali il cubo può spostarsi X Il cubo potrà andarsi a spostare Solo lungo l'asse delle hits Y Il cubo potrà andarsi a spostare Solo lungo l'asse delle Y Z Il cubo potrà andarsi a spostare Solo lungo l'asse delle Z Per andarsi a spostare Intengo essenzialmente Il constraint lo potrà spostare Se io abilito tutti questi valori Il cubo coincide perfettamente Con i vertici qui inseriti Se invece li disabilito tutti Il cubo scava la posizione iniziale L'opzione Invert Ci permette di invertire L'azione del constraint Lungo una determinata asse Andiamo a prendere la scimmietta E vediamo che lungo l'asse delle hits Le scava le coordinate Meno 3.437 Ovviamente Anche il cubo Per quanto io non lo veda Nel pannello location Viene inserito Alle coordinate Meno 3.437 Perché il cubo Stava nella stessa posizione Tuttavia nel pannello location Io questo non lo vedo Perché anche i constraint Agiscono Perché anche i constraint L'effetto del constraint Sulla posizione rotazione e scala Nel pannello di location Rotation e scale Io non lo vado a vedere Comunque Adesso anche il cubo Ci stava alle posizioni Meno 3.437 Se metto Se premo invert Non si dovrà più Alla posizione Meno 3.437 Ma la posizione 3.437 Praticamente Invert Inverte la posizione del cubo Lungo una di questi assi Y Inverte la sua posizione Anche lungo l'asse delle Y Z Z Inverte la sua posizione Anche lungo l'asse delle Z Per esempio Inverte la posizione Lungo l'asse delle Y E lui si troverà Non più alle coordinate Y 3.0539 Ma alle coordinate Meno 3.0539 Inserisco Invert Z Non si troverà più Come la scimietta Alle coordinate 2.7982 Ma alle coordinate Meno 2 Eccetera eccetera In altre parole Io posso invertire La posizione del cubo Lungo tutti questi assi Se seleziono Tutte e tre le opzioni Di invert Il cubo si troverà Nel luogo Diametralmente opposto Alla scimietta Nello spazio tridimensionale Mi pare abbastanza evidente X Inverte la posizione Lungo l'asse delle X Y Inverte la posizione Lungo l'asse delle Y Z Inverte la posizione Lungo l'asse delle Z Se invece Li deseleziono tutti Il cubo si troverà Sempre a coincidere Con la scimietta Tuttavia Se adesso Premo G Per muovere il cubo Vedo che Non è successo Assolutamente niente Questo per il semplice motivo Che Blender Con il modificatore Ragiona così Io premendo G Vado a modificare La posizione Effettiva del cubo La posizione Propria Del cubo Ma io questa posizione Non la vedo più Perché il modificatore Copy Location Va a prendere La posizione del cubo Ignora completamente Le coordinate Acquisitava il cubo E sostituisce Le sue coordinate Spaziali Con le coordinate Della scimmietta Quindi il Copy Location Praticamente Sovrascrive Sovrascrive Le opzioni Di Location Del cubo Con le opzioni Di Location Della scimmia Perciò Se io vado a premere G Vado a modificare Le opzioni Di Location Del cubo Che però Vengono sovrascritte Con l'opzione Della scimmia In altre parole Se io adesso Provo a spostare Il cubo Vado a spostare La posizione Effettiva Del cubo Che però Viene sostituita Dalla posizione Della scimmia E che perciò Io non vado a vedere Posso modificare Questo comportamento Abilitando Il pulsantino Offset Se abilitiamo Il pulsantino Offset Io gli dico Che la posizione Del cubo Non deve essere Sovrascritta Della posizione Della scimmia Ma deve essere Sommata Alla posizione Della scimmia Perciò Con offset Attivato Io adesso Posso muovere Il mio cubo Tranquillamente Dopo aver applicato Il constraint Tuttavia Se vado a muovere La scimmia Il cubo Si muoverà Con essa Se disabilito Offset Il cubo Torna a concedere Con la mia scimmietta Influence È un'opzione Estremamente semplice Che va a gestire Solamente L'influence Del mio modificatore Il Resetto Tutti i valori Di posizione Del cubo Premendo Alt G E vedo Che facendo scendere Location Posso cambiare Essenzialmente L'influenza Del modificatore Facendo scendere Influence Posso cambiare L'influenza Del modificatore Due opzioni Interessanti Quanto fastidiose Sono le opzioni Target E Owner Ora Vi dovete ricordare Queste due definizioni L'oggetto Target È l'oggetto Qui selezionato Quindi la scimmia L'oggetto Owner È l'oggetto Avente Il constraint Alla scimmia Che ci sto Di applico Anche un subsurf Quindi vado nel pannello Del modificato Perché i constraints Si applicano Da questo pannello Qui Inserisco un subsurf E lo vado ad applicare Ricordatevi Questo è il pannello Quindi Ricapitoliamo Pannello transform Pannello dei modificatori Sistemi particellari Fisica Iconstraint Che stiamo vedendo Gli obgetto data Quindi Veltas group Shipkeys E questo invece È il pannello Delle texture Dunque Invece Questo è il pannello Degli strumenti Per esempio L'abbiamo usato Nella scultura Questo è il pannello Scene E questo Tutti i pannelli Che conosciamo Invece Questo 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 E questo Pannelli Tutti i pannelli Che ho selezionato Non li conosciamo ancora Li vedremo Nelle lezioni successive Sui materiali Che iniziamo ad analizzare Dalla prossima lezione Ricordate Questo è il pannello Dei modificatori Questo è il pannello Dei constant Comun Ok Comunque Continuiamo Bene Target E owner L'oggetto target La scimmietta Owner Il mio cubo Semplicemente Come il blender Se il blender Deve utilizzare Per orientarsi In questo constant Il sistema di riferimento Locale O il sistema di riferimento Globale Con world space A entrambi i miei oggetti Lui considererà Entrambi gli oggetti Nel sistema di riferimento Globale Se inserisco in target Local space Blender considererà Il target Nel sistema di riferimento Locale E il cubo Nel sistema Quindi l'oggetto owner Nel sistema di riferimento Globale Metto owner Metto local space Anche al cubo Vedete Quindi Con world space A entrambi Blender considererà Entrambi nel sistema Di riferimento Globale Con local space Considererà Entrambi nel sistema Di riferimento Locale Perché ho questo risultato Stravagante Perché all'inizio del lavoro Io avevo ruotato La mia scimmietta Di 90 gradi Lungo l'asse delle z E quindi Anche il suo intero Sistema di riferimento Siale Locale È ruotato di 90 gradi Lungo l'asse delle z Globale Per la qualcosa Adesso Blender Andrà a prendere Le coordinate La scimmietta Le applicerà Il mio cubo Però Utilizzerà Un sistema Di riferimento Locale Della scimmia Che è stato ruotato Di 90 gradi Lungo il sistema Di riferimento Che è stato ruotato Di 90 gradi Rispetto al sistema Di riferimento Globale Questo provocherà Essenzialmente Il fatto che Il cubo Non si troverà Nella stessa posizione Perché? Perché il sistema Di riferimento Che io adesso Sto usando Per identificare La posizione del cubo È diverso In quanto Adesso Io per decidere La posizione del cubo Nello spazio Non sto più utilizzando Il sistema Di riferimento Globale Sto utilizzando Un sistema Di riferimento Locale Della scimmia Che è appunto Vuotato Di 90 gradi E quindi Il sistema Di riferimento Che Blender Utilizzerà Per identificare La posizione Del cubo Dello spazio Sarà diverso E quindi Anche il risultato Sarà diverso Se io vado Alla scimmia E premo Alt R Per Per annullare Tutte le rotazioni Precedenti Essenzialmente Adesso Il sistema Di riferimento Locale Della scimmia Torna ad essere Uguale A quello globale E il risultato Torna Ad essere Il cubo Torna a concedere Perfettamente Con la scimmia Io magari adesso Vado alla mia scimmietta E premo RZ 90 gradi Il cubo Torna a spostarsi Ma per risolvere Basta che applico La rotazione Con CTRL A Rotation E adesso Ho risolto Meravigliosamente Il problema E questo è Il semplicissimo Modificatore Copy Location Adesso Magari Può sembrare Un po' inutile Però vi assicuro Che Come tutti i modificatori Ha Grandi potenzialità Cioè Come tutti i Constraint Questo è un Constraint Si va bene Però È la stessa cosa Cioè Non è la stessa cosa Però paziente Adesso magari Inseriamo Un piano Adesso Premiamo Shift D Invio G Y Meno 3 Invio Bene Adesso Due piani Ora Io vorrei Per esempio Che un piano Prendesse la rotazione Dell'altro E la copiasse a sé Per farlo Basta aggiungere A questo piano Copione Il copy rotation Io per esempio Voglio che questo piano Vada a Copiare la rotazione Di questo Adesso in target Seleziono 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 Quest'altro piano E se io Vuoto Questo piano Anche il piano Col Constraint La vuoterà Insieme ad esso Poi Abbiamo Veltas Group Cioè Un gruppo Di vertici Dell'oggetto Target Se inserisco Per esempio Single Vert Rinomano Questo gruppo Assegno Il vertice Adesso Il Constraint Indico Il singolo Vertice E questo piano Non andrà più A copiare la rotazione Di quest'altro Piano Ma andrà a copiare La rotazione Di quel Il singolo Vertice Poi Qui possiamo Scegliere Il sistema Di riferimento Da utilizzare L'abbiamo visto Nella lezione 8 Se utilizzo Il sistema Di riferimento Gimbal Ci sono Delle differenze Tra il sistema X, Y, Z Z, Z Z, Y Y, Z Z Comunque Abbiamo visto Nella lezione 8 Quali sono Le differenze Da questi sistemi Possiamo Semplicemente Andare a Blender Quale Di questi Sistemi Di riferimento Di rotazione Lui deve andare Ad utilizzare Di solito Va più che bene Il sistema Default Se non vi ricordate Cosa fanno Tutti questi sistemi Andate a rivedere La lezione 8 La lezione 8 Vuotiamo di nuovo Questo piano E andiamo a vedere Cosa fanno I valori Di axis Semplicemente Io posso Magari lo vuoto Lungo Tutti gli assi E axis Qui lavora Come le assi Le assi Del copy location Io posso Se seleziono tutto Il concept Non funziona più Se seleziono It's Blender Andrà a copiare La rotazione Di questo cubo Solo lungo L'asse delle it's Se seleziono It's Blender Andrà a copiare La rotazione Di questo cubo Di questo piano Se seleziono It's Blender Andrà a copiare La rotazione Di questo piano Solo lungo L'asse delle it's Se seleziono Z Blender Andrà a copiare La rotazione Di questo piano Solo lungo L'asse delle z Se non seleziono Niente Il concept Non funziona Se seleziono Tutto Funziona Appieno Infine Non infine Inoltre Abbiamo Il sistema Invert che ci permette di invertire la rotazione del piano lungo uno di questi assi per esempio invertirla lungo l'asse delle X invertire la rotazione lungo l'asse delle Y o addirittura invertirla lungo l'asse delle Z infine vediamo che se adesso provo a ruotare manualmente questo piano non succede niente per il semplice motivo che Blender sovrascrive completamente la sua rotazione con i dati di rotazione di quest'altro piano questo comportamento è dovuto al fatto che in NITS abbiamo il Replace immaginiamo invece di inserire l'opzione Add adesso Blender prenderà la rotazione già esistente di questo piano e vi sommerà la rotazione che ha copiato perciò se io vado a ruotare il piano avanti il constant esso si ruota se vado a ruotare il piano target esso si ruota e trasmetterà la rotazione anche al piano con il target ho premuto Alt R per entrambi i piani per annullare le rotazioni poi possiamo sempre scegliere di considerare uno dei piani possiamo sempre scegliere il sistema di riferimento in cui considerare i piani per esempio inserendo Localspace e Localspace in entrambi Blender userà per orientarsi il sistema di riferimento locale faccio un esempio se adesso inseriscono entrambi il sistema di riferimento locale il constant ovviamente non funziona più perché quando vado a ruotare questo piano va a ruotare anche il sistema di riferimento che Blender utilizzerà per orientarsi esattamente assieme a quel piano è come se io quando utilizzo il sistema di riferimento locale andando a far ruotare questo piano vado a far ruotare assieme ad esso anche il sistema di riferimento e perci il rapporto tra la rotazione e il sistema di riferimento sarà sempre costante e perci il constant non può più funzionare World Space World Space ovviamente abbiamo sempre l'opzione dell'influenza ci permette di cambiare l'influenza del constant al tele per annullare e proseguiamo noi facciamo anche una breve esercitazione pratica lavorando su una porta con finestra in modo da consolidare le nostre conoscenze sul copy location e il copy rotation iniziamo inserendo un cubo valio in Elite Mode e premo GZ1 in questo modo la base del cubo concederà con il piano XY set origin origin to geometry e lo andiamo a scalare anche così manualmente set origin origin to 3D cursor in questo modo scalando lungo l'asse delle Z dato che il centro di rotazione si trova sul piano XY il cubo non sforerà mai sotto il piano XY quindi lo rendo un pochino più fino e così lo consideriamo un muro adesso aggiungo un altro cubo lo sposto lo scalo con il tasto S e poi qui applico un modificatore boolean e seleziono l'altro cubo che vado a inserire in Viewport Display come Bounce vedo che il modificatore non sembra funzionare cerchiamo di capire il perché cerchiamo di abilitare le opzioni selfie hold tolerant stranamente in questo caso il modificatore paradossalmente funziona meglio con l'algoritmo fast quando vedete che l'algoritmo exact fallisce paradossalmente provate ad inserire il fast mentre funziona e applichiamo il modificatore e cancelliamo questo anzi invece di cancellarlo lo duplichiamo premiamo GY Shift S Selection su 3D cursor adesso inserisco lo snap a link alle linee della griglia e faccio salire il mio cubo in questo modo concilierà perfettamente con il piano XY è sempre un cubo noi lo vediamo come griglia solo a causa delle opzioni Viewport Display quindi faccio salire un pochino questo oggetto inserisco un nuovo booleano e seleziono anche questo oggetto proviamo a vedere se con l'algoritmo fast funziona e in effetti funziona applichiamo e cancelliamo sia questo che questo oggetto di riferimento la mesh che abbiamo ottenuto è proprio quella che volevamo magari per avere un vestito più smussato posso selezionare questi spigoli sempre con Shift Click CTRL E inserisco un bel Edge Bevel Weight se non capite di chi stia parlando andate a rivedere la lezione 16 in questo modo se io inserisco un Bevel e il Limit Method scelgo Weight solo quegli spigoli andranno a subire l'influenza in Amount mettiamo qualcosa di più piccolo con molti più segmenti perché volevo solo un effetto leggero inserisco uno Shady Smooth ma anche un modificatore Edge Split che mi risolve questi e tutti i problemi provocati dallo Shady Smooth magari adesso applico il modificatore Bevel e abbiamo ottenuto questa nostra base che rinomino in Wall esposto in una nuova collezione che rinomino in House adesso facciamo sempre qualcosa di molto semplice andiamo ad inserire un semplicissimo cubo scaliamolo lungo l'asse delle hits e lungo l'asse delle z muoviamolo un poco i per il comando insert e i per estrudere questa sarà la base della nostra bella finestra adesso andiamo in Warframe Mode per vedere le cose un pochino più chiaramente duplichiamola e trasciniamo magari la inseriamo in questo modo ok poi non è proprio necessaria una precisione assoluta scalo anche un filì magari cremo anche S Y per rendere questa finestra un pochino più grande di questa S Y questa la rimpicciolisco se non fosse per le auto-intestazioni sarebbe un bel risultato ma non vi preoccupate inseriamo qui un paio di booleani tutte e due con le opzioni di union inserite e nel primo seleziono la prima finestra e nel secondo la seconda finestra adesso queste due finestre le vado entrambe ad inserire in Display As Bounce Display As Bounce le prendo entrambe quindi prendo entrambi i miei oggetti che sono usati per le finestre e le muovo in una nuova collezione che rinomino in Windows e che inserisco come sottocollezione di House adesso andando a spostare Cube 001 e Cube 002 posso andare a simulare l'effetto di apertura della finestra però per esempio ecco un bel trucco per avere un ottimo risultato andiamo a andiamo intanto ad inserire Set Origin to Geometry entrambi i miei oggetti per sicurezza e adesso vado a Cube 002 e inserisco un bel constraint di tipo Copy Location e seleziono lo posso fare anche dall'outliner Cube 001 e adesso ne faccio scendere l'influenza per esempio solo fino a questo livello adesso vorrei che se io spostassi questa finestra l'altra andasse dietro ma sfortunatamente l'influenza è troppo bassa e l'ho dovuta abbassare per fare in modo che se questa finestra è in questa posizione quest'altra resta al suo posto possiamo risolvere con i driver semplicemente io voglio che più sposto questa finestra lungo l'asso delle y più l'influenza del constraint cresca quindi per esempio in location y premo copy copy as new driver vado adesso all'altro oggetto anzi magari cioè scusate vado al mio constraint quindi sì all'altro oggetto e qui inserisco past driver se adesso cube 001 lo sposto lungo l'asso delle y vediamo se il driver funziona semplicemente qui inseriamo questa inseriamo clicchiamo su questi con cina per continuare sempre a vedere ecco vediamo che il driver non mi dare sottosferato cioè l'influenza non cresce vediamo edit driver per capire perché magari per essere più precisi qui inseriamo un transform challenge e inseriamo y location in questo modo adesso vediamo che se ho sposto questa finestra ancora non ho nessun risultato cerchiamo di capire il perché per il semplice motivo che la posizione di questa finestra nella posizione iniziale cioè questa beh si trova già in una posizione negativa e l'influenza va a copiare paro paro il valore di location di cube punto zero zero uno cioè un valore negativo è per questo che il mio dovrei spostare tantissimo questa finestra per far crescere l'influenza come posso risolvere semplicemente inserisco applico la location in modo da azzerare i valori di location in particolare faccio tornare all'origine a concedere col cursore tridimensionale tuttavia adesso questa finestra tende a non concedere più tuttavia se adesso l'influenza sale si ma il cube zero zero due tende a non concedere più con il centro di tende a non concedere più con il centro di cube zero zero uno ma ovviamente con il cursore 3d perché questa finestra per impostazione predefinita andrà a cercare di concedere con il pivot dell'oggetto target quindi qual è l'oggetto applicato il constant copy location è l'oggetto cube zero zero due che cercherà di andare a concedere con il pivot dell'oggetto target cioè la finestra la più piccola quindi andrà a concedere quando aumenti l'influenza con il cursore 3d come posso risolvere con i gruppi diversi vado a cube zero zero uno seleziono tutti i vertici creo un nuovo gruppo di vertici e lo rinomino all li assegno e adesso nel constraint vado a selezionare questo stesso gruppo di vertici riproviamo per l'ennesima volta quindi seleziono cube zero zero uno lo sposto e vedo che la finestra più grande gli va dietro cerchiamo di vedere meglio vedo che essenzialmente quando sposto la finestra più piccola la finestra più grande gli va dietro però alla fine esse ovviamente vanno a compenetrare l'una con le altre allora mi basta porle su due piani diversi quindi vado a cube zero zero cioè la finestra più grande e magari la sposto un pochino più indietro e la scalo lungo l'asse delle hits per far capire a blender che non voglio che le due finestre coincidano lungo l'asse delle hits in ex si vado a disattivare l'asse delle hits in questo modo il constraint non andrà ad influenzare la posizione delle finestre lungo l'asse delle hits e se adesso non le allineo non torneranno allineate a causa del constraint perché io faccio capire al constraint che lui non deve spostarmi le mie finestre lungo l'asse delle hits come faccio a farglielo capire disabilitando hits adesso vado a questa altra finestra e premo S hits anche per lei la scalo un bel po' e la trascino più avanti ok magari sono troppo poco complanare adesso bene proviamo così andiamo a cube 001 trasciniamola e vedo che è un buon risultato tuttavia magari per essere ancora più precisi in questo oggetto per fare in modo che l'edge split influisca sulle mesh aggiunte con i booleani l'edge split lo metto alla fine in questo modo andrà in altre parole considerato un modificatore tutti quelli considerato un modificatore su tutti gli oggetti aggiunti con modificatori successivi quel modificatore non andrà ad influire adesso io essenzialmente questo è il vantaggio posso prendere cube 001 e andandolo a spostare aumenterà l'influenza del copy location magari per poter modificare più velocemente tutto ciò vado al cube 001 quindi sì questo è il grande vantaggio semplicemente modificando la sua posizione lungo l'asse delle y adesso magari per poterla modificare più velocemente aggiungo una proprietà customizzata che vi nomino in apertura finestra con un valore minimo di 0 e un valore massimo di 5 dovrebbe andare abbastanza bene e premo ok adesso ho qui questo valore copy as new driver balacube 001 e lo incollo con past driver in location y adesso andando a modificare il valore apertura finestra vado a modificare la posizione lungo l'asse delle y della finestra più piccola che andrà ad aumentare attraverso i driver l'effetto del copy location constraint applicato alla finestra più grande e che perciò andrà a concedere con il gruppo di vertici all vertices andando a modificare con l'apertura finestra 0 la finestra è chiusa andandola ad aumentare sposto queste finestre mi rendo conto che se inserissi un valore superiore a 1.87 le finestre uscirebbero da quest'altra parte del muro quindi inserisco come valore massimo 1.87 come faccio? mi basta andare nel pannello transform e in edit inserisco come valore massimo 1.87 premo ok e adesso con 0 ho una finestra chiusa con 1.87 ho una finestra aperta e tutto questo grazie anche al constant copy location adesso la collezione window la rendo invisibile perché tanto la collezione window la posso anche rendere invisibile perché tanto quegli oggetti io li vedo solo come reticoli e sono stati integrati attraverso dei booleani nell'oggetto wall ecco essenzialmente il modo in cui possiamo applicare il modificatore copy location spero che avete eseguito bene nella spiegazione e che l'abbia trovata chiara adesso andiamo a creare una porta invece lavorando con il copy rotation andiamo a vedere come fare aggiungiamo un semplicissimo piano lo ruotiamo di 90 gradi lungo l'asse delle Y e lo portiamo fino a questa posizione adesso seleziono questo vertice inserisco gli snap alle linee della griglia e lo sposto in questo modo così sono sicuro che si trova esattamente che si trova esattamente a coincidere con una linea della griglia ma se voglio fare un lavoro migliore mi conviene selezionare questo spigolo e muovere appunto questo spigolo adesso prendo quest'altro spigolo più in basso e lo sposto anch'esso fino a coincidere sul piano fino a giocere sul piano XY molto bene adesso magari seleziono questo spigolo shift s cursor to selected e aggiungo un empty da usare come controller del mirror che rinomino infatti il mirror control del modificatore mirror infatti se io adesso inserisco un modificatore mirror usa come centro dello specchio il pivot ma basta che il mirror object io selezioni il mirror control e poi faccio capire a blender che voglio lavorare l'ombulasto delle Y silon e ho specchiato il mio oggetto magari prendo quei stamp che lo sposto poco 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 disattivando gli snap per creare un leggerissimo spazio queste sono le due ante della porta e tra di sé crea un leggero spazio applico il modificatore voglio separare le due ante e lo faccio andando in edit mode e premendo P scusate premendo P buy loose parts e così le singole parti le singole isole della mia mesh vengono separate le rinomino in anta1 e anta2 le prendo entrambe e le muovo e le muovo entrambe in una nuova collezione che rinomino door e magari la collezione doorlands come sotto collezione della collezione house adesso andiamo ad inserire qui set origin origin to 3d cursor in modo da inserire il in modo da inserire il pivot quindi il centro di rotazione sul lato destro della porta e faccio lo stesso anche per quest'altra mesh per quest'altra anta shift s cursor to selected con il lato destro selezionato set origin origin to 3d cursor adesso se ruoto le mie mi porte lungo l'asse delle z e si ruoteranno attorno al loro lato destro il che è essenzialmente quello che voglio tuttavia devono vuotare in un modo il più simile possibile e per farlo basta che inserisco il constraint copy rotation lo faccio lo faccio a quest'anta inserisco il copy rotation e scelgo l'anta 2 così facendo se ruoto l'anta 2 ruota anche l'anta 1 tuttavia non è esattamente il risultato che vorremmo vorremmo che l'anta 1 fosse collegata all'anta 2 allora per farlo ecco un bel trucchetto io le posso imparentare inserisco come oggetto inattivo l'anta 1 come oggetto attivo l'anta 2 e premo ctrl p object adesso ecco il trucchetto aha ecco qua l'anta 2 l'anta 1 va dietro l'anta 2 tuttavia la ruotazione dell'anta 2 viene totalmente viene totalmente passata alla ruotazione dell'anta 1 che così è ruotata esattamente allo stesso modo di anta 2 e non è questo che io voglio per risolvere basta che seleziono l'anta 1 vado al constraint e in mix mode inserisco l'opzione add inserisco l'opzione add magari prima di mettere add mi è sicuro di applicare la rotazione contro la rotation la mesh la mesh viene ruotata in questo modo ma per risolvere basta che vado in edit mode e premo ry 90 gradi facendolo dall'edit mode i valori di rotation che vedo nel pannello transform non cambiano perché in edit mode io cambio i valori dei vertici mentre il pannello transform è riferito ai valori dell'oggetto in questo modo la mia mesh mantiene i valori 0,0,0 ma la vedo in questa posizione ma comunque la vedo in questa posizione adesso torno al constraint in mix mode scelgo l'opzione add e se adesso vado a ruotare quest'anta l'altra anta si muove in un modo particolare perché quest'anta erediterà due volte la rotazione di quest'altra perché perché la erediterà sia a causa del legame di parentela che abbiamo creato quindi control p object sia a causa del copy rotation e così facendo l'anta 1 andrà dietro all'anta 2 in questo modo magari però si creano compenetrazioni con l'oggetto wall allora come posso fare mi basta intanto inseriamo un solidify che è duopo quindi inseriamo un solidify a entrambe le ante magari adesso clicco magari adesso scelgo anta 2 anta 1 l'unica anta avendo il constraint avendo il modificatore solidify la inserisco come oggetto attivo e adesso premo control l e lì e copy modifiers e così copy modificatori dall'oggetto attivo cioè l'anta 2 quella col solidify all'oggetto inattivo risultato niente male magari adesso qui in rotation blocco la rotazione lungo le assi x e y per fare proprio un lavoro a regola d'arte anzi ricordiamoci che qui blender considera ricordatevi che nel pannello transform blender ragiona con il sistema di riferimento locale e perciò se ragioniamo con il sistema di riferimento locale di quest'anta io vuoto io con questa operazione vuoto l'ungulasse delle hits e perciò qui devo bloccare y e z y e z perché perché qua mi riferisco al sistema di riferimento locale e con il sistema di riferimento locale l'asse dell'altezza tra virgolette sarebbe l'asse delle hits perciò se voglio poter ruotare solo lungo quest'asse devo disabilitare y e z per evitare le compenetrazioni di alcun genere tra l'oggetto wall e le porte semplicemente vado all'oggetto vado al mio muro inserisco altri due booleani dopo i quali trascino large split e nei due booleani seleziono con union l'anta 2 e l'anta 1 in questo modo adesso posso andare ad anta 2 e inserire come display as bounce e posso fare lo stesso in anta 1 andrei anche qui creare una proprietà customizzata dopo cioè vado a creare una nuova proprietà in fondo al pannello transform che rinomino in apertura porta apertura porta minimo 0 massimo 90 massimo 90 gradi di apertura copy as new driver vado al rotation hits che per blendere la rotazione lungo l'asse delle hits locale quindi l'asse delle z globale e premo past driver adesso modificando il valore di apertura porta modifico l'apertura della mia porta magari vorrei vorrei effettuare la rotazione nella direzione inversa perciò per comodità premo meno 90 e massimo 0 in questo modo così inserisco quei valori negativi e per essere ancora più precisi magari vedo che un'apertura in realtà vedo che un'apertura come questa blender me la identifico meno 1.44 di valore e quindi come minimo metto 1.44 in questo modo non posso creare aperture maggiori di questa che è già più che sufficiente ricordatevi ricordatevi che anche se meno 1.44 è l'apertura massima noi lo inseriamo come valore minimo perché è negativo adesso questo bellissimo valore di apertura porta che mi va a lavorare sull'apertura della mia stessa porta e questo essenzialmente è quello che ci interessava poi ovviamente potete fare effetti quanto più complessi voi vogliate questo era solo per farvi capire le potenzialità del copy location e il copy rotation adesso vado tutta la collezione door magari la rendo invisibile ma non ce ne importa poco perché va da rendere invisibile in realtà tutta la collezione house con shift s cursor to world origin riporto il cursor in questa posizione e adesso andiamo a vedere altri constraint interessanti per esempio inserisco questo cubo sistema di riferimento globale per favore inserisco questa sfera e andiamo a vedere il copy scale è sempre un constraint copy scale fa in modo che blender prenda un oggetto esterno magari l'oggetto cioè l'oggetto target e ne vada a prende un oggetto esterno e l'oggetto target e vada a copiarne la scala all'oggetto avendo il modificatore adesso l'oggetto target è la sfera per inutarlo meglio la rinomino proprio in target questo invece lo rinomino in owner che è il nome dell'oggetto che è una parola in inglese vuol dire proprio e sarebbe l'oggetto avendo il modificatore muovo tutta una nuova collezione che per esempio rinomino experiment per vedere meglio qual è il target e qual è l'owner possiamo addirittura andare in viewport display della sfera e abilitare l'opzione name adesso andare nel cubo e abilitare l'opzione name in questo modo accanto agli oggetti vedrò il loro nome e non c'è modo migliore per notare qual è il per notare quale oggetto è il target e qual è l'owner se adesso prendo il target a coerire magari applico uno shade smooth e lo scalo l'owner subirà la stessa sorte andiamo a vedere altre opzioni nel terreno di blender io per esempio posso anche scalare magari la mia sfera lungo un asse e il mio cubo continuerà a subire la stessa sorte posso addirittura lavorare con gli assi per esempio se abilito solo l'asse delle hits il cubo se abilito solo azzi hits il cubo verrà scalato come la sfera però solo lungo l'asse delle hits se abilito y il cubo verrà scalato come la sfera però solo lungo l'asse delle hits se abilito z il cubo verrà scalato come la sfera ma solo lungo l'asse delle z se li disabilito tutti il constraint non funziona più se li abilito tutti funziona pieno l'opzione power è una delle più interessanti è sicuramente una delle più interessanti all'interno di questo modificatore essenzialmente ci permette di decidere la forza non l'influenza proprio la forza della scalatura dell'oggetto runner se inserisco punto 5 il cubo verrà scalato la metà della sfera quindi se io la sfera la scalo di 7 punto 3 4 no quindi per esempio se premo s 4 per la sfera la sfera diventerà 4 volte più grande e il cubo solo 2 volte più grande in altre parole power sarebbe sarebbe essenzialmente la forza del modificatore se invece inserisco 2 il cubo crescerà 2 volte più velocemente in altre parole con power a 0 il cubo non cresce con power a 1 cresce esattamente come con la stessa velocità della sfera con power a 0 5 crescerà la metà della velocità della sfera invece con power a 2 crescerà due volte più velocemente della sfera eccetera 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 iniziamo power ad 1 esattando l'opzione del valore di default per farlo basta mettere il circunzione sopra e premere backspace è una scorciatoria all'interno di blender veramente poco conosciuta da non di quella che io trovo più utile infatti la utilizzo continuamente ogni volta che voglio premere reset to default value bene poi abbiamo le opzioni mac uniform se lo abilito blender farà in modo che la scala del mio cubo rimanga uniforme vi faccio vedere per esempio scala la mia sfera solo lungo l'asta delle z e blender scala il mio cubo su tutti gli assi però di meno in modo che la variazione del volume del cubo sia uguale alla variazione del volume della sfera ma che la scala del cubo resti uniforme vedete il cubo viene scalato lungo tutti gli assi per mantenersi uniforme però per fare in modo che la variazione di volume del cubo sia uguale alla variazione di volume della sfera blender lo scala di meno questo è quello che fa il make uniforme tuttavia questa è una cosa che sarebbe oggi adesso provo a scalare il mio cubo manualmente come nel tasto S non succede niente questo per il semplicissimo motivo che la sua scala viene totalmente sopra scritta dalla scala della sfera la scala del cubo ci serve da copy scale e non la posso cambiare manualmente da risetto con alt S per cambiare questo comportamento basta abilitare l'opzione offset adesso con offset se io scalo la mia sfera il cubo subirà la stessa sorte ma se io scalo il cubo la scala dettata dal constraint copy scale verrà moltiplicata per la scala che io do per la scala del mio cubo che vedo nei valori di scale verrà moltiplicata attenzione quindi la scala propria del mio cubo la scala che io gli dico con il valore con l'opzione S cioè scale è una cosa distinta dalla scala dettata dal copy scale se attivo se offset è disattivato conta solo la scala del copy scale se invece il offset è attivato la scala del copy scale viene moltiplicata per la scala dettata dal comando di scaling in altre parole calcolate che queste opzioni di scala non tengono conto di questo constraint allora se offset è disattivato queste opzioni di scala non hanno importanza contano solo ed esclusivamente i valori di scala dettati da copy scale invece se offset è abilitato i valori di scala che vedo qui che posso modificare col tasto S vengono moltiplicati e non sommati ai valori dettati dal copy scale posso cambiare questo comportamento abilitando l'opzione additive che invece di moltiplicare i valori li somma perciò con additive se io scalo il mio cubo alla scala propria del mio cubo cioè la scala che vengono le opzioni di scale ve la sommata la scala della mia sfera fate qualche prova ovviamente se offset è disattivato additive non ha senso e quindi anche additive è disabilitato bene proseguiamo ora l'opzione target e owner semplicemente se Blender deve tenere conto dei sistemi di riferimento locale o globale ovviamente se inserisca un sistema di riferimento locale il significato che avranno gli assi its y z sarà diverso perché con un sistema di riferimento locale Blender per asse delle its Blender utilizzerà un sistema di riferimento dove gli assi its y z sono altre fate anche voi qualche prova influence ovviamente è l'influence del constraint eliminiamo il constraint andiamo alla sfera e premiamo alte s per eliminare per risultare la scala e facciamoci una grande domanda esistenziale mettiamo che io voglio che il cubo copi sia la rotazione che la scala che la location della sfera dovrei inserire sia un add constraint sia un constraint copy location che un constraint copy rotation che un target che un scusate che un copy scale in questo modo prendendo la sfera il cubo ne copierà sia la location che la rotation che la scala senza rischio tutti e tre questi constraint tuttavia sono sicuro che siete d'accordo con me che è estremamente scono dover aggiungere tre constraints separati magari io vorrei che il mio cubo seguisse sia location che rotation sia scale della mia sfera con un unico constraint quindi mi piacerebbe avere un bel constraint che mi prende sia rotation che location che scale della sfera e me le trasferisca immediatamente al mio oggettone purtroppo un constraint come questo non esiste dobbiamo proporlo alla blender foundation sto scherzando certo che esiste è il constraint copy transforms come tutti gli altri constraint mi chiede di selezionare come tutti gli altri constraint visti finora mi chiede di selezionare un target solo che adesso il cubo prenderà sia posizione che rotazione che scala della mia sfera tutto con un unico constraint non solo ovviamente posso anche andare in edit mode ovviamente posso anche andare in edit mode o meglio ancora andiamo in in wait print mode andiamo ad attivare un bel gradiente e dipingiamo questo sulla nostra mesh questi dati vengono salvati come un nuovo gruppo di vertici che magari rinomino in gradient lo so una fantasia esterminata direi che poi la fantasia è una delle qualità più importanti per un CGI artist e se io adesso inserisco qui il vertex group gradient il cubo non coincidererà più con il pivot del target quanto con i vertici che vi ho selezionato e vi vediamo il gruppo di vertici che non ci interessa non lo inseriamo più andiamo a vedere quali altre opzioni abbiamo l'opzione replace prende tutti i dati del cubo tra location rotation e scale e li sostituisce senza pietà e vi sostituisce senza pietà i dati della sfera con B4O original succede una cosa un po' diversa con B4O original il cubo con B4O original blender applica al cubo le trasformazioni della sfera cioè location rotation e scale e dopo sopra di esse sopra di esse vi applica le trasformazioni del cubo quindi le trasformazioni originali di location rotation e scale facciamo una prova disabilitiamo momentaneamente il constraint per disabilitare un constraint basta rendere invisibile questo occhiolino spostiamo la sfera fino a queste posizioni spostiamo il cubo così ne lo ruotiamo anche un poco così come anche la sfera ho preso S invece che R per sbaglio adesso con replace non c'è niente da fare il cubo coincide con la sfera con B4O original blender prende le trasformazioni della sfera e sopra di esse vi applica quelle del cubo con after original blender prende le trasformazioni del cubo e sopra di esse prende le trasformazioni della sfera quindi vediamo cerchiamo di capire un pochino meglio come funziona con B4 original blender prende il cubo e vi applica le trasformazioni della sfera e poi sopra e poi dalla posizione iniziale blender riapplica le trasformazioni del cubo in B4 original con after original è il contrario blender prima applica le trasformazioni del cubo quindi le trasformazioni originarie e sopra vi inserisce le trasformazioni copiate dalla sfera infatti copy transform prende le trasformazioni della sfera e le copia le trasferisce al mio cubo a dire al vero le opzioni after original e B4 original esistevano anche per il copy rotation lo notiamo meglio riabilitando la collezione house torniamo all'esempio del copy rotation quindi in questo caso alla nostra alla nostra anta che era apribile molto semplicemente in questo modo prendendo apertura porta e facendo scendere il valore bene se adesso vado ad anta 1 che aveva questo constraint in next mode avevamo anche B4 original e after original dove con B4 original blender prendeva le trasformazioni dettate dal constraint quindi le trasformazioni che di anta 2 che dovevano essere trasferite ad anta 1 e sopra di esse vi applicava le trasformazioni di le trasformazioni originali quindi proprio le trasformazioni di anta 1 invece con after original faceva il contrario prima applicava le trasformazioni originali di anta 1 e poi sopra di esse vi inseriva quelle dettate dal constraint quindi andiamo a a capire meglio quando inseriamo i constraint ogni oggetto alle voci di location rotation e scale va ad avere due valori il P va ad avere due differenti valori il valore numero 1 è il valore originale cioè il valore che vediamo nella sidebar alle voci di location rotation e scale questi sono i valori originali e non tengono conto del constraint poi abbiamo valori dettati dai constraint che invece poi abbiamo i valori dettati dai constraint ogni volta che vedete la scritta replace l'oggetto andrà a avere le ogni volta che vedete la scritta replace l'oggetto andrà ad assumere le trasformazioni dettate dai constraint ignorando le trasformazioni originarie se vedete invece la scritta add le trasformazioni dettate dal constraint e le trasformazioni originarie quindi le trasformazioni del constraint che ignorano i valori originali e i valori originali che ignorano le trasformazioni del constraint questi due valori con add vengono sommati con after original con after original i valori del constraint vengono inseriti dopo i valori originali quindi blender prima va a conferire al mio oggetto le trasformazioni originali e dopo applica le trasformazioni detrate dal constraint infine con B4O originale invece c'è del contrario prima vengono inserite le trasformazioni del constraint e dopo vengono aggiunte le trasformazioni originali cioè le trasformazioni di location rotation e scale che ci sarebbero senza contare il constraint nel caso delle ante l'opzione che ha più senso è l'opzione add tuttavia magari se volete potete fare tranquillamente qualche prova magari volendo una cosa che ho notato a questo mu vediamo che le proprietà customizzate io le ho inserite direttamente alla porta e alle finestre le proprietà customizzate che regolano tutto ciò magari mi farebbe comodo poter regolare le proprietà apertura finestra apertura porta anche quando ho il wall selezionato quindi automaticamente creo due proprietà chiamate finestra e porta che vanno a regolare rispettivamente l'apertura della finestra e l'apertura della porta quindi questa mi deve andare a regolare quindi l'apertura dell'opzione finestra mi deve andare a regolare l'opzione finestra quindi copy as new driver vado alla mia alla mia finestra e faccio in modo che l'opzione finestra vada a regolare questa opzione qui e per farlo basta che premo past driver adesso se io torno al mio muro l'opzione finestra va a regolare l'opzione apertura finestra dell'oggetto dell'oggetto cube 001 anche qui insesso come valore minimo 0 e come valore massimo 1.87 e così anche selezionando tranquillamente il muro posso cambiare questi valori in porta faccio lo stesso per la porta copia as new driver vado ad anta 2 e inserisco past driver adesso torno al mio muro e anche qui inserisco come valore minimi e massimi meno 1.44 e come valore massimo 0 in questo modo le proprietà apertura finestra e porta li ho presenti nella mia sidebar anche se clicco anche se seleziono il mio muro perché fino a pochi secondi fa se io avevo le collezioni window e door disabilitate l'opzione finestra e porta non non le vedevo invece adesso queste due opzioni finestra e porta non le vedevo per poterle vedere dovevo per forza andare ad abilitare quelle collezioni e a selezionare gli oggetti relativi invece così posso vederle posso vedere queste opzioni come faccio a vederle semplicemente adesso queste due opzioni sono le variabili indipendenti sono tranquillamente le variabili indipendenti di un di un paio di driver che hanno come variabili dipendenti le opzioni apertura finestra apertura porte che avevamo assegnato agli oggetti delle collezioni window e door quindi alle altre proprietà customizzate che avevamo creato in questo modo quando io vado a selezione io vedo solo il mio muro all'interno di questa collezione ma se io vado ad aumentare il valore finestra la finestra si apre in modo anche molto realistico e invece con porta posso aprire la porta allora torniamo a nascondere la collezione house andiamo ad aggiungere magari un altro pari di oggetti per esempio un toro come questo e una scimietta che magari nel ruoto di 90 gradi vi applico la rotazione e magari adesso entrambi i miei oggettini applico un bellissimo modificatore subsurf di selezione entrambi faccio modo per la scimmia se l'oggetto attivo ctrl l copy modifiers copierà i modificatori dell'oggetto attivo cioè della mia scimietta all'oggetto inattivo cioè al mio toro bene adesso se torniamo momentaneamente nel pannello di constraint beh ci rendiamo subito conto che abbiamo compreso il primo insieme di constraint i constraint di tipo copy che ci copiano di dati da una mesh target e li trasportano ad un'altra mesh e invece l'opzione limit distance è estremamente interessante prendiamo l'opzione limit distance è interessante io lo applico al mio oggetto poi al mio oggetto target vado a selezionare un altro oggetto e adesso l'oggetto owner quindi il mio toro magari lo rinomino anche così owner torus torus e target susan adesso il mio toro non potrà allontanarsi dalla mia scimmia per una distanza maggiore a quella situata in distance mi spiego adesso è come se attorno alla mia scimmia fosse stata costruita una sfera che è come raggio la distanza in distance io non posso far uscire il toro da questa da questa sfera non posso far allontanare oltre il mio toro quindi per esempio se io diminuisco la distanza la distanza minima che ci deve essere tra il mio toro e la scimmia sarà minore se io aumento la distanza la distanza minima tra il mio toro e la mia scimmia sarà maggiore come vediamo il cubo è costretto il toro è costretto a mantenersi sempre a questa distanza non lo posso avvicinare cioè il toro è costretto a mantenersi sempre alla stessa distanza lo posso questa è la distanza minima lo posso avvicinare ma non allontanare lo posso rendere più vicino di questa distanza ma non lo posso rendere più lontano vedete la distanza per esempio è una distanza di 7 metri il mio toro rispetto alla scimmia potrà essere più vicino di 7 metri ma non potrà essere più lontano è come se ci fosse una sfera con raggio di 7 metri che come centro alla scimmia e il mio toro fosse costretto a muoversi all'interno della mia sfera posso avvicinare il mio toro rendendolo più vicino di 7 metri ma non lo posso allontanare rendendolo più distante di 7 metri tuttavia tutto ciò non si limita qui posso cambiare totalmente il comportamento per esempio se inserisco outside è il contrario queste diventano più la distanza minima ma la distanza massima che c'è tra il mio toro e la mia scimmia quindi posso rendere il toro più lontano ma non lo posso rendere più vicino se infatti metto outside io posso allontanare il mio toro oltre 7 metri ma non lo posso avvicinare oltre 7 metri se invece metto inside lo posso avvicinare oltre 7 metri ma non lo posso allontanare oltre 7 metri quindi con inside questa è la distanza massima che c'è tra i due oggetti con outside questa è la distanza minima tuttavia se io voglio che fosse la distanza costante mi basta inserire on surface con on surface è sia la distanza minima che la distanza massima cioè non posso né allontanare né avvicinare il mio toro è costretto a mantenersi sempre a questa distante sempre a questa costante sempre uguale dalla mia scimmia influence l'influenza del constraint e qui possiamo decidere se ben deve considerare la scimmia o il toro negli spazi globali o locali inoltre alcuni di voi magari saranno inclusiti da questa inseriamo l'opzione di default dove questa è la distanza massima quindi con inside questa è la distanza massima con outside questa è la distanza minima con on surface è la distanza costante alcuni magari saranno inclusiti dal fattore vicino alla distanza c'è una hits la hits è un po' magico se io lo vado a premere blender va a controllare qual è la distanza tra la scimmia e il toro quindi tra l'oggetto target e l'oggetto owner e questa distanza è imposta quindi se io inserisco la hits blender andrà a controllare la distanza che esiste tra questi due oggetti e quella distanza andrà ad utilizzare nel pannello di distance eliminiamo il constraint e semplicemente il facilissimo limit distance tuttavia io posso fare molto di più posso anche limitare ho reso invisibile il toro dei valori di location rotation e scale questi sono i constraint più utilizzati in assoluto constraint limit location adesso ci sembra che io all'oggetto a cui ho applicato la location questo è uno dei pochi constraints che non ci chiede un oggetto target ci sembra che io possa muovere la mia scimmia come mi pare non ci sono limiti e perché mi sembra che non ci siano limiti perché non ci sono limiti io non ho inserito nessun valore in minimum o in maximum proviamo a inserire qualche valore qui se abilito l'opzione minimum hits creo un valore minimo che deve avere l'opzione di location hits quindi se inserisco minimum hits con un valore di 0 e il mio oggetto lungo l'asse delle hits non può avere un valore di location minore di 0 metri quindi lo posso spostare in avanti lungo l'asse delle hits ma non indietro non può andare più indietro rispetto all'asse delle hits oltre alla coordinata 0 tuttavia lungo le altre assi lo posso muovere ancora costantemente posso cambiare questo comportamento magari andando abilitare minimum y in questo modo inserisco un valore minimo anche lungo l'asse delle hits per esempio con minimum y a 0 il mio cubo non può andare più indietro oltre la posizione 0 lungo l'asse delle hits quindi lo posso spostare lungo l'asse delle hits in questa direzione facendo aumentare la sua posizione lungo l'asse delle hits ma non lo posso spostare più indietro io sto provando sto trascinando verso sinistra ma non succede niente questo perché ho detto che la mia scimmia non può andare più indietro lungo l'asse delle hits oltre le coordinate 0 premiamo alt g per azzerare tutto e vedo che io posso spostare la mia scimmia lungo l'asse delle hits posso spostare la mia scimmia lungo l'asse delle hits ma lungo nessuna di queste due assi può mangiarsi più indietro rispetto a un valore di 0 metri ovviamente se inserisco un minimum z adesso la mia scimmia può un minimum z a 0 può spostarsi lungo l'asse delle z solo se il suo valore di location z è maggiore di 0 quindi non posso mandarlo sotto il piano hits y perché se la mandassi sotto il piano y e il suo valore di location 0 di location z sarebbe inferiore a 0 con questi valori ci posso anche giocare per esempio se inserisco a 10 metri la mia scimmia lungo l'asse delle z non può trovarsi più in basso oltre 10 metri posso spostarla in basso ma non la posso mai inserire più in basso rispetto ai 10 metri non posso mai spostare la mia scimmia in modo che stavi più in basso rispetto ai 10 metri alt g per azzerare i valori di location quindi cerchiamo di capire meglio questi minimum ips è collegato al valore di location x minimum y è collegato al valore di location y minimum 0 è collegato al valore di location z z minimum z è collegato al valore di location z i valori di location y e z non possono mai assumere valori inferiori ai valori di minimum x y e z tuttavia così facendo i cons interagiscono in direzione monodirezionale io posso spostare la mia scimmietta come meglio voglio a patto che i valori di location x y z non scendano mai sotto i valori minimi per esempio il minimum x inserisco 5 metri e la scimmia lungo l'aste delle x non può mai andare più indietro oltre 5 metri minimum y metto 8 metri e lungo l'aste delle y la scimmia non può mai andare più indietro oltre gli 8 metri minimum z metto 5 e la scimmia non può mai andare lungo l'aste delle z più in basso dei 5 metri premo alt g per azzerare valori di location e disabilito minimum x y e z ricordatevi che io in questo modo vado a editare la location effettiva della mia scimmia ma non la sua location a livello di valori nel properties cioè se inserisco minimum x y e z la scimmia non può mai andare lungo nessuno di questi assi più indietro oltre il valore 0 tuttavia se io provo a farla andare oltre il valore 0 l'opzione di location relativa assume un valore negativo anche se la mia scimmietta non si sposta più vedete io provo a trascinare la scimmietta non si sposta ma qui il valore negativo lo vado ad ottenere perciò se io adesso voglio spostare la mia scimmia in avanti devo spingere in avanti finché il valore di location non torna positivo e poi la posso spostare come meglio io voglio perché noi abbiamo detto che per esempio minimum hits impedisce il valore di location hits di diventare inferiore a questa soglia in realtà il valore di location hits può diventare inferiore a quella soglia ma se diventa inferiore a quella soglia quello che vedo nella viewport è uguale spicciato a quello che vedrei se fosse uguale a quella soglia vedete io provo a spostare oltre la mia scimmia e però non io provo a spostare la mia scimmia oltre la posizione di location z 0 in questo modo location hits uguale a 0 però adesso se io provo a spostare oltre la mia scimmia la mia scimmia non si muove perché ha raggiunto la sua posizione minima tuttavia blender pensa che si sia mossa perché ha cambiato i valori in avanti finché il valore di location hits non torna positivo e poi tirando avanti la scimmia si sposta quando vedete che il valore di location diventa inferiore alla soglia ma la scimmia si trova nella stessa posizione in cui si troverebbe coincidendo con la soglia quello che vi conviene andare a correggere manualmente il valore lo metto a 0 manualmente cioè il valore di io continuo a trascinare il trascinamento non mi dà effetto visivo però il valore di location hits continua a cambiare anche se la scimmia non si sposta quindi se io adesso provo a trascinare ancora di più la scimmia posso cambiare il valore di location però nel tentativo di cambiarlo io posso cambiare il valore di location ci posso riuscire benissimo però la scimmia non cambia assieme adesso quindi se il pivot della scimmia ragiona raggiunge il valore di soglia per esempio lungo l'asse delle z delle hits il valore di 0 e io continuo a trascinare indietro il valore di location cambia cioè continuano ad abbassarsi va sotto la soglia ma a causa del constraint questo andare sotto la soglia non provoca niente nessun cambiamento valore è sotto la soglia ma che è come se fosse alla soglia stessa andate manualmente a questo valore e risettatelo fino all'opzione di soglia per esempio se minimum hits fosse di 5 metri blender automaticamente mi sposterebbe la scimmia in modo che non si trovasse più indietro di 5 metri usando questo trucchetto però location hits resta comunque a 0 perciò la scimmia visivamente si trova alle coordinate della hits della posizione 5 però blender location la considera nella posizione di 0 metri quindi c'è una discordanza per andare a correggere basta andare al valore location e cambiarlo in modo che sia uguale al valore di soglia relativo per esempio 5 metri e in questo modo lo posso spostare come preferisco premo alt g per esitare tutti questi valori ed elimino e magari lascio le soglie a 0 metri come molti di voi avranno intuito posso fare se minimum non permette alla mia scimmia di muoversi prima di questi valori maximum non gli permette di muoversi dopo questi valori se sia maximum che minimum sono a 0 è come se la mia scimmia è bloccata non si può muovere per il semplice motivo ho restato la location che sia la posizione minima acquistava e quella massima sono di 0 adesso inseriamo la posizione minima meno 10 copriamo questo valore a tutte le altre opzioni minime e nell'opzione massima inseriamo più 10 e copriamo ciò a tutti i valori di maximum adesso la mia scimmia lungo un asse non può mai andare prima della posizione meno 10 la posso spostare indietro ma non può mai trovarsi più indietro della posizione meno 10 e infatti ad un certo punto la mia scimmia si blocca non la posso più spostare indietro tuttavia il valore location pensa che io l'abbia spostata indietro e per risolvere basta riportarlo al valore di soglia questo va lungo tutti gli assi lo posso spostare indietro lungo un asse rispetto all'opzione di 10 metri perché meno 10 metri è il valore minimo lo stesso lungo la sedele z non può andare più in basso oltre 10 metri se usci provo non può andare più in basso se usci provo mi basta andare in location z e risettare mettendo il valore di soglia in modo che questi valori rispecchino veramente la posizione della scimmia tuttavia adesso abbiamo anche un valore massimo quindi adesso non c'è più solo una posizione prima della quale la scimmia non può andare ma c'è anche una posizione massima oltre la quale la scimmia non può andare per esempio io non posso mandarla più avanti oltre 10 metri io non posso mandarla più in alto oltre 10 metri non posso muoverla lungo l'asse delle y oltre 10 metri quindi non posso muoverla oltre 10 metri né prima della posizione meno 10 metri vedete la scimmia è bloccata lungo tutti gli assi io non la posso muovere più indietro fino alla posizione meno 10 né fino alla posizione non la posso spostare più indietro di 10 metri né più avanti 10 metri la scimmia si blocca alt g per esaltare location rotation scale in altre parole la posizione minima e massima lungo ognuno di questi assi poi possiamo sempre andare a scegliere se blend deve considerare lo spazio globale o lo spazio locale e andare a cambiare l'influenza del constraint spero che la spiegazione vi sia risultata il più chiaro possibile se avete capito bene limit location sicuramente non vi non faticerete a comprendere il limit rotation che è un'interfaccia un pochino diversa ma anche questa molto buona magari questa addirittura è un pochino più intuitiva se inserisco il limit hits vado a limitare la rotazione lungo la stella e le hits posso inserire un valore minimo e un valore massimo per esempio meno 180 il minimo e più 180 al valore massimo così facendo non posso ruotare la scimmia per più di meno 180 gradi se ci provo si blocca magari questi valori sono esplementari perciò se provo a ruotare di meno di meno 181 gradi è come se la ruotassi di più 179 gradi e quindi la posso ruotare come voglio per esempio per esempio meno 90 e più 90 vi consiglio di inserire sempre valori sperimentali ecco con meno 90 e più 90 non meno 90 e più 90 non posso ruotare la scimmia più indietro di 90 gradi vedete se provo a ruotare la scimmia in senso anti-orario per più di 90 gradi la scimmia si blocca ma lo stesso anche se provo a ruotare in senso orario per più di 90 gradi la scimmia si blocca quindi non posso ruotarla per più di 90 gradi né per meno di 90 gradi lungo l'asse delle hits invece lungo le altre asse sono ancora libero quindi essenzialmente questo mi va a limitare la posizione lungo l'asse delle hits la ruotazione lungo l'asse delle hits non la posso ruotare per più di 90 gradi né per meno di 90 gradi se qui inserisco per esempio meno 45 gradi la ruotazione più bassa possibile non è la ruotazione più bassa possibile è solo di 45 gradi mentre la ruotazione più alta possibile è di 90 vedete non posso ruotarla per meno di 45 gradi o non la posso ruotare per più di 90 gradi dopodiché la scimmia si blocca quindi lo limit hits e y a livello di ruotazione se disattivo limit hits non c'è più nessun limite alla rotazione lungo la stella hits proviamo con limit y l'opzione minima ci permette di decidere qual è il valore di rotazione più basso che la scimmia può assumere se inserisco meno 20 la scimmia non può ruotare all'indietro per più di 20 gradi la scimmia non può ruotare all'indietro per più di 20 gradi ho anche un'opzione di location massima se inserisco per esempio 45 gradi la scimmia non può ruotare nemmeno in avanti per più di 45 gradi quindi per esempio non può ruotare all'indietro per più di 20 gradi a causa dell'opzione minima e a causa dell'opzione massima non può ruotare in avanti per più di 45 gradi in altre parole limit y l'opzione minima quanto qual è la massima rotazione in altre parole la rotazione il valore minimo e il valore massimo che può assumere il valore di rotation y valore minimo e massimo che può assumere il valore di rotation x e lo stesso vale ovviamente per rotation z se lo abilito ho anche un valore di rotazione minima e massima lungo la stella lezzetta per esempio se inserisco come location minima meno 45 gradi io lungo la stella lezzetta non posso ruotare la mia scimmia indietro per più di 45 gradi se invece in location massima ovviamente posso scegliere una location oltre la quale non la posso ruotare per esempio con 30 gradi non posso ruotare in avanti la mia scimmia per più di 30 gradi grazie all'opzione max e invece con minimo grazie all'opzione min non posso ruotare la mia scimmia indietro per più di 45 gradi e questo è il limit rotation eliminiamo il constraint altere per annullare le rotazioni e a questo punto ci solge abbastanza ovvio il limit scale che è paro paro molto simile al limit location se ha built un minimum hits cioè c'è una scala minima lungo l'asse delle hits se per esempio la inserito a punto 5 e scalo lungo l'asse delle hits non posso far diventare la mia scimmia più piccola non posso scalare la mia scimmia fino a un valore di scala lungo l'asse delle hits minore di punto 5 con minimum y non posso far diventare la mia scimmia più piccola lungo l'asse delle hits cioè non posso attribuire lungo l'asse delle hits alla mia scimmia un valore di scala minore del valore minimo per esempio se inserisco a punto 75 io lungo l'asse delle hits non posso dare alla mia scimmia un valore di scala minore di punto 75 z magari il minimum z metto punto 9 e non posso scalare e non posso attribuire alla mia scimmia un valore di scala lungo l'asse delle z minore di punto 9 in parole povere con minimum hits io posso attribuire alla mia scimmia un valore di scala lungo l'asse delle hits sotto il quale non può andare con minimum y posso attribuire alla mia scimmia un valore di scala lungo l'asse delle hits sotto il quale non può andare con minimo un z posso attribuire un valore di scala lungo l'asso delle z alla mia scimmia sotto il quale non può andare massimo mix y e z è un pochino la stessa cosa massimo mix il valore di scala massimo della mia scimmia lungo l'asso delle hits con 0 la mia scimmia lungo l'asso delle hits è per forza piatta magari inserisco 4 e lungo l'asso delle hits non posso attribuire alla mia scimmia un valore di scala superiore a 4 se ci provo la mia scimmia si blocca non riesco più a scalarla contro z minimo y un valore di scala lungo l'asso delle hits non sopra il quale la mia scimmia non può andare non posso scalare a lungo l'asso delle hits non per più di per un valore dandogli un valore lungo l'asso delle hits non di scala maggiore di 1.5 massimo z un valore massimo di scala lungo l'asso delle z se inserisco per esempio 2 non posso scalare la mia scimmia lungo l'asso delle z fino a un valore superiore a 2 continuo a non poterla scalare per un valore inferiore a punto 9 allora al test per azzerare la scala e andiamo a capire meglio le opzioni di limit location rotation e scale limit location ci mette a disposizione dei valori minimi di location lungo tutti gli assi e lungo nessuno e lungo c'è disposizione dei valori minimi di posizione lungo ciascun asse e la scimmia non può avere valori di location inferiori a questi valori minimi quindi non può andare più indietro rispetto una certa soglia lungo ciascun asse con massimo mix in massimo mix y e z lungo ciascun asse posso attribuire una certa soglia un certo valore sopra il quale i valori di location non possono andare perciò posso dare un valore minimo e massimo per i valori di location di ciascun asse con limit rotation posso dare un valore minimo e massimo per i valori di votazione del mio oggetto lungo ciascun asse e con limit scale posso attribuire valori di valori minimi e massimi di location per la scala lungo ciascun asse e questi essenzialmente sono i limit location rotation e scale così adesso ci mancano lungo in questa colonna che è magari la più lunga e anche quella un pochino più complessa perché le altre colonne sono molto più veloce le vede in un poco la l'opzione transformation e transform case iniziamo con transformation eh no scusate ci manca prima maintain volume come funziona il maintain volume semplicemente il maintain volume quando io vado a scalare la mia scimmia va a quando vado a scalare la mia scimmia il maintain volume va a risettare i valori di scala in modo da mantenere il volume della mia scimmia quindi è particolarmente utile quando non vuoi quando per esempio lavoro con un fluido e non voglio che la quantità di volume finale venga alterata ora per esempio se io scalo la mia scimmia lungo l'asse delle z blender la va a riallargare lungo l'asse delle y per mantenere il volume primo contro z per annullare se io scalo la mia scimmia lungo l'asse delle z rendendo la più piccola blender la va allungare lungo l'asse delle y per aumentare il volume anche se la scala lungo l'asse delle hits blender la va a scalare lungo gli altri assi per aumentare il volume in altre parole se io scalo la mia scimmia lungo un asse blender andrà ad aumentare le dimensioni lungo gli altri assi quindi ricapitoliamo se io prendo se io scalo la mia scimmia lungo un determinato asse blender andrà a se io scalo la mia scimmia lungo un determinato asse blender andrà a cambiare i valori di scala lungo gli altri due assi per andare a compensare il lo scaling in modo da evitare perdite o acquisizione di volumi tuttavia non è così semplice perché nel constant abbiamo alcune opzioni perciò ricapitolando quando ho visto finora se io scalo il mio oggetto su una determinata asse questo constant lo scalo lo va ridimensionare sugli altri due assi per darmi un risultato per darmi un risultato che sia uniforme dal punto di vista volumetrico ma facciamo un piccolo ragionamento se io scalassi invece che sono un singolo asse la mia scimmia su tutti gli assi quindi se premessi direttamente il pulsante s beh chiediamoci un attimo se io premessi s e basta scalassi e basta lungo quale asse blender andrebbe ridimensionarmi la scimmia per mantenere il volume cioè se io scalo la mia scimmia lungo l'asse delle hits blender prenderà le altre due assi e lungo quelle due assi andrà a ridimensionarla per mantenere il volume quindi se io scalo lungo una determinata asse blender andrà a ridimensionarlo sugli altri due per mantenere il volume quindi its y non z ma la grande domanda è se io lo scalo e basta quindi premo s e lo scalo in modo uniforme lungo se lo scalo proprio basta in modo uniforme su tutti gli assi lungo blender non può non fare niente perché il volume altrimenti aumenterebbe quindi se io scalo il mio oggetto lungo tutti gli assi blender deve scegliere un asse e ridimensionare ulteriormente la mia scimmia solo lungo quell'asse e in questo modo manterrà il volume ma qual è l'asse lungo il quale lui lo andrà a ridimensionare se effetto una scala uniforme è l'asse libero in questo caso è l'asse delle y se io scalo la mia scimmia in modo uniforme quindi premo s senza specificare un asse lungo il quale scalarlo blender andrà a ridimensionare il constraint andrà a ridimensionare la mia scimmia lungo l'asse delle y per andare a ridimensionare la mia scimmia lungo l'asse delle y per potermi garantire il mantenimento del volume perché lungo l'asse delle y perché y è l'asse libero se io inserissi free cioè se io in free axis quindi l'asse libero scegliessi hits blender andrebbe a scalare se io premo s e basta solo per mantenere il volume lungo l'asse delle hits se invece premessi z blender sempre solo per mantenere il volume mi scalerebbe la mia scimmietta lungo l'asse delle z se io faccio una scala uniforme quindi se premo s e basta se invece io dopo aver premuto s premo x y o z per specificare a blender lungo quale asse scalare blender andrà ad ignorare free axis e andrà a ridimensionare lungo le altre due assi quindi scala uniforme con s blender va a ridimensionare la mia scimmia solo lungo l'asse libero per mantenere il volume scala lungo un asse particolare blender andrà a ridimensionare lungo gli altri due assi per mantenere il volume ora quindi sia che io faccia una scala uniforme premendo s che una scala lungo un determinato asse il constraint funziona comunque è questo che sto cercando di dirvi sì e questo comportamento è dovuto al fatto che in mood abbiamo inserito strict se invece di street inserisco uniforme il constant può funzionare solo se premiamo s senza scegliere nessun asse quindi se io premo s scalo e blender mi vario dimensionare lungo l'asse libero il mio lavoro funziona se invece per esempio s z per scalare lungo un l'asse live il singolo asse il mio singolo asse il mio collo non funziona più perché quella modalità di uniform blender andrà a legna farà funzionare il constraint solo e solo se premo s e basta e non premo per esempio s x per scalare lungo l'asse del reit s y per scalare lungo l'asse del reit si non è forse la più semplice l'opzione single axis funziona solo cioè l'opzione single axis ha effetto solo se io scalo il mio oggetto lungo l'asse libero qualsiasi ulteriore ridimensionamento non ha effetto quindi qual è l'asse libero? in questo caso è l'asse delle y, bene se scalo lungo l'asse delle z il constant non funziona, se scalo lungo l'asse delle x il constant non funziona se scalo lungo l'asse delle y cioè l'asse libero il constant funziona in regola d'arte ovviamente se io scalo la mia intera mesh quindi faccio una scala uniforme premo s e utilizzo premo s e scalo su tutti gli assi quindi s e scalo quindi un ridimensionamento uniforme ovviamente il constant funziona perché scalo su tutti gli assi compreso l'asse delle y c'è una scala uniforme quindi ci sembra che il singolazio sia sempre importantissimo in realtà anche per l'opzione uniforme non il singolazio scusate ci sembra quindi che il free axis l'asse libero sia sempre importantissimo e diciamo che in effetti ha delle caratteri che in effetti ci interessano anche nell'algoritmo uniform perché l'algoritmo uniform ha anche una caratteristica nascosta è vero che se scalo lungo un singolo determinato assi non funziona devo scalare su tutti gli assi per ottenere effetto però c'è un'altra piccola cosa da sapere sull'algoritmo uniform dovete sapere che l'asse libero è qualcosa di molto più influente rispetto a una singola opzione da conoscere quando andiamo ad utilizzare la scalatura uniforme infatti se io ho selezionato l'opzione uniforme noi sappiamo che se io scalo tutta la mia mesh il constant funziona ma se io vado a scalare lungo una singola asse il mio constant non funziona più quindi scalo lungo l'asse delle z o delle hits e il mio constant non funziona più perché con gli uniform funziona solo se io scalo lungo tutti gli assi oppure se l'asse su cui scalo è l'asse libero perché se il singolo asse lungo il quale vado a scalare è quello libero anche se gli uniform dovrebbe funzionare solo e solo se io scalo su tutti gli assi beh se io scalo su un singolo asse l'algoritmo uniform non funziona a meno che quell'asse non sia l'asse libero molto bene questo è il constant mountain volume nascondo tutto magari inserisco un paio di oggetti un cubo e una sfera ho aggiunto per sbaglio una ecosfera cubo e uv sphere adesso magari con questa piccola sfera la sposto un subsurf gli fa dir poco benissimo quindi vado nel pannello dei modificatori aggiungo un paio di suddivisioni e ho l'agoniato risultato uno shade smooth male non fa mai adesso andiamo a vedere il constant transform il constant transformation che in effetti è un po' la somma dei copy location rotation scale transformation e limit location rotation scale quindi transformation è il constant definitivo adesso magari andiamo a spostare la mia sfera fino a questa posizione e il transformation ci permette di prendere la posizione la rotazione o la scala di un altro oggetto e di utilizzarla per controllare la posizione la rotazione o la scala di un altro oggetto dell'oggetto a cui applico il constant per farlo andiamo per esempio a selezionare questa mia sfera adesso la mia sfera che è l'oggetto target magari lo rinomino proprio in target 3 anzi va bene anche solo target andiamo a controllare il mio oggetto owner andiamo a cercare di capire come funziona io in map from posso decidere una proprietà della sfera che andrà ad influire su determinate proprietà del mio cubo andiamo adesso magari a capire un pochino meglio il come allora diciamo che io qui in map from posso scegliere quale proprietà della sfera andrà ad influire sul mio cubo quindi se la sua posizione la sua rotazione o la sua scala in tutte queste opzioni Blender va a prendere la posizione la rotazione nella scala non secche così come sono ma con dei limiti quindi lui va a prendere i valori di location rotation e scale però li fa rientrare sempre all'interno di alcuni limiti che voi inserite quindi voi potete scegliere i valori di min e max y min e max e z min e max per location rotation e scale detto in parole povere se la mia sfera io detto in parole povere io posso dire che Blender deve prendere i dati di posizione rotazione e scala della mia sfera però entro un certo limite dato che tutti i limiti sono di zero Blender prende per la mia sfera valori di location rotation e scale di zero per identificare meglio la rotation di una sfera abilitiamo l'opzione wireframe mi spiego Blender prende valori di location rotation e scale della mia sfera entro un rango che è minimo di zero e massimo di zero perciò effettivamente Blender non va a prendere nessun valore per rimediare basta che aumento il valore massimo per esempio lo metto a 5 metri per ognuna di queste opzioni adesso Blender andrà a prendere la posizione e la rotazione della mia sfera entro un rango che va dai zero ai 5 metri quindi se la mia sfera lungo un asse è spostata di 18 metri Blender questo valore non lo andrà a tenere in considerazione per esempio in questo caso non va a prendere in considerazione la posizione lungo l'asse delle hits perché è maggiore del valore massimo cioè di 5 metri tuttavia la questione non finisce qui perché posso andare a prendere anche magari la sua rotazione anche la rotazione Blender non la prende se non rientra in un rango minimo e massimo quindi se il mio oggetto è ruotato se il valore di rotazione del mio oggetto è minore del valore minimo o maggiore del valore massimo Blender non andrà ad ignorare inserisco i valori di meno 180 e più 180 in its mean e its mass cioè nei valori minimi e massimi in questo modo Blender andrà a considerare tutte le rotazioni se per esempio in its mass avessi messo 20 gradi la mia sfera lungo la per esempio votavo la mia sfera in questo modo per esempio con il valore lungo l'asse dell'elite di 40 gradi la rotazione lungo l'asse dell'elite della sfera non sarebbe rientrata nell'angolo nel tre valori minimo e massimo e perciò Blender non l'avrebbe tenuta in considerazione inseriamo 100 di nuovo 180 gradi in modo che Blender tenga in considerazione tutti i valori di rotazione se invece inserisco scale anche con la scala Blender va a prendere in considerazione solo se comprese tre valori di its mean e its mass per considerare tutte le scalature della mia sfera inserisco tutti gli its mean a 0 e magari gli its mass a 4 adesso se io scalo la mia sfera in questo modo adesso i valori di scaling della mia sfera sono tutti al di fuori del al di fuori del range tra minimo e massimo quindi non sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo che ho inserito qui vedete perché i valori di scala della mia sfera sono 5.528 e quindi sono al di fuori che quindi non rientrano nei valori minimi e massimi e quindi Blender i valori di scala della mia sfera che vanno al di fuori di questo range non li andrà a considerare inserisco 1 lungo tutti gli assi e andiamo a vedere come possiamo usare questi dati andiamo un po' a location e vediamo che Blender andrà a prendere i valori della sfera quindi la sua location la sua rotation o la sua scala e li andrà ad applicare al mio cubo con un'influenza lungo ciascun asse che potete decidere con le opzioni minima e massima per esempio questo constraint lungo l'asse delle hits potrà spostare il mio cubo lungo l'asse delle hits per una posizione che non va più indietro di 0 metri e non va più avanti di 0 metri perciò il cubo lungo l'asse delle hits starà fermo per risolvere basta che in mass inserisco 5 e la consenta a Blender di spostare il mio cubo adesso cosa succede essenzialmente Blender fa qualcosa di molto interessante prende la mia sfera prende i valori di location della mia sfera perché valori di location perché qui ho scelto location e li va a trasferire al mio cubo se un valore della sfera va oltre se io adesso prendo la mia sfera lungo l'asse delle z la alzo per più di 5 metri quindi il valore massimo di spostamento lungo l'asse delle z quindi vedete che se io alzando la posizione della sfera posso andare a modificare la posizione del cubo perché Blender prenderà i valori di location della sfera e li trasferirà al mio cubo però se io sposto la mia sfera oltre il range consentito quindi oltre i 5 metri non volassero delle z il constant smette di funzionare vedete io alzo la mia sfera il cubo va con essa però a un certo punto il constant non funziona più perché? perché la sfera è uscita dal range consentito sta sopra i 5 metri di location z e perciò si trova al di fuori della quindi si trova oltre il valore massimo e perciò io alzando la mia sfera cambio la posizione del cubo ma non all'infinito c'è un limite e questo potrebbe non essere ciò che vogliamo per risolvere basta che qui abilito l'opzione extrapolate che dice a Blender essenzialmente di fregarsene dei valori minimo e massimo e di prendere tranquillamente i valori di location che gli servono per esempio anche lungo l'asse delle hits la mia sfera lungo l'asse delle hits si trova la posizione meno 6.138.1 perciò al di fuori del range al di fuori del range tra minimo e massimo che ha come valore minimo 0 e questa sfera si trova a meno 6.1 quindi sotto il valore minimo e perciò lungo l'asse delle z il constant non può funzionare insomma un sacco di fastidi dati da questi valori minimo e massimo per risolvere basta che applico l'extrapolate e adesso funzionerà tutto più tranquillamente adesso posso prendere la mia sfera e muoverla come voglio basta che prendo la mia sfera e la sposto perchè prelander prende i valori di location della sfera e li trasferisce ai valori di rotation del mio cubo ai valori di location del mio cubo scusate tuttavia potremmo fare qualcosa di ancora più avanzato potremmo fare qualcosa di ancora ancora più avanzato per esempio potremmo prendere quindi basta attivare extrapolate e risolvete un sacco di problemi fastidiosi per esempio se io attivo rotation e qui tengo location blender andrà a gestire la posizione del cubo in base alla rotazione della sfera perciò in questo modo blender andrà a prendere quali dati della sfera la sua rotazione e li userà per controllare quale proprietà del cubo la sua posizione adesso non più spostando ma ruotando la sfera io posso andare a cambiare la posizione del mio cubo e questo è il bello del transform posso prendere un valore di rotation e utilizzarlo per controllare una location oppure della sfera posso anche prendere il valore di scaling in questo adesso scalando la mia sfera lungo un asse vado a cambiare le coordinate del cubo nello spazio ovviamente tutto ciò può funzionare anche in modo completamente diverso posso anche prendersi la location della mia sfera ma utilizzare ma utilizzarla per controllare non la location del cubo ma per esempio la sua rotazione adesso la posizione della sfera andrà ad influenzare la rotazione del mio cubo vedo che il cubo non si ruota perché ricordatevi sempre di controllare i valori minimo e massimo infatti qui io ho inserito essenzialmente quanto io quanto possono essere grandi dati che consento a blender di utilizzare per di utilizzare quanto possono essere grandi i valori della mia sfera per utilizzare all'interno del constraint mi spiego se io utilizzo la scala della mia sfera per controllare la location del mio cubo e disabilito un attimo l'opzione extrapolate se la scala diventa più grande se la scala esce dal range definito con i valori minimo e massimo quindi la scala adesso si trova all'interno del range definito con minimo e massimo si perché il valore minimo è 0 il valore massimo della scala è 4 quindi adesso la mia scala va a influire sul mio cubo ma appena la scala supera il valore di 4 appena la scala supera il valore di 4 lo screen supera il valore di 4 smette di andare ad influire sulla location del mio del mio cubo perché smette di essere smette di influire sulla location del mio cubo perché essenzialmente smette di essere un valore all'interno del range considerato quindi mi vado a spiegare un pochino meglio 1 e lo copio mi vado a spiegare un pochino meglio perché capisco che questo constant può essere veramente pesante però è un'utilità strepitosa quindi lo dovete capire bene con map from ne possiamo scegliere quale proprietà dell'ogget target vogliamo andare a considerare solo che per esempio la location la rotation o la scala solo che blender deve sempre complicare tutto ci deve sempre creare dei problemi perciò dato che un programmino se dato che un bel constraint bello semplice la blender foundation non ce lo poteva dare doveva per forza inserirci una marea di opzioni complicatissime ovviamente noi adesso abbiamo le opzioni di minimo e massimo per la location rotation e la scala lungo ciascun asse questi sono sempre i valori del target che blender va a prendere quindi questi sono i valori della sfera blender con map from noi possiamo scegliere quali valori della sfera blender deve andare a considerare solo che per esempio la sua posizione la sua rotazione o la sua scala se i valori di quindi per esempio con location blender andrà a pescare i valori di location dell'oggetto target con rotation blender andrà a pescare i valori di rotation dell'oggetto target con scale blender andrà a pescare i valori di scaling dell'oggetto target li va a pescare ma li va ad utilizzare li ne va a tenere conto nel mio risultato finale se e solo se nel risultato se e solo se sono compresi all'interno dei range definito dai valori minimi e massimi quindi per esempio se la location della sfera non è compresa tra gli 0 e 5 metri Blender non andrà nel conto della location lungo l'asse delle X nell'utilizzo del transform Rotation se la rotazione della sfera lungo l'asse non fosse compresa tra il valore minimo e il valore massimo Blender finirebbe per non tenerne conto all'interno del modificatore transform spero di essere stato chiaro Blender adesso prende questi valori e se ne tiene conto li utilizza per controllare quale proprietà del mio oggetto owner, quindi dell'oggetto a cui applico il constraint lo possiamo decidere quale proprietà va a controllare nel pannello map 2 se per esempio la location della sfera deve controllare location rotation o scale del mio cubo ora per esempio se inserisco rotation la rotazione della mia sfera andrà a controllare la location del mio cubo la rotation della mia sfera andrà a controllare la location del mio cubo attenti al fatto che il cubo non può essere influenzato quanto volete se il cubo può essere lungo ciascun asse la posizione o la rotazione del cubo non può andare sotto un certo valore e non può andare sopra un certo valore quali sono questi valori? sono i valori minimi e massimi di map 2 inseriamo in rotation tutti i valori minimi a meno 180 in questo modo e tutti i valori massimi a 180 gradi 180 gradi e 180 gradi in questo modo dico che il cubo può essere influenzato quanto può essere influenzato come che la rotation del cubo può essere influenzata benissimo con la scala magari anche la scala del cubo dico che può essere che la scala più piccola che il cubo può assumere è 4 lungo lungo ciascun asse cioè lungo l'asse più piccola che il cubo può assumere è 0 mentre la scala più grande è 4 in questo modo dopo che abbia stato tutti i valori minimi e massimi possiamo decidere quale proprietà della sfera per esempio la sua rotation va a influenzare quale proprietà del cubo per esempio la sua scala adesso votando il cubo votando la sfera cioè l'oggetto target l'oggetto di controllo vado ad influenzare la scala del cubo se invece in map from inserisco scale e qui inserisco location la scala della mia sfera va a influenzare la location del mio cubo quindi posso decidere quale proprietà della sfera va a influenzare quale proprietà del mio cubo in realtà ci sono due cose molto importanti da sapere a questo punto intanto inseriamo l'estrapolate in questo modo siamo sicuri che andando a spostare e ruotare la mia sfera il cubo continuerà sempre ad essere influenzato per quanto io possa spostare la mia sfera tuttavia ci sono un paio di cose beh molto importanti da sapere la prima cosa importante è il fatto che la location della sfera all'ongolasse delle hits sarà la seguente la prima cosa da sapere ora io posso associare una proprietà della sfera a una proprietà del cubo per esempio la location della sfera alla location della rotation o alla scala del cubo oppure la rotation della sfera alla location la rotation o la scala del cubo oppure la scala della sfera la location la rotation o la scala del cubo tuttavia con Blender non esistono valori assoluti di scala rotazione o posizione con Blender per essere più precisi esistono valori di scala lungo ciascun'asse di rotazione lungo ciascun'asse di locazione lungo ciascun'asse quindi nel pannello location la proprietà della sfera se io qui ho inserito location sarà la location della sfera lungo l'asse delle hits a controllare la location del cubo lungo l'asse delle hits sarà la location della sfera lungo l'asse delle y a controllare la location del cubo lungo l'asse delle y e sarà la location della sfera lungo l'asse delle z a controllare la a controllare la location del cubo lungo l'asse delle z In altre parole, in MapFrom io scelgo una proprietà X della sfera, in MapTo io scelgo una proprietà Y del cubo, tuttavia ciascuna di queste proprietà è composta da tre dati parametrici, il valore X, Y e Z di quella proprietà. In parole povere, il valore X della proprietà X è associato al valore X della proprietà Y, il valore Y della proprietà X è associato al valore Y della proprietà Y, invece il valore Z della proprietà Y, dove la proprietà X è la proprietà in MapFrom. la invece la propria y è la ma è la è la proprietà in app tu o è detto così possa mai qualcosa di ascuso ma in realtà vuol dire semplicemente che se dico che la votazione della sfera deve controllare la scala del cubo sarà la votazione della sfera lungo l'asse delle hits a controllare la scala del cubo lungo l'asse delle hits sarà la votazione della sfera lungo l'asse del y non controllare la votazione del cubo lungo l'asse delle y e sarà la rotazione della sfera lungo l'asse delle z a controllare la votazione del cubo lungo l'asse della scala del cubo lungo l'asse delle z se qui inserisco scale e qui rotation per esempio sarà la scala della sfera lungo l'asse delle hits a controllare la scala a controllare la rotation del cubo lungo l'asse delle hits sarà la scala della sfera lungo l'asse delle y a controllare la rotation del cubo lungo l'asse delle y e sarà la scala della sfera lungo l'asse delle z a controllare la rotation del cubo lungo la selle z e viva fino a qui ci siamo la grande domanda esistenziale esiste un modo per cambiare questo comportamento è certo che esiste bene ci fa controllare tutto di tutto dei vari che non ci fa controllare un comportamento importante come questo semplicemente attraverso le opzioni di it's y e z soul access ora it's all access all'interno della proprietà scelta in map2 quale sarà tra it's y e z l'asse della proprietà di map from dell'oggetto target a controllare il valore it's della proprietà scelta in map2 mi spiego perché capisco che può essere un po complesso detto così se in it's all access metto z sarà la scala della sfera lungo l'asse delle z a controllare la rotazione del cubo lungo l'asse delle it's se metto e y sarà la scala della sfera lungo l'asse delle y a controllare la rotazione del cubo lungo l'asse le it's perché qui è alla scala della sfera contro la la rotazione del cubo ok scala sfera contro la rotazione cubo del tempo alle povere it's all access se deve essere la scala Lungo l'asse delle X, delle Y o delle Z Della sfera Se deve essere la scala Della sfera lungo l'asse delle X, delle Y o delle Z A controllare la rotazione del cubo Lungo l'asse delle Y Y solsatis, stessa cosa Se deve essere la scala della Z Se deve essere La scala della sfera Lungo le assi Y e Z A controllare La rotazione del cubo lungo l'asse delle Y Z solsatis deve essere la scala della sfera lungo l'asse Y o Z a controllare la rotazione del cubo lungo l'asse delle Z premiamo AH per nascondere tutto e facciamo un bel esempio per esempio l'esempio di una ruota che gira qual è la mesh più simile a una ruota? un cilindro aumentiamo il reagio e facciamone scendere l'altezza adesso andiamo in edit mode e premiamo AH 90 gradi adesso andiamo allo spigolo inferiore che dovrebbe essere questo e inseriamoci il cursore 3D adesso facciamo concedere il pivot con il cursore 3D rimettiamo il cursore alla posizione originaria e facciamo concedere la mesh con SHIFT-S e SELECTION TO CURSOR con il cursore 3D adesso andiamo in edit mode prendiamo un filino più complesso nella nostra mesh intendo assicurandocene la perfetta simmetria semplicemente facendo un taglio come questo ITS VERTICIS cancelliamo tutti questi vertici e adesso inseriamo un bel modificatore migliore che poi la deve specchiare lungo l'asse della lezione in questo modo il nostro risultato sarà simmetrico adesso selezioniamo questa faccia e con ITS FACES la cancelliamo adesso con ALT CLICK 2 per selezionare gli spiegoli ALT CLICK seleziono questo loop di vertice premo ES per scalare adesso scalato un po' e premo M COLLAPSE in modo da ottenere questo risultato adesso seleziono tutte queste facce in questo modo vado in 3 per la selezione facce e in SELECT CHECKER DESELECT in modo da selezionare questi raggi adesso I per il comando INSERT ed E per effettuare una bella istrusione adesso inseriamo 2 adesso magari andiamo 2 per la selezione spiegoli WIFRAME MODE e selezioniamo tutte queste 3 per la selezione facce in realtà bisogna selezionare facce e selezioniamo tutte queste facce qui in alto adesso andiamo in SELECT CHECKER DESELECT aumento l'OFFSET per far scorrere la selezione in questo modo lo metto ad 1 e magari adesso andiamo in EXTRUDE INDIVIDUAL e lo escludiamo questo è il modello tridimensionale di una semplicissima vuota adesso andiamo ad aggiungere per esempio un bello oggetto di controllo molto semplice come per esempio un EMPTY di tipo ARROWS lo scalo un po' e per vederlo attraverso le mesh applico l'opzione INFRONT magari lo sposto anche un pochino e questo sarà il mio oggetto di controllo adesso vado alla mia ruota che rinomino in ruota seleziono questi due oggetti e li muovo in una nuova collezione che rinomino in ruota adesso io voglio associare la posizione dell'EMPTY alla rotazione della sfera vediamo come posso fare inseriamo ovviamente un CONSTRENT di tipo TRANSFORM e in TARGET selezioniamo l'EMPTY perché inseriamo un CONSTRENT di tipo TRANSFORM perché è il CONSTRENT che ci permette di scegliere una proprietà di un oggetto TARGET e di associarla all'oggetto OWNER adesso aumentiamo tutti i valori di LOCATION perché in MAP FROM tutti i valori massimi e voglio che sia la LOCATION dell'oggetto TARGET ad influire su che cosa sulla rotazione della mia ruota ovviamente inserisco meno 180 a tutti i valori minimi e più 180 a tutti i valori massimi adesso adesso la posizione di questo EMPTY è in grado di influire sulla rotazione della mia ruota premo SHIFT premo il cursor lo metto nella posizione originaria e nell'EMPTY applico la LOCATION in modo da avere i valori di LOCATION di 0,0,0 adesso andiamo a vedere come possiamo lavorare con questa semplicissima scena tridimensionale adesso io voglio come possiamo lavorare con questa semplicissima scena io voglio che sia la posizione dell'EMPTY a lavorare sulla rotazione della mia ruota come posso fare semplicemente io voglio che se sposto l'EMPTY lungo l'asse delle X la mia ruota ruoti quella deve essere il centro di rotazione della ruota il suo centro e per farlo inseriamo l'origine alla geometria adesso vediamo qual è la situazione in questo momento adesso io ho inserito tranquillamente il mio constraint però è la location lungo l'asse anzi diciamo che vediamo che però adesso vediamo che quando ho inserito l'origine alla geometria il modificatore mirror che ho applicato alla ruota è stato compromesso perciò lo applico perché il centro del mirror sarebbe il pivot spostando il pivot è cambiato l'effetto del mirror allora prima lo applico e poi riporto l'origine alla geometria ok però c'è un problema fondamentalmente che io voglio che la mia ruota ruoti normalmente come fanno tutte le ruote quindi in questa direzione ma ruotare in questa direzione per la mia ruota significa ruotare attorno all'asse delle y il problema è il seguente il problema è che di default la posizione lungo l'asse delle x del mio empty è associata alla votazione lungo l'asse delle x della mia ruota la posizione lungo l'asse delle y del mio empty è associata alla votazione lungo l'asse delle y della mia ruota invece la posizione lungo l'asse delle z del mio empty è associata alla votazione lungo l'asse delle z della mia ruota lo vedo per esempio spostando il mio empty scusate lungo l'asse delle y la mia sfera ruota la mia ruota ruota attorno all'asse delle Y spostando il mio empty lungo l'asse delle Y magari adesso vedo che così facendo lo sposterei in una direzione negativa perché gli assi ovviamente hanno una direzione così lo sposterei in una direzione negativa e dato che il range minimo qui inserito è 0 questo non mi provocherebbe effetto perché abbassiamo il range minimo fino a meno 0.5 in questo modo anche se sposto il mio empty in direzione negativa lungo un asse il constant ha comunque effetto perché se io spostassi perché se nei range il valore minimo fosse 0 e spostassi il mio empty in direzione negativa lungo un asse i suoi valori di location non sarebbero più all'interno del range settato nel map from e perciò non verrebbero più considerati io invece voglio che blender li considera e perciò basta che inserisco in its min il meno 5 adesso vedo che spostando il mio empty lungo l'asse delle hits la mia ruota ruota attorno all'asse delle hits spostando il mio empty lungo l'asse delle y la mia ruota ruota attorno all'asse delle y spostando il mio empty attorno all'asse delle z la mia ruota ruota attorno all'asse delle z e perciò per far ruotare la mia ruota nella direzione che voglio mi basterebbe spostare il mio empty attorno all'asse delle Y vedo che se lo spostassi di più di 5 metri poi continuando a spostarlo la ruota smetterebbe di ruotare ora quindi voi abilitate sempre l'opzione di estrapolazione e in questo modo posso spostare l'empty come voglio e la ruota continuerà sempre a muoversi sarebbe stata in altre parole abilitando l'opzione di estrapolazione non vi dovete più preoccupare del map from tuttavia c'è un piccolo... lo potrei neanche chiamare il problema questo vedo che adesso se io sposto il mio empty lungo un'asse la mia ruota ruoterà lungo quell'asse e questo potrebbe essere ciò che io voglio però potrebbe essere tranquillamente ciò che io voglio però mettiamo che io voglio che il mio empty vada dietro alla mia ruota cioè io voglio che il mio empty si muo... cioè mettiamo... però ne voglio dire che sarebbe un pochino più comodo se per ruotare la mia ruota attorno all'asse dell'ellipsilon io potessi spostarlo nella direzione di movimento della mia ruota cioè io adesso rispetto alla retta che indica il movimento il movimento che io vado a simulare della mia ruota perché così la ruota la faccio girare e questo va a ricordare il movimento che una ruota ha e in questo caso quale sarebbe la direzione di movimento della ruota? sarebbe questa direzione e io per far girare la ruota come se si muovesse in questa direzione sono costretto a muovere l'empty in quest'altra direzione che magari potrebbe essere un po' controintuitivo allora per risolvere non sarebbe bello se io potessi associare la rotazione della mia sfera lungo l'asse dell'ellipsilon alla posizione dell'empty lungo l'asse dell'ellips? sarebbe bello e infatti posso in its source axis scelgo scelgo rispetto alla proprietà del map from quale asse della proprietà del map from deve essere associata all'asse delle hits della proprietà del map to se io adesso ora io qual è la proprietà del map qual è l'asse del map to che mi interessa? l'asse delle y perchè io voglio simulare la rotazione lungo l'asse delle y della mia ruota quindi la mia ruota non si ruoterà attorno all'asse delle hits non si ruoterà attorno all'asse delle z e perciò le opzioni di hits e z le posso anche ignorare a me mi interessa la rotazione lungo l'asse delle y qui in y source axis abbiamo l'opzione y che vuol dire essenzialmente che sarà la posizione dell'empty lungo l'asse delle y a regolare la rotazione della mia sfera e della mia ruota lungo l'asse delle y se mettessi z per esempio sarebbe la posizione del mio empty lungo l'asse delle z a gestire la rotazione della mia sfera a gestire la rotazione della mia ruota lungo l'asse delle y e se invece in y solsatzis inserissi its sarebbe la posizione del mio empty lungo l'asse delle its a gestire la rotazione della mia ruota lungo l'asse delle y il problema essenzialmente è che se adesso muovo il mio empty lungo l'asse delle its ottengo il risultato voluto cioè muovendo l'empty nella direzione di movimento della ruota otterrei la rotazione della mia ruota attorno all'asse delle y tuttavia in its e questo lavorando con l'opzione di y solsatzis tuttavia dato che its è selezionato anche in its solsatzis l'asse delle its va a regolare anche la rotazione della mia ruota attorno all'asse delle its oltre che delle y e per questo il risultato non è molto buono se io in y solsatzis inserisco come valore minimo e massimo di rotazione 0 adesso impedisco totalmente al mio empty di ruotare attorno all'asse delle its alla mia ruota di ruotare attorno all'asse delle y e adesso andando a spostare il mio empty la ruota gira come se si propagasse nella direzione in cui gira il mio empty il che magari è un pochino più intuitivo se adesso seleziono prima la sfera e poi il mio empty e premo control p adesso la sfera adesso la ruota mi viene da chiamare la sfera va addirittura dietro il mio empty e questo ricorda proprio una rotazione rinomino l'empty in ruota control chi è quello che io voglio shift s selection to course rivedo che spostando il mio empty l'umbulasse delle its vado a spostare vado a cambiare la rotazione della mia sfera della mia ruota l'umbulasse delle y perciò per quanto riguarda le solsatzis andiamo finalmente a cercare di capire cosa diavolo vogliono dire il concetto è semplice però bisogna stare attenti a comprenderlo semplicemente its source axis ci dice quale asse della proprietà selezionata in map from deve andare ad influire sull'asse delle its della proprietà selezionata in map to perciò se ho its sarà in questo caso la posizione dell'empty lungo l'asse delle its ad influire sulla rotazione della mia ruota lungo l'asse delle its se selezionassi y sarebbe la posizione del mio empty lungo l'asse delle its ad influire sulla rotazione della mia ruota lungo l'asse delle its e se mettessi 0 sarebbe la posizione del mio empty lungo l'asse delle its ad influire sulla rotazione della mia ruota lungo l'asse delle its in altre parole potete metterla così its source axis quindi per dirla in un'ultima parola ho una proprietà map to che possa esprimere con i suoi valori nell'asse delle its, delle y e delle z e un map from che possa esprimere con i suoi valori in its, y e delle z in questo caso l'opzione di map from è location in più ho un'opzione di map to che mi va a esprimere che posso esprimere anche essa attraverso i valori di its, y e delle z quello che ci interessa è che quello che ci interessa è la seguente cosa ho io un'asse sorgente its, un'asse sorgente y e un'asse sorgente z semplicemente se in its ognuna di queste assi mi di semplicemente con its source axis io posso decidere quale asse della proprietà settata in map from deve influire su l'asse delle its della proprietà settata in map to con y source axis vado a decidere quale asse della proprietà settata in map from deve andare ad influire sull'asse delle y della proprietà settata in map to invece con z source axis vado a decidere quale asse della proprietà settata in map from deve influire con l'asse delle z della proprietà settata in map to in altre parole quale asse in altre parole l'allocazione lungo l'asse delle its delle y o delle z deve andare a decidere la rotazione lungo l'asse delle its lo decide con its source axis l'allocation lungo l'asse delle its delle y o delle z deve andare ad influire sulla rotazione lungo l'asse delle its lo decide in y source axis l'allocation lungo l'asse delle its delle y delle z deve andare ad influire sulla rotation lungo l'asse delle z lo decido in source axis fate quante più prove che potete spero che l'abbiate trovato abbastanza chiaro adesso magari riabilitiamo questi due oggetti e inseriamo ad entrambi il valore di location e a 0 premo ctrl s non ctrl s scusate per salvare i file premo alt s per annullare la scala della mia sfera e andiamo a vedere che io adesso posso spostare tranquillamente il cubo ma che come se fosse un oggetto indipendente ma se sposto la sfera il cubo gli va dietro questo perchè i valori di location del cubo non vengono completamente sovrascritti con i valori di location della sfera vengono sommati posso cambiare questo comportamento inserendo replace in altre parole se in altre parole il valore del constant transformation che magari è un po' complesso va a prendere una proprietà dell'oggetto target e la va ad utilizzare per controllare o la stessa o un'altra proprietà dell'oggetto avente il constraint ora considerata la proprietà che ho selezionato in map2 se in mix ho add blender prende la proprietà in blender prende la location la rotation o la scala del mio cubo originari e vi va a sommare la location la rotation o la scala derivanti dall'opzione di map from della mia sfera se invece ho replace blender ignora completamente la posizione la rotazione della scala originaria del mio cubo e vi li sostituisce completamente con i con i con i valori dettati dal transform in altre parole se in mix mode avete add blender tiene conto della posizione della rotazione originaria del vostro cubo se invece avete replace blender no ne tiene conto le conseguenze con replace se selezionate il vostro cubo cercate di spostarlo non succede niente se avete location attivato se avete rotation attivato se selezionate il vostro cubo e cercate di vuotarlo se in mix avete replace non succede niente con scale se in mix avete replace se cercate di scalare il vostro cubo non succede niente In altre parole, se qui avete settata l'opzione Location e con Mids avete Replace, quindi considerate l'opzione Map To, con l'opzione Replace se cercate di andarla a modificare manualmente con G sia la Location, R sia la Rotation o S sia la Scala, con Replace non ci riuscirete. Quindi con Replace, se il Transform mi va ad influire sulla Location del mio cubo, con Replace se cerco di spostarlo non succede niente. Se invece mi va ad influire sulla Rotazione del mio cubo e ho settato Replace, cerco di guotarlo e non succede niente. Va ad influire sulla Scala del mio cubo? Se ho settato Replace, provo a scalarlo e non succede niente. Invece, se avete settato Add, non è così. Se avete settato Add, se provate a spostare il vostro cubo quando qui è settata Location, ci riuscite. Se provate a ruotare il vostro cubo quando qui è settata Rotation, se avete l'opzione Add, ci riuscite. Con Scale, al posto dell'opzione Add, c'è l'opzione Multiply, ma semplicemente con l'opzione Multiply, se provate a scalare il vostro cubo, quando in Map2 è selezionato Scale, ci riuscite. Se invece è selezionato Replace, non ci riuscite. Infine, abbiamo una bella opzione di influenza del mio constraint e posso decidere se il target, quindi la sfera, deve essere considerato nello spazio globale o locale e lo stesso per l'Owner, quindi se il mio cubo deve essere considerato nello spazio globale e locale. E questo è il concept Transformation, spero che l'abbiate trovato chiaro. Premo AH, prendo tutto invisibile, magari seleziono questi oggetti, li rendo visibili, li muovo in una nuova collezione che chiamo Experiments. Questa è il modificatore Transformation, spero che l'abbiate trovato il più chiaro possibile. Adesso andiamo a vedere, e non il modificatore, scusate, il Constraint Transformation, a volte parlando può capitare di modificatore invece che Constraint. Andiamo adesso a vedere il Constraint Transformation Cache. Ora, il Constraint Transformation Cache, intanto inseriamo un qualche oggetto, come per esempio un piano. Il Constraint Transformation Cache è abbastanza simile al modificatore Mesh Sequence Cache. Cerchiamo di capire il perché. Prendiamo questo nostro piano, lo scalo, lo scalo sull'asse delle lezzetta, e lo suddivido tante volte, per esempio cento volte. Adesso con Shift Z vado in White Frame Mode, uno per la selezione vertici, seleziono questi vertici e li muovo in un nuovo gruppo. Il gruppo lo rinomino Pins e li assegno. Adesso voglio raggiungere una simulazione di tipo cloth, e nel pannello Shape, inserisco l'opzione Pins. Se non capite di che sto parlando, andate a rivedere le lezioni sulla fisica. Andiamo a disabilitare la visualizzazione dell'asse delle lezzetta e dello wireframe. Quasi non otteniamo effetto alcuno. Per andare a risolvere, magari inseriamo un Bez Force Field di tipo Wind. Lo vuoto lungo l'asse Hits di 90 gradi. Gy lo scalo. E ne aumento la forza. Adesso andiamo ad osservare il nostro piano, che ovviamente viene deformato dal vento. Adesso, per creare un effetto un pochino più interessante, alt-click per selezionare tutti questi vertici, e li assegno al gruppo Pins. Adesso anche quei vertici saranno totalmente ancorati. E adesso ho proprio un effetto molto interessante. Adesso al centesimo frame, andiamo al nostro false field e inseriamo un keyframe a location e rotation, in modo da far capire a Blender che a questo fotogramma il mio false field si deve ancora trovare in questa posizione. Adesso andiamo al centoventesimo frame, lo sposto, e lo inserisco, per esempio, in questa posizione. Aggiungo un nuovo keyframe a location e rotation. Inseriamo una quantità di fotogrammi totali pari a 130. Andiamo ad osservare il nostro risultato. Adesso magari le lezioni diventano anche più interessanti e più facili, fare esempi pratici, perché ormai ci portiamo un bagaglio gigantesco di competenze dietro. Conociamo un sacco di skills, di Blender, viste in passato. E quindi sicuramente adesso fare esempi pratici è facile, perché conosciamo tantissime funzionalità. Adesso il vento si gira e cambia l'effetto della mia simulazione. Adesso premo questo oggetto, lo rinomino in vela. E tutti questi oggetti li muovono in una nuova collezione, che rinomino in cloth simulation. Adesso dobbiamo andare ad esportarli come un informato Alembic, che è il formato che dobbiamo conoscere quando utilizziamo il modificatore Mesh Sequence Cache. Lo faccio dal mio desktop e per esempio il nome del file Alembic potrebbe essere cloth simulation. Simulation abc. Adesso Blender sta effettuando l'esportazione. Lo vedete perché qui in basso trovate il... Trovate la scritta Alembic export con la percentuale di esportazione effettuata. Aspettiamo qualche secondo. Adesso Blender ha preso tutti questi oggetti e li ha trasferiti in un file Alembic esterno. Che si trova bello, solo sul letto, all'interno del mio desktop. Adesso magari lo vado ad importare all'interno della mia scena. La simulazione originaria e la regno invisibile. Per andarla ad importare mi basterebbe fare Import Alembic. Lo posso fare, questo è un bel trucchetto interessante, anche a prendere una nuova finestra. Se dovete importare tanti file in una nuova scena potrebbe esservi utile un editor di Blender molto particolare. Che è il editor File Brassware. Si richiama con Shift-F1 che vi apre questa finestra sul vostro... Che vi apre questa finestra su... Tutto sciocchia sul vostro computer. Lo potete tranquillamente navigare sopra il vostro PC e qui avete tutti i file che vi interessano. Questo è molto utile quando dovete importare molti file in una scena. In questo modo avete sempre a portata di mano una finestra aperta sui vostri file. Interessante poi è che per esempio... Se avete un'immagine da voler importare all'interno di Blender... Per esempio quella che avrebbero usato nella lezione 12... E basta andare a prenderla... E trascinarla e verrà inserita automaticamente come immagine di riferimento. Ne abbiamo parlato proprio nella lezione 12. Tuttavia questo sistema di trascinamento purtroppo non può funzionare per i file Alembic. Non è supportato il sistema di trascinamento in questo modo per i file Alembic. E quindi per importare un Alembic... Devo per forza andare nel menu Alembic... Mi si apre il pop-up e selezionarlo manualmente. Tuttavia ho deciso di farvi vedere lo stesso. Il file Browser perché lo incontreremo anche in futuro. Quando parliamo del video editor. E comunque volevo che voi vedesse questo bellissimo strumento per navigare all'interno del vostro PC. Magari adesso lo chiudo. Questi sono tutti i vostri file. Tutto ciò che vi serve. Adesso ho importato tranquillamente il mio Alembic. E se faccio partire l'animazione vedo che è stato importato perfettamente. Vedo benissimo la simulazione che avevo esportato. Infatti io avevo preso la mia Cloth Simulation. Avevo esportato gli oggetti della collezione Cloth Simulation come... In formato Alembic. Mi ero assicurato di esportare solo gli oggetti selezionati dal momento dell'esportazione. Quindi solo gli oggetti che adesso si trovano nella collezione Cloth Simulation. E mi ero assicurato di fare ciò attivando l'opzione Selected Objects. Magari questo lo sposto in una nuova collezione che rinomina il punto ABC. Adesso vediamo che tuttavia se seleziono questo piano non vedo più una simulazione fischia di tipo Cloth. Perché questo non è più uno... Perché questo non è più... No, volevo... non volevo rinominare. Volevo spostare in una nuova collezione chiamata appunto ABC. Invece per sbaglio ho rinominato eventi. Quindi il nome ABC. Lo rinomino in force. Quindi essenzialmente questo non è più un piano avente una simulazione fisica. Ma è semplicemente un oggetto i cui dati del movimento non provengono da un algoritmo all'interno di Blender. Ma da un file esterno. Questo che c'entra con i Constraint. Sappiamo già che Blender automaticamente ingestisce tutto ciò attraverso il modificatore Mesh Sequence Cache. Tuttavia in alcuni casi particolari, in particolare quando ci sono dei keyframes, solo quando ci sono dei keyframes, Blender agli oggetti aventi keyframes, come per esempio al force field, quindi al force field di tipo Wind. che ovviamente quando è esportato in Allenby si è trasformato in un Empty. Perché quando è esportato in Allenby le simulazioni fisiche non hanno più senso. I vostri oggetti non hanno più senso né alle simulazioni fisiche né ai keyframes. viene tutto esportato in formato Allenby e adesso i movimenti delle vostre oggetti sono gestiti esclusivamente dall'Allenby. Perciò senza simulazioni fisiche io un force field di tipo Wind lo vedo come un normalissimo Empty. e gli oggetti con keyframes, Blender inserisce un bel transform, un bel constant transform cache. Cerchiamo di capirci. Perché io sì ho importato tutto in formato Allenby, però, diavolo, per quanto possa avere importato in formato Allenby, Blender deve usare un qualche algoritmo, una qualche funzione per capire bene come si muovono i miei oggetti. E per farlo utilizza il modificatore Mesh Sequence Cache, in particolare quando ci sono simulazioni fisiche, Blender inserisce all'oggetto che subisce le simulazioni fisiche un Mesh Sequence Cache al posto della simulazione fisica che è direttamente collegata con il file in formato Allenby che spiega all'oggetto come si deve muovere. Infatti questo piano adesso non ha più una simulazione fisica perché in formato Allenby non hanno più senso. Le simulazioni fisiche vengono sostituite automaticamente dal file Allenby perché adesso è il file Allenby che spiega al mio piano come muoversi e perciò la simulazione fisica non ha più senso. Ma dov'è il collegamento tra il piano e il file Allenby esterno? Perché se non ci fosse questo collegamento tra il piano e l'Allenby esterno come potrebbe il piano sapere come muoversi? Il piano sa come muoversi perché lo vede dal file Allenby. Perciò ci deve essere qualcosa che collega il piano interno a Blender all'Allenby esterno. Qualcosa è il Mesh Sequence Cache. Tuttavia se è un oggetto di keyframes come per esempio questo Empty e il suo movimento verrà dettato dal Constraint Transform Cache le cui opzioni sono pare pare le stesse del modificatore Mesh Sequence Cache. Hanno delle opzioni molto simili. Comunque le opzioni del Constraint Transform Cache sono tutte presenti anche nel modificatore Mesh Sequence Cache. Quelle sono tutte opzioni che abbiamo già visto nella lezione 35. Nella lezione 35, quindi anche poche lezioni fa, abbiamo visto il modificatore Mesh Sequence Cache. Bene, quelle che vedete qui sono essenzialmente le stesse opzioni. Quindi indici temporali, interpretazione dei fotogrammi, eccetera. Tuttavia nel 99,9999% dei casi il Mesh Sequence Cache viene gestito automaticamente da Blender. Perciò se avete già visto la lezione 35 in cui abbiamo spiegato le opzioni del modificatore Mesh Sequence Cache bene, le opzioni che abbrate nel Transform Cache sono le stesse. Comunque sia, in ogni caso queste opzioni sono gestite automaticamente di Blender e quindi non sono poi così imperative da conoscere. Comunque adesso noi le andiamo a rispiegare perché tanto le abbiamo già viste nella lezione 35. Se non ve le ricordate andate a rivedere la lezione 35. Ora, in questo modo abbiamo finito la prima collonna di Constraint il che già vi fa capire che già vi potrebbe aiutare a rendervi conto che Constraint sono qualcosa di strutturalmente a eccezione del Constraint Transform più semplice dei modificatori perché mentre i modificatori avevano opzioni su opzioni, su opzioni, su opzioni, su opzioni i Constraint hanno una manciata giusta giusta di opzioni poi soprattutto i Constraint che stiamo per vedere adesso sono veramente molto molto semplici non semplici, anzi perché sono comunque avanzati però hanno poche opzioni perché c'è poco da controllare perché il Constraint usa un algoritmo già presente per controllare il vostro oggetto quindi non c'è tanto da sapere su ciascun Constraint infatti una colonna intera di Constraint non staremo neanche a due ore di lezioni poi non sono sicuro perché sto registrando in questo momento perciò non è che davanti a un widget che mi dice da quant'è che sto registrando e perciò e anche se fosse poi non è che registro tutto di un pezzo registro poi un pezzetto poi un altro e poi li vado a montare poi in realtà per la maggior parte dei montaggi utilizzo anche Blender perché Blender può essere usato per montare i video sì, lo vedremo in una lezione futura comunque stavo dicendo fatemi sapere nei commenti se magari mi sbaglio ma mi pare che non siano nemmeno due ore di lezioni che parliamo e oggi già avevo fatto un'intera colonna di Constraint quindi già questo vi fa capire che la maggior parte dei Constraint sono veramente molto molto semplici iniziamo con i Constraint del 3 adesso questi erano i Constraint di tipo Transform i Constraint Motion Tracking li vediamo in futuro adesso velocemente è veramente molto facile vediamo i Constraint Tracking e i Relationship magari questa scena la rinomino in Transform e adesso creo una nuova scena dedicata interamente ai Constraint del Tracking quindi andiamo a vedere i Constraint del Tracking allora il primo Constraint che dobbiamo vedere è un Constraint che per funzionare ha bisogno di una curva si avete capito bene di una curva e per farlo inseriamo che cosa? una curva no? per esempio proviamo ad inserire una Path le Path sono qualcosa di estremamente efficiente e preciso nella modellazione delle curve e perciò direi che in questo caso vanno più che bene allunghiamo trasciniamo via questi segmenti e andiamo a modellare la mia curva inserisco in modalità di selezione il tweak tale che è particolare perché così mi basta selezionare un punto qualsiasi e potrò trascinarlo e muovlo come meglio preferisco senza dover premere il tastino Grab andiamo a modellare la curva che preferiamo per esempio posso prendere questo punto ed estruderlo per creare una curva più complessa fate più esperimenti che volete finché la curva non ha una forma qualsiasi una forma desiderata e che trovate interessante per questo esempio penso che andrebbe abbastanza bene una curva come questa questo è uno dei casi in cui le curve funzionano come punti di riferimento e quindi non sono importanti perché li vedremo nei rendering finale ma perché permetteranno di cambiare altri di modificare altri oggetti che invece quelli si li andremo a vedere andiamo adesso a modellare una specie di piccolo razzo per farlo inseriamo un cerchio scagliamolo e andiamo a modellarlo per esempio E Z per estrudere lungo la stella le Z ed M collapse per collassare Shift Z per andare in Warframe mode e estrudiamo di nuovo premendo E Z scalo un poco e escludo di nuovo scalo e premo F per creare una faccia con questi vertici adesso andiamo a lavorare un po' con le normali andiamo anzi che un bello Shade Smooth e tanto per non farsi mancare niente un bel Edge Split Modifier adesso se proprio siete fan della precisione potete anche andare ad inserire un piccolo piano stiamo modellando eh trascinarlo in questo modo e adesso possiamo andare a quindi in modalità di selezione tweak in modo che ci basti cliccare su un vertice e trascinare per spostarlo creiamo una semplicissima forma come questa magari anche un pochino più piccola e questo diventerà un alettone del nostro razzo iniziamo un bel modificatore solidify e in offset inseriamo 0 con magari una thickness un filino più alta per esempio punto 1 questo sarà l'alettone di base tuttavia dialettoni ne servono beh dialettoni ne servono 4 quindi devo andare a creare un array circolare vi ricordate come si fa si crea un empty si crea se aggiungi un empty io voglio avere praticamente un array che mi vada a duplicare l'alettone dove questa è l'alettone iniziale e voglio duplicarlo in questo modo questo modo e questo modo per farlo voglio creare un array circolare quindi una sequenza di alettoni composta da 4 singoli dialettoni che non sia dritta ma sia circolare in questo modo per farlo inseriamo un empty come questo e adesso andiamo a inserire l'origine del mio alettone in modo che coincida con quell'empty adesso non ci possiamo far mancare appunto un array dove al posto di relative offset selezioniamo object offset e in particolare questa empty di cui applichiamo la scala di cui applichiamo la rotazione e la location applichiamo la rotazione anche all'alettone avendo applicato tutte le trasformazioni all'alettone e all'empty tutte le trasformazioni dell'alettone sono a zero e lo rinomino in alettone e anche dell'empty che magari rinomino in array control le trasformazioni di entrambi gli oggetti sono a zero e perciò tutte le copie create dall'array stavano tutte nello stesso punto ma è una situazione temporanea perché adesso vado al mio array control premio rz 90 gradi adesso ogni copia sarà ruotata rispetto alla precedente di 90 gradi perché ogni copia subirà rispetto alla precedente la trasformazione dettata dall'empty ruotata attorno a che cosa al proprio pivot che abbiamo fatto coincidere appunto con l'empty se adesso in count aumento il valore di count per esempio fino a 4 ottengo questo bellissimo risultato adesso però si riega una compenetrazione con il razzo vero e proprio che posso benissimo rinominare in rocket per risolvere mi basta andare nei modificatori inserire un boolean prima dell'edge split e in union selezionare l'alettone adesso prendo l'alettone originale e in display as inserisco bounds in modo da vedere e adesso questo è il mio risultato finale adesso magari applico il modificatore boolean e posso anche andare a cancellare l'alettone originale anche la recontrol non mi serve più ho questa semplicissima mesh di quella di cui avevamo bisogno per l'esperimento che stiamo per fare magari prendo questa faccia inferiore la estrudo e la scalo un poco questo è il nostro oggetto iniziale adesso inserisco la geometria in modo che premo geometry to origin per spostare la geometria in modo che il pivot coincida col suo baricentro lo scalo un po' sull'asse delle z ed applico la scala abbiamo finito la creazione dell'oggetto di base adesso lo facciamo coincidere con il centro della curva premendo erase 90 gradi e lo spostiamo in modo che coincida con il maledetto scelto di questa curva cioè non con l'inizio con non con il centro con l'inizio di questa maledettissima curva adesso andiamo finalmente a tornare a parlare dei constraint il constraint clamp2 semplicemente ci permette di selezionare una curva lungo il quale si muoverà l'oggetto a cui applico il constraint vado a selezionare l'oggetto lungo il quale si muoverà il constraint cioè la mia curva adesso se provo a muovere il mio razzo lungo l'asse delle hits vedo che si muoverà in modo da coincidere con la curva abbiamo sempre un'opzione di influence che ci permette di cambiare l'influenza di questo constraint ma c'è molto di più da vedere intanto senza cyclic il risultato tenderebbe ad ancorarsi ogni volta che dovesse coincidere con una delle maniglie di questa curva in altre parole se a un certo punto vedete che il razzo si incassa e non riuscire più a spostarlo attivate tranquillamente l'opzione cyclic per essere precisi l'opzione cyclic fa in modo che il razzo si comporti sulla curva come se fosse ciclica cioè quando arriva alla fine della curva ricomincia al suo inizio e se lo faccio tornare indietro fino all'inizio della curva torna indietro per il coincidere con la fine questo è molto utile perché altrimenti il razzo si ancorerebbe e si incastrerebbe all'estremità della mia curva ora però vediamo che la questione del movimento può sembrare molto semplice però c'è evidentemente qualcosa che dovrebbe essere più un po' strano perché adesso io per un miracolo di programmazione se prendo il razzo e rimuovo lungo l'asse delle hits esso si va a muovere lungo una curva ma perché proprio lungo l'asse delle hits vediamo che se io infatti provo a muovere lungo l'asse delle y non succede niente né lungo l'asse delle z allora perché lungo l'asse delle hits perché devo trascinare lungo l'asse delle hits per effettuare il movimento beh il motivo è abbastanza logico perché l'asse delle hits è l'asse principale del movimento cioè il mio razzo dato che la curva non è perfettamente bidimensionale si sposterà un poco lungo tutti e tre gli assi quindi sia lungo l'asse delle hits che delle y che delle z però la maggior parte del movimento il movimento principale la traslazione più grande avverrà lungo l'asse delle hits perciò l'asse delle hits è l'asse dove avviene la quantità maggiore di moto ok in altre parole voi in main axis all'interno di questa semplice matrice con questi bottoni potete andare a selezionare voi manualmente quale sarà l'asse sulla quale avverrà la maggior parte del movimento con auto lo sceglie blender e di solito ci prende però per esempio con hits questo momento gli dico che l'asse dove avviene la maggior parte del movimento è l'asse delle hits se invece inserisco y dico che l'asse lungo la quale avviene la maggior parte del movimento è l'asse delle y se invece inserisco z gli dico che l'asse lungo la quale avviene la maggior parte del movimento è l'asse delle z questo però avrà alcune differenze perché l'asse qui selezionata è l'asse che dovete trascinare per avere una traslazione quindi se ho selezionato l'asse delle hits come con l'opzione di default devo cliccare sulla freccina rossa quindi sulla freccina dell'asse delle hits per spostare il mio razzo e se clicco sull'asse delle y o sull'asse delle z non succede niente al contrario se io premo y io devo cliccare sull'asse delle y per effettuare un movimento se premo lungo l'asse delle hits o delle z non succede niente se invece premo l'asse delle z devo cliccare proprio sull'asse delle z per effettuare un movimento se clicco sull'asse delle hits o delle y non succede niente e questo è il semplicissimo modificatore clamp to adesso abbiamo una serie di modificatori che sono molto utili sono i modificatori damped locked stretch e track to questi const non sono i modificatori scusate sono constraint perché dopo tutte le volte che avevo parlato del modificatore mi viene sempre da del modificatore questa è una serie molto efficiente e molto utilizzata di constraint che fanno qualcosa di molto molto speciale essenzialmente fanno in modo che in generale un oggetto si rivolga verso un altro oggetto cerchiamo di capire come funziona il damped track inseriamo un semplicissimo oggetto come per esempio la nostra carissima testa di scimmia se volete avere una mesh un pochino più smossata niente di vieta di andare in niente di vieta di andare nel pannello dei modificatori aggiungere il famosissimo subsurf con tre suddivisioni nella viewport e 4 nel rendering e adesso avete questo bel risultato magari posso anche dire che nella posso anche dire a blender che nella irit mode voglio vedere totalmente il modificatore per tutto e per farlo basta selezionare questa piccola icona adesso cosa ci interessa ci interessa il modificatore damped track il modificatore damped track ci permette di selezionare un oggetto e la mia mesh andrà sempre a guardare quell'oggetto per esempio seleziono questo cubo lo scalo per renderlo un po' più piccolo e vi applico la scala adesso con il damped track dico blender qual è l'oggetto che devo guardare per esempio questo cubo adesso se io sposto la mia mesh la mia scimmia si rivolgerà sempre in direzione del mio cubo tuttavia per rivolgersi in direzione del mio cubo cosa intendo voglio dire che una determinata asse della mia scimmia lungo il sistema di riferimento locale si rivolgerà al mio cubo ma qual sarà l'asse del sistema di riferimento locale che si rivolgerà al mio cubo l'asse delle iz l'asse delle y o l'asse delle z locali della mia scimmia si rivolgeranno al mio cubo oppure l'asse delle iz al contrario l'asse delle y al contrario o l'asse delle z al contrario bene ve lo dico in parole povere c'è solo modo per scoprirlo provate qua avete solo 6 opzioni no? allora semplicemente scorrete tutte le opzioni finché è matematicamente scelto per un certo punto arrivate a un'opzione e quell'opzione funziona in questo caso l'opzione meno y non è quella che ci interessa perché con l'opzione meno y che la mia scimmia sta effettivamente guardando il mio cubo per guardarlo voglio dire che gli occhi della mia scimmia sono rivolti in direzione del mio cubo se adesso sposto muovo e faccio con il mio cubo quello che io preferisco la scimmia lo andrà dietro e lo guarderà e questo effetto è già qualcosa di molto interessante e molto importante all'interno dei constraint adesso se io ovviamente cancello il cubo il dump e the track smette di funzionare perché non è più selezionato niente nel target però io di solito non sono solito utilizzare una mesh come oggetto target io di solito seleziono un empty perché? perché un empty non lo vedo nel mio risultato finale un empty è solo un punto di riferimento però così ho un punto di riferimento manuale con cui posso decidere in che direzione deve guardare la mia mesh ovviamente a un empty posso anche andare ad applicare un altro constraint che magari ne va a accettare il movimento posso animarlo con i keyframes e così posso cambiare un punto di riferimento immaginario che la mia scimmietta andrà a guardare e quindi questa è la potenzialità dei constraint per sbaglio l'avevo premuto sul tastino F3 e ne approfitto per spiegarvelo per sbaglio l'avevo premuto sul pulsante F3 ne approfitto per spiegarvelo velocemente nel pannello window no scusate nel pannello edit mettete anche un'opzione molto importante che è l'opzione menu search con menu search vi si apre questo pannello dove voi potete scrivere il nome di una funzione in blender mettiamo che ci sia una determinata funzionalità all'interno di blender come per esempio il comando join quello che unisce le mesh con ctrl j ma non vi ricordate nella shortcut nella posizione del menu utilizzando l'opzione menu search vi appare questo menu dove potete cercare il comando che volete per esempio il comando move oppure il comando add potete scegliere manualmente che comando vi serve e scriverlo l'opzione si chiama con f3 avete questo pannello dove potete scegliere dove avete tutta dove mi basta scrivere il comando che vi serve ad esempio rotate e avrete il comando a disposizione ne approfitto per spiegarvelo tanto è molto semplice se questo corso è fatto bene non vi dovrebbe servire perché questo serve quando magari non ci si ricorda la posizione esatta lo si usa io ve lo spiego spero che lo riteniate fatto bene magari fatemelo sapere nei commenti mi fa sempre molto 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 piacere mi rendo conto che vedo sono un po' lunghi però è una questione di completezza comunque tornando al dumphead track avete anche un comando influence con cui potete andare a cambiare l'influence del constraint lockhead track è abbastanza simile anzi il lockhead track lo possiamo definire così è paro paro uguale spicciato al al dumphead track ha solo una differenza sovrana vi permette di bloccare la rotazione del cubo lungo una determinata asse abbiamo visto che se stanno meno y la mia scimietta va a guardare direttamente il mio empty però non è molto preciso nel guardarlo perché la scimietta non alza mai la testa per così dire questo è proprio grazie all'opzione lockhead axis track queste opzioni già le conosciamo però la differenza tra lockhead track e damphead track è che in più vi mette a disposizione anche l'opzione lockhead axis l'opzione lockhead è di una semplicità incredibile in parole povere noi possiamo dire alla mia io posso dire alla mia scimietta che nel tentativo di seguire l'oggetto target che il nome non può andarsi a non può ruotarsi lungo l'aste delle z quindi non può alzare il viso non può ruotarsi lungo l'aste delle y oppure non può ruotarsi lungo l'aste delle x attenzione perché se l'asse lockhead e l'asse in track sono le medesime quindi se in lockhead axis selezionate la stessa asse che selezionate in track il vincolo non funziona più quindi se in track axis seleziono y e in lockhead axis può selezionare solo x o z l'asse che seleziono in lockhead è l'asse lungo la quale la mia scimmia non può ruotarsi nel tentativo di seguire il vincolo per esempio se seleziono z la mia scimmia non può alzare il collo per andare dietro al mio vincolo se invece seleziono hits la mia scimmia non può non può ruotare non può ruotare la testa per inseguire il mio target in altre parole è l'asse lungo la quale la mia scimmia non si può muovere andiamo a fare una breve selezionazione pratica premendo AH e andando a capire meglio andiamo a creare un piccolo cerchio adesso andiamo in edit mode selezioniamo i vertici con uno F cioè non selezioniamo andiamo in selezioni i vertici con uno ed F per condire le facce adesso premiamo E ed estrudiamo e ovviamente dobbiamo andare adesso ad utilizzare il comando invert e per estrudere nuovamente vengo a che questa faccia la scalo un pochino e ancora una volta e ancora una volta hits faces adesso ho questa semplice mesh che è una mesh non manifold ma gli vado ad applicare un indispensabile solidify che la rende manifold per così dire adesso applico un bello shade smooth a cui però non può mancare un bello edge split questo è la prima fase del nostro lavoro adesso andiamo ad aggiungere un altro cerchio lo scalo lo scalo per renderlo molto più piccolo vado in edit mode con il tasto tabulatore e premo E Z per estrudere e premo F per unire queste facce adesso 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 magari rendo momentaneamente invisibile l'altro cerchio per vedere meglio valo in due per la selezione spigoli seleziono tutti questi vertici c'è tutti questi spigoli scusate e premo E scusate premo E hits in questo modo e adesso questi spigoli di collasso con M collapse adesso seleziono tutti questi altre facce e premo anche qui il tastino E magari se vogliamo essere precisi ricercoliamo le normali li rivediamo in cerchio di poco fa anche qui applichiamo uno shade smooth a cui non può mancare un bello edge split adesso questo oggetto lo rinominiamo in bussola e questo oggetto lo rinominiamo in perno non è necessario creare ulteriori ulteriori non è necessario essere ancora più precisi perché tanto è solo un semplice esempio mettiamo che questo mettiamo che questo empty sia il magnete della bussola quindi lo rinomino in magnete io voglio che l'ago vada dietro al mio magnete e come faccio semplicemente aggiungo un constraint e ci verrebbe da inserire un bel damped track con damped track se io muovo il mio magnete l'ago gli va dietro andiamo a controllare quale asse del lago dobbiamo orientare in modo che il lago sia in direzione del magnete cambiamo le impostazioni vediamo che se io inserisco l'asse delle hits il lago è effettivamente puntato in direzione del magnete adesso se io sposto il mio empty lungo l'asse delle y o delle hits ottengo quello che voglio ma appena lo vado a spostare lungo l'asse delle z beh non ottengo più beh anche il mio magnete cioè anche l'ago della mia bussola va a spostare va a ruotarsi per seguire il mio magnete quando lo alzo lungo l'asse delle z ma non è quello che voglio un ago di una bussola se io il magnete lo alzo lungo l'asse delle z l'ago della bussola dovrebbe rimanere fermo e per farlo basta che io invece del damped track inserisco un pochino più avanzato l'ocked track scegliamo sempre l'asse delle hits che abbiamo visto che va bene e diciamo qua che se io lo sposto lungo l'asse delle hits se io prendo il mio target il mio magnete lo sposto lungo l'asse delle hits beh il magnete si deve spostare lo sposto lungo l'asse delle hy e l'ago si deve spostare lo sposto lungo l'asse delle hy e il magnete e l'ago gli deve andare dietro l'ago della bussola non deve andare dietro al mio magnete se lo sposto lungo l'asse delle z e perciò il located arcis deve avere l'asse delle z in altre parole se ho selezionato l'asse delle hits il mio il mio ago il mio perno non va dietro il mio magnete quando lo sposto lungo l'asse delle Y se ho selezionato Y il mio perno non va dietro il mio magnete quando lo sposto lungo l'asse delle Y vedete? se invece seleziono Z il mio perno non va dietro il mio magnete quando ho sposto il mio magnete lungo l'asse delle Z attenzione perché se l'asse intracrezzis e logedatris sono la medesima l'icona del constant diventa rosso e perciò il constant non funziona più quindi io voglio che se sposto il mio empty lungo l'asse delle Y il mio perno non si vuoti basta che in logedatris metto Y voglio che se muovo il mio empty lungo l'asse delle Y il mio perno non si muove potrei mettere in logedatris Y ma così facendo il modificatore non funziona più voglio che se muovo il mio magnete lungo l'asse delle Z il perno non gli va da dietro basta che logedatris metto Z e infatti adesso il mio risultato è eccellente premo AH per nascondere tutto e questo era il semplicissimo logedatrack e così già abbiamo quasi finito la colonna del tracking ci mancano lo stretch2 e il track2 lo stretch2 essenzialmente è anche su simile al damped track però anche su un valore aggiunto con stretch2 quando il mio oggetto avente il constraint si rivolge in direzione dell'oggetto target quando ci accade con stretch2 quando l'oggetto avente il constraint si allunga in direzione dell'oggetto target cerchiamo di capire molto meglio inseriamo per esempio una bellissima sfera e la ruotiamo di 90 gradi lungo l'asse dell'ellipsino premendo l'ellipsino 90 gradi in questo caso ci vedrei bene anche un modificatore di tipo wireframe che ottengo questo primo risultato adesso faremo una bella esercitazione un cui ottimo titolo potrebbe essere marial effects cioè effetti mariali inseriamo un altro empty come questo e adesso alla mia sfera inserisco un contrast di tipo già vediamo che c'è qualche altra opzione stretch2 vado a selezionare il mio empty e adesso anche lo stretch2 fa in modo che un'asse una singola asse locale della mia sfera sia rivolta in direzione del mio empty tuttavia notiamo subito che all'interno del constraint stretch2 non abbiamo l'opzione trick axis cioè non abbiamo una matrice che ci permette di decidere quale asse locale del mio oggetto deve essere diretta in direzione del mio empty questo perché in ogni caso sarà sempre l'asse delle y locale l'asse delle y locale del mio oggetto avendo il constraint essere diretta in direzione del empty cioè io non ci posso fare niente sarà sempre l'asse delle y locale essere diretta in direzione del empty ma se io volessi che fosse per esempio un'altra parte della sfera ad essere diretta in direzione del empty per esempio il polo non posso cambiare il fatto che sia l'asse delle y locale ad essere diretta in direzione del mio empty però posso cambiare quale sia la parte della sfera che coincide con l'asse delle y locale mi spiego se adesso vado in edit mode posso ruotare la mia sfera senza preoccuparmi di andare a modificare il sistema di riferimento se adesso premo RZ 90 gradi invio faccio in modo che la sfera rispetto a tutti i vertici della sfera rispetto al sistema di riferimento locale siano ruotati di 90 gradi in questo modo adesso è il polo della mia sfera ad essere diretta in direzione del empty cioè non posso cambiare quale è l'asse locale della mia sfera ad essere diretta in direzione del empty tuttavia posso tuttavia mi basta inserire l'empty nella posizione appena ho inserito lo stretch tool prima di fare qualunque modifica vado a ruotare la posizione di tutti i vertici della mia sfera in modo che si trovano appunto nella posizione voluta in relazione all'empty in questo modo adesso proprio come volevo è il polo della mia sfera ad essere diretto in direzione del mio empty tuttavia notiamo subito che se io si sempre se lo vado a spostare l'empty si sposta nella direzione la sfera ruota per andare in direzione del mio empty tuttavia tuttavia tende a tende a tuttavia se io allontano il mio empty la sfera subisce uno stretch mentre se lo avvicino la sfera viene schiacciata è come se l'azione di seguire l'empty comportasse uno schiacciamento di questo mio oggetto sferico e questo magari è un effetto che a me visivamente ricorda molto il risultato di un'interazione mareale tra dei corpi celesti comunque vediamo che nello stretch 2 abbiamo tantissime opzioni molto importanti la primissima opzione è forse la più importante di tutte cioè la original length la lunghezza originaria cosa vuol dire original length semplicemente la distanza che ci deve essere tra l'oggetto avanti lo stretch 2 e l'oggetto target perché l'oggetto avanti lo stretch 2 non venga deformato detto in parole povere quanto deve essere lontano l'oggetto target in modo che in modo che la mia sfera non venga né allungata né schiacciata lo scegliamo con original length vediamo che ha molto importanza questo bottoncino con la hits perché se io lo premo Blender va a vedere qual è la distanza tra la mia sfera e il mio target e imposta questa distanza come original length quindi se io lo premo la distanza che esiste in questo momento tra sfera e target è diventata la lunghezza che deve esistere perché la sfera non venga deformata e infatti adesso non viene più deformata però continuo non viene più deformata quando gli oggetti si trovano a questa distanza resta sempre vero che se io avvicino il mio empty la sfera viene schiacciata se io lo allontano subisce uno stretch detto in parole povere questa è la distanza in cui si deve trovare l'empty perché la sfera non venga né schiacciata né né allungata se io premo la hits viene automaticamente impostata come questa distanza la distanza a cui stavano in questo momento l'empty e la mia sfera molto utile comunque questa lo schiacciuto lo trovo molto molto utile come constraint perché ha molte particolarità cioè è molto perché in alcuni casi ci permette di effettuare delle modifiche con altri constraint sarebbero al dir poco impossibili influenza ovviamente l'influenza del constraint però ormai questi valori li conosciamo abbastanza bene abbiamo volume variation cioè quanto consentiamo al volume di variare e poi abbiamo due aumentando questa sarebbe la variazione del volume a parità di distanza dell'oggetto target magari un pochino più sempre molto importanti volume min e volume mass che ci promettono di impostare un valore di volume minimo e massimo cioè un volume minimo sotto il quale l'oggetto non può andare a un volume massimo che può ottenere perché ovviamente andando ad avvicinarlo allontanare l'empti si creano variazioni volumetriche con smooth posso creare una smooth satura al mio oggetto che può correggere eventuali artefatti provocati dal constraint comunque vediamo che questo crea si delle delle variazioni volumetriche molto importantissima l'opzione rotation che ci permette di dire a blender lungo quali assi può ruotare la mia può ruotare questo mio oggetto per fare in modo che si diriga in direzione per fare in modo che la sua asse delle ip non locale sia diretta in direzione del target se io inserisco iz z prima ruota il mio oggetto lungo l'asse delle iz e poi lungo l'asse delle z per farlo concedere col target se invece inserisco z iz prima ruota lungo l'asse delle iz per poter concedere col target quindi fa il contrario con iz z prima lui mi! luota lungo l'asse delle iz e poi lungo l'asse delle iz per fare in modo che la sua essere le y non sia diretta verso il target e con z fa la cosa contraria vediamo che ci sono delle leggere differenze a livello di lavoro invece swing ignora a livello di votazione al sistema di riferimento semplicemente compie la votazione di breve possibile ed è magari il sistema più comodo in ogni caso per quanto lo stretch tool sia anche famoso perché può comportare delle variazioni a livello volumetrico ci interessa il blender comunque sia tende a effettuare delle piccole modifiche che mantengono il volume magari non proprio in modo rigoroso però tendono a ridimensionare la mia mesh per fare in modo che la variazione volumetrico rientri nei parametri stabiliti praticamente se in mountain volume abbiamo non blender non fa minimamente tutto ciò cioè se in mountain volume abbiamo non blender non si preoccupa minimamente di ristrutturare la mia mesh per fare in modo che la variazione volumetrica sia minimizzata mettendo la non quando l'empty e lontano la mia mesh si allunga e basta non è che viene proprio non è che viene tirata e strecciata con non viene solo scalata ma non tirata infatti con non non c'è nessuna c'è la variazione volumetrica massima la mia mesh viene solo scalata lungo l'asse dell'its non locale e basta non è che viene allungata nel vero senso della prova viene solo scalata invece se io consentivo sia lungo l'asse delle hits che lungo l'asse delle z locali di ridimensionare la mia mesh per per minimizzare la variazione volumetrica quindi se selezionava questa opzione blender lo scalava sia lungo l'asse delle hits che delle z locali per minimizzare la variazione volumetrica e questo creava un effetto che non ricordava lo skilling ricordava un allungamento magari se voglio creare qualcosa che ricoglie un effetto mareale questo risultato è molto molto più bello a parer mio però abbiamo anche due opzioni mediane per esempio con hits io consento blender di scalare il mio oggetto lungo l'asse delle hits locale per minimizzare la variazione volumetrica ma non lungo l'asse delle z locale con z io consento il mio oggetto di scalare consento blender di scalare il mio oggetto lungo l'asse delle z locale per minimizzare la variazione volumetrica ma non lungo l'asse delle hits ecco essenzialmente quello che ci serve sapere del constraint stretched to ah per nascondere e vediamo adesso l'ultimo constraint della colonna tracking, dopo dobbiamo vedere le relation, il constraint relationship, un paio di opzioni relative ai constraint in generale e poi vedremo il buon constraint che ci vorrà un attimo perché sono quasi la stessa cosa dei constraint, c'è solo qualche piccola differenza e anche per oggi abbiamo finito, andiamo a vedere il constraint track 2, per farlo andiamo a creare sempre, a fare lo stesso esempio di prima c'è una scimmietta a cui magari inserisco anche un modificatore subsurf con tre subdivisioni che applico uno shade smooth, male non fa mai, ed inserisco adesso un bel empty, tipo play nazis, potete sempre inserire l'empty che preferite se non vi ricordate che sono gli empty andate a rivedere la relazione relativa all'inizio di questo corso ora, il constraint track 2 è in realtà relativamente simile al damped track, cioè come il damped track fa in modo che una determinata asse locale della mia amica sia puntata in direzione di un altro oggetto la grande particolarità del track 2 è che è infinitamente più avanzato vediamo sempre che ci permette di selezionare un oggetto target verso il quale la mia scimmia si rivolgerà e mi permette sempre di selezionare quale asse locale della mia scimmia dovrà essere direto in direzione del target io adesso sposto l'empty ma vedo che non cambia niente perché il constraint non sta funzionando mi dà un errore e per capire il perché dobbiamo andare a capire l'opzione up in realtà il campo di con tre cazzi se noi scegliamo quale asse locale dell'oggetto deve essere diretta verso l'alto deve essere diretta verso l'oggetto target al momento quando sto utilizzando il constraint contro il cazzi se un'altra opzione in più che ci permette di essere molto più precisi è l'opzione up che è proprio il fiore all'occhiello del track 2 semplicemente ci permette di dire quale asse locale del mio oggetto non deve essere diretta verso l'alto ma deve essere, non deve essere diretta, scusate, verso il target ma che deve essere diretta verso l'alto quando applico il constraint mi spiego meglio contro i cazzi se quale asse locale del mio oggetto deve essere diretta in direzione dell'oggetto target così come anche nel, così come vedevamo anche nel damped track o nel locked track il track 2 però ci mette anche a disposizione up axis cioè l'asse locale della mia scimmia che è il più possibile, che è più vicina all'essere parallela con l'asse delle zeta globale in questo momento il constraint non funziona perché asse selezionate in track, in up sono la medissima asse e questo non è ovviamente possibile io voglio che l'asse locale della mia scimmietta puntato verso l'alto sia l'asse locale delle zeta lo vado a selezionare e adesso il constraint funziona benissimo se sposto il mio empty ottengo il risultato che desidero quindi andiamo vediamo che se io invece passo in up a hits cambio qual è l'asse locale della mia scimmietta ad essere puntata verso l'alto ed è per questo che il track 2 è più preciso perché ci mette a disposizione anche questa opzione possiamo sempre decidere quale asse locale della scimmietta deve essere puntata verso il target ma in up possiamo anche decidere quale asse locale della scimmietta deve essere puntata verso l'alto ricordatevi sempre è importantissimo che l'asse in track axis e in up axis devono essere assi distinte in questo modo con zeta e hits cambiandole posso cambiare il risultato che vado ad ottenere se inserisci y avrei selezionato la stessa asse che ho in trick axis e quindi il constraint smetterebbe di funzionare sinceramente devo ammettere che il track 2 è uno dei constraint che in assoluto utilizzo di più perché rispetto al damped track magari un po' più preciso perché ci dà appunto in più questa opzione up e invece il lock and track stretch 2 come abbiamo visto si utilizzano proprio in condizioni a sé che magari non sono comuni quanto semplicemente vuole rivolgere un oggetto in direzione di un altro abbiamo sempre un'opzione di regolazione delle influenze possiamo sempre decidere se utilizzare un sistema di riferimento globale o locale per l'oggetto target e per l'oggetto a cui applico il constraint infine magari interessante l'opzione target hits che è semplicemente se in up dobbiamo selezionare l'asse che è più vicino all'essere parallela all'asse delle z globale se selezionate target hits l'asse in up non sarà più l'asse più vicino all'essere parallela all'asse delle z globale ma sarà l'asse più vicino all'essere parallela all'asse delle z locale dell'oggetto target cioè dell'empty fate comunque qualche prova il grande vantaggio del track 2 è che è estremamente preciso io lo utilizzo molto anche per gli oggetti camera per esempio immaginiamo di animare questa scimmietta i location vado adesso all'ultimo fotogramma della mia animazione sposto la mia scimmietta e vedo che spostandola essa continuerà sempre a guardare il mio oggetto target l'inseris.frame la scimmietta si muove e continua ad osservare l'oggetto target ma non solo se io aggiungo una camera vado in vista camera view camera to view per andare a modificare la camera to view che ci permette essenzialmente di modificare la nostra camera semplicemente ruotando la vista camera to view io magari seleziono la mia camera e aggiungo la mia camera un constraint track 2 e seleziono la mia scimmietta in questo modo quando la scimmietta si andrà a muovere la camera sarà sempre diretta in direzione di essa facciamo partire l'animazione e vedo che quando la scimmietta si muove la camera sarà sempre diretta in direzione della scimmietta perché alla camera ho assegnato il constraint track 2 questo è uno degli utili oppure meglio ancora se io ho un altro bel trucchetto se io alla scimmietta come target invece dell'empty avessi selezionato la camera avrei fatto in modo che comunque la scimmietta nel corso dell'animazione qualunque movimento io possa andare ad applicare avrebbe sempre guardato dritta in faccia la mia camera e questo è quello che ci interessa del track 2 bene continuiamo andando a vedere i constraint di relationship quindi abbiamo quest'ultima colonna di constraint chiamata relationship andiamo a vedere i segreti che visti c'erano AH per nascondere tutto e vediamo che il constraint action essenzialmente ci permette di associare un'azione dell'oggetto a cui applico il constraint ha un movimento di un altro oggetto cerchiamo di capire come andiamo intanto a ricordarci cos'è un'azione apriamo il nostro dopsheet e passiamo dal dopsheet vero e proprio all'action editor bene adesso aggiungiamo un oggetto qualsiasi per esempio per esempio per esempio per esempio per esempio per esempio una sfera UV e in questo momento ovviamente di azioni non ci ne sono andiamo ad animare la sfera UV inseriamo un keyframe al primo fotogramma andiamo all'ultimo fotogramma spostiamo la mia sfera inseriamo un nuovo keyframe e adesso essenzialmente vediamo che in questo pannello dell'action editor vedo che si è creata un'azione ma quindi cos'è un'azione? un'azione è essenzialmente un insieme di keyframes quindi in altre parole tutti i keyframes che io vado ad aggiungere vengono inseriti ogni keyframe fa parte di un determinato gruppo di keyframes questo un gruppo di keyframe si chiama azione questa azione la rinomino muoviti lungo l'asse delle hits e adesso appunto il nome dell'azione è diventato muoviti lungo l'asse delle hits quindi ogni volta che create una sequenza di keyframes composta da uno o più keyframes questa sequenza che potete anche andare ad editare aiutandovi con il graph editor un insieme di keyframes composto da uno o più keyframes va a costituire un'azione quindi un'azione è qualcosa di composto da più keyframes qui potete rinominare l'azione cliccando qui avete l'elenco di tutte le azioni quindi di tutti gli insiemi di keyframes della vostra della vostra animazione della vostra scena in più se aprite l'nla editor e premete push down o da qui o da qui l'azione si trasforma in una track di nla ma non è questo che vogliamo fare quindi chiudiamo l'nla editor chiudiamo il top sheet che in questo caso non è necessario la timeline la teniamo sempre aperta perché è lo strumento più efficiente per navigare nel corso della linea temporale e l'action editor mi va bene anche un pochino più piccolo adesso andiamo a vedere cosa fa il constraint action action ovviamente è una parola inglese che vuol dire azione se io posso fare in modo che quanto è avanzata la sfera nel corso della nel corso di questa azione lo posso decidere immediatamente il movimento di un altro oggetto movimento rotazione quindi per esempio io voglio che se un altro oggetto è molto ruotato la sfera si trovi all'inizio di questa sequenza di movimenti se è molto poco ruotato la sfera si troverà all'inizio della sequenza di movimenti se invece di molto poco è molto ruotato la sfera si troverà alla fine di questa sequenza di movimenti vediamo come posso fare ciò in primo luogo alla sfera andiamo ad eliminare l'azione tuttavia se io tuttavia vi faccio notare che questa azione adesso è diventata un'azione orfana cioè un'azione che non è assegnata a nessun oggetto ogni volta che qualcosa non è assegnato a nessun oggetto questa cosa si prende il nome di oggetto orfano ricordatevi che gli oggetti orfani sono un grande problema all'interno di blender perchè se io adesso chiudo blender e poi lo riapro tutti gli oggetti orfani sono spariti quindi se io adesso elimino l'azione essa diventa orfana cos'è un'azione orfana? un'azione si dice orfana se non è assegnata a nessun oggetto quindi adesso questa azione diventa orfana e se è orfana quando chiudo blender questa verrà cancellata per evitare che venga cancellata la devo trasformare in un fake user cioè in un dato che anche se è orfano non viene cancellato per farlo basta che prima di cancellarla io ability questi concina e adesso lo posso fare più tranquillamente vediamo che adesso la mia sfera se faccio scorrere la mia timeline è immobile perchè io ho eliminato la mia azione la potrei andare a riselezionare ma non è quello che voglio fare in questo momento andiamo in object constraint e alla sfera aggiungiamo il constraint action il constraint action ci permette di andare a il constraint action essenzialmente ci permette di andare a fare in modo che la rotazione o la posizione di un altro oggetto vada ad influire su quanto la sfera è avanzata in una determinata sequenza temporale di una determinata azione che possiamo scegliere nel menu action vediamo come fare in primo luogo dobbiamo inserire un oggetto che vada ad influenzare la mia sfera per esempio un empty adesso questo empty andrà ad influenzare quanto la sfera è avanzata nell'animazione in target quindi devo selezionare il mio empty che rinomino in action control adesso però vedo che l'icona del constraint è ancora rossa voglio dire che c'è ancora qualcosa che non va essenzialmente non ho detto qual è l'azione che voglio che il mio empty mi vada a controllare per esempio è l'azione muoviti lungo l'asse delle hits per farvi un esempio adesso qui posso andare a scegliere quale proprietà dell'empty che deve influire sull'avanzamento della mia della mia sfera lungo l'azione quindi in questo caso più io ho selezionato its location in teoria ancora non vediamo nessun effetto ma tra poco capiremo perchè con its location più io sposto il mio empty lungo l'asse delle hits più la sfera avanzerà lungo l'azione con invece per esempio z scale più scalo il mio empty lungo l'asse delle z più la sfera aumenterà lungo l'animazione cioè più la sfera andrà avanti lungo l'animazione iniziamo per esempio z location in modo che più io trascino in alto il mio empty più la sfera scorrerà lungo quell'azione tuttavia non succede niente questo è dovuto alle maledettissime opzioni range minimo e range massimo cioè blender andrà a considerare il movimento barra la rotazione barra la scala del mio empty solo se questi dati che lui va a considerare sono compresi tra le opzioni di range minimo e range massimo ricordatevi se il range minimo e il range massimo sono tutte 2 a 0 il vostro lavoro non funziona perchè blender andrà a considerare la proprietà scelta in channel solo e solo se il suo valore in questo caso l'altezza lungo l'asse delle z è compreso tra 0 e 0 cioè solo se è uguale a 0 se è uguale a 0 però la mia sfera non avanza lungo l'animazione quindi per risolvere basta che io alzi il valore mass e abbassi il valore min riproviamo un'altra volta e vedo che ancora non funziona perchè? perchè abbiamo lo so perchè abbiamo anche due opzioni anch'esse molto fastidiose che sono le opzioni frame start e frame end cioè io devo andare a specificare a blender qual è il primo dove inizia e dove finisce questa azione cioè in quale frame è il primo keyframe dell'azione e in quale frame è l'ultimo keyframe dell'azione in questo caso il primo keyframe è il frame 1 l'ultimo keyframe è il frame 250 adesso vedo che se io sposto il mio empty lungo l'asse delle z finalmente cambia l'avanzamento della sfera lungo l'animazione posso anche cambiare quale proprietà va a influire sull'avanzamento della sfera lungo l'animazione per esempio la location lungo l'asse delle y adesso più io sposto il mio empty lungo l'asse delle y più cambia l'avanzamento della sfera lungo l'animazione oppure posso inserire its scale adesso più scalo il mio empty lungo l'asse delle hits più la sfera avanzerà lungo l'animazione questo visto così può non sembrare molto utile ma il grande vantaggio è ma a parte l'opzione di influence che ci permette di regolare l'influenza del constant il grandissimo vantaggio è quando le azioni sono molto più complesse facciamo un bellissimo esempio pratico creiamo un oggetto che possa ricordare un meccanismo anche qualcosa che ricordi tipo uno qualcosa di sci-fi fantascienza cosa del genere che è un po' il mio genere perché lo space vfx quindi gli effetti speciali dello spazio sono magari l'ambito del CGI dove io personalmente sono un pochino più specializzato aggiungiamo un empty piano modificatore mirror importantissimo mirror object questo empty che non posso esentare dal rinominare in mirror control adesso magari andiamo a clipping a scalare un pochino il mio piano comunque a editarli un poco per esempio scallo lungo l'asse delle z s adesso andiamo ad editare come più possiamo e adesso un nuovo comando all'interno di blender io vorrei riestrudere questa faccia di tanto quanto ho istruso quella precedente cioè sempre di 0.80512 quindi vorrei ripetere l'ultima azione per rifarlo shift r mi ripete l'ultima azione che ho effettuato è una funzione di blender forse non conosciutissima ma di una grande utilità adesso prendiamo l'ultima faccia ricreata prendiamo questo spigolo e lo portiamo un pochino più in basso adesso seleziono questa faccia e it's per l'estrusione adesso la voglio rendere piatta quindi s it's cioè l'asse perpendicolare alla faccia che voglio ottenere 0 invio sposto ancora fino a fondere con il corrispettivo speculare spostiamo un po' lungo quest'asse e questa sarà un pochino la base del mio del mio portone adesso seleziono con adesso valendo selezioni spigoli con shift alt seleziono tutti questi spigoli adesso adesso magari ogni loop lo scalo attorno all'origine individuale e premo s per scalare questo questo è solo per renderlo magari un pochino più complesso eh sono solo degli esempi per renderlo più interessante poi ovviamente fate le prove che volete allora adesso io premo i per il comando di insert sposto questa faccia in questo modo e adesso si crea questa separazione quindi questa faccia che non voglio per il media basta premere its faces magari seleziono con alt click tutto questo loop di spigoli e direttamente ctrl z per dissolverlo ho proprio anche its per eliminare lo spigolo its ages ok l'abbiamo eliminato quindi prima ho eliminato la faccia poi è rimasto lo spigolo e ho eliminato lo spigolo ecco adesso come centro di scala magari inserisco il cursore 3D in basso no scusate me lo ripongo il cursore 3D in questo punto e scalo un poco magari io vorrei andare a creare una specie di piccolo meccanismo andiamo a vedere come potrei fare riposizioniamo il cursore nella posizione originaria aggiungiamo un piano destrudiamo e scagliamo adesso premiamo e adesso effettivamente andiamo a destrudere adesso ricordiamoci magari di il calcolare dei normali in questo caso va fatto e abbiamo creato questo che potrebbe essere essenzialmente il portone di questo di questa porta adesso magari andiamo a creare una semplice azione magari per esempio andiamo a tagliare in questo modo il nostro portone selezioniamo wireframe mode 3 per la selezione facce select box per la selezione a riquadro e selezioniamo tutte queste cose tutte queste facce e premiamo P selection per separare adesso abbiamo separato le due parti della mia mesh adesso questa la cancello e anche qui inseriamo un bel mirror e in mirror object selezioniamo il nostro mirror control questo è un mirror control quindi mirror control 001 adesso premiamo GZ e vedo che se premio GIZ e vedo che se premio GIZ la mia porta si apre seleziono i vertici seleziono tutti questi vertici e premo F adesso GIZ per fare aprire la mia porta per sbaglio ho annullato con CTRL Z l'unione di questi vertici in una faccia adesso inseriamo anche un bel constraint limit location e in minimum ETS inseriamo 0 in questo modo non posso trascinare lungo l'asse delle ETS oltre la posizione 0 quindi oltre alla posizione in quella porta chiusa già paricchiuti già notiamo paricchiuti di Z dei constraint selezioniamo questa faccia premiamo I per il comando di insert S per scalare un poco ed estrudiamo adesso magari questi due oggetti li uniamo con i booleani quindi inseriamo un bel boolean alla nostra porta al nostro portone e andiamo ad inserire appunto la parte apribile che ho rinominato in porta e la seleziono adesso display as bounds e adesso se io display as bounds qui mi ricordo di inserire nel booleano l'opzione union e adesso se io seleziono la porta che vedo come un reticolo premo G ETS e la posso aprire inserisco anche una posizione massima lungo l'asse delle ETS e quindi per esempio non voglio poterlo muovere lungo l'asse delle ETS oltre la posizione 2.17 quindi in massimo ETS metto 2.17 adesso non lo posso più muovere oltre la posizione 0 in cui la porta è chiusa oltre la posizione 2.17 alt G per annullarla gli spostamenti ecco essenzialmente è già qualcosa di molto 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 interessante magari sì possiamo anche benissimo che ne so andare ad aggiungere qualche altro particolare fate qualche esperimento magari andiamo ad arricchire un pochino la nostra mesh per poter creare qualcosa di un filino più complesso per esempio S Shift Z su questo cilindro per diminuire negli agio ma lasciarne costante l'altezza adesso inseriamo un bel booleano con differenza e seleziono il cilindro che faccio tornare in display as bounds e poi il cilindro per essere precisi lo inserivo con uno shade smooth e un modificatore edge split adesso lo scalo lo scalo lungo l'astrile le z prende più profondo il buco e adesso utilizzo un array in factor it's inserisco un bel 2 e duplico adesso cioè aumento il count adesso io vorrei che il io adesso vorrei che la simmetria del mio che il modificatore mirror influisca anche sull'aggiunta di questi buchi qui in alto in modo da renderli simmetrici quindi magari prendo semplicemente questo nuovo boolean con il difference e lo metto come primo oggetto magari si crea questo piccolo artefatto prima di risolverlo con self che spesso va a risolvere eventuali problemi self all tolerant per risolvere magari il problema in questo modo ok si si mantiene questo piccolo problema allora torno al mio oggetto cilindro iniziale applico il modificatore array seleziono seleziono tutto e seleziono questo cilindro premendo L e lo separo con P selection in questo modo questo cilindro diventerà un oggetto a parte che potrò andare a a risottrare al mio portone con un nuovo booleano a differenza completamente separato comunque comunque dovevo andare comunque a rendere separati tutti questi tutti questi cilindri perché adesso cercheremo un constraint di un bel constraint di tipo copy scale quindi con L seleziono anche questo P selection L P selection ma in modo ancora più semplice P by loose parts in modo da separare le singole isole ma adesso li seleziono tutti e inserisco set origin origin to geometry tuttavia adesso devo reinserire nuovi booleani tuttavia adesso ovviamente nei booleani io cito solo due cilindri quindi adesso devo andare a reinserire altri booleani quindi eh lo so andiamo a reinserire dei booleani quindi per esempio booleano object seleziono questo e lo inserisco prima del mirror in modo che la simmetria lo vada ad influenzare nuovo booleano seleziono seleziono questo ma siccome ci deve selezionare il cilindro giusto ok seleziono questo lo inserisco prima del mirror in modo che la simmetria del mirror lo vada ad influenzare vedo che comunque vedo che come sistema è un po' artificioso allora per rimediare è magari un pochino più semplice eliminare tutti questi booleani inutili quindi prendere questi cilindri muoverli in una nuova collezione chiamarla differenza e inserire qui un unico booleano anche questo non mi serve più elimino tutti i anzi questo booleano questo booleano della porta mi serve qui inserisco un unico booleano dove cito una collezione e scelgo la collezione differenza funziona alla perfezione magari muovo anche questo cilindro e la collezione differenza e per fare in modo che la simmetria abbia effetto la sposto per sposto questo booleano prima del mirror tuttavia si creano sempre problemi con questo cilindro questo proprio causa in realtà della simmetria perché in questo caso il cilindro viene questo cilindro particolare viene sottratto due volte dalla mia mesh la prima volta viene sottratto con il booleano e la seconda volta quando io vado ad applicare il mirror dato che il mirror si trova dopo il booleano il booleano viene influito dalla simmetria del mirror e quindi dato che questo cilindro è perfettamente allineato all'empty mirror control alla fine viene sottratto due volte allora per rimediare essenzialmente mi basta eliminarlo dalla collezione differenza quindi quindi premiamo quindi quindi lo elimino dalla collezione differenza lo reinserisco nella collezione di default e reinserisco un nuovo boolean a parte tutto per lui che lascio dopo il mirror perché su questo cilindro la simmetria non deve agire perché dato che è allineato all'empty alla fine avrebbe sottratto due volte e questo creerebbe dei problemi in questo modo io sottraggo tanti cilindri con il numero minimo di booleani però sono tutti cilindri separati allora andiamo a vedere come posso andare a allora andiamo a vedere una cosa interessante che posso fare questi sono tutti esempi per fare qualcosa di interessante prendo tutti questi cilindri utilizzo come sistema di riferimento le origini individuali di ciascuno premo shift d invio no l'ho spostato per sbaglio premo shift d invio e li scalo qui disposto in una nuova collezione chiamata cilindri e questi li rendo normalmente visibili perché non non sono citati in un booleano quindi test ured 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 e test ured 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 sulla scala, quindi a questo cilindro inserisco un copy scale constraint, seleziono quest'altro cilindro e in power inserisco 1.2, in questo modo se io scalo lungo l'asse delle z, questo cilindro, quello a lui accanto verrà scalato di più, perché in power ha un valore superiore ad 1, quindi rimetto 1.5 per aumentare la differenza, ok non male, magari questo cilindro in elite mode lo rende un pochino più piccolo, adesso andiamo ad aggiungere un nuovo constraint a quest'altro cilindro, seleziono sempre quest'altro e invece di power a 1.5 la inserisco a 2, qui la inserisco a 2.5 e seleziono sempre questo cilindro, qui la seleziono sempre copy scale a 3 e seleziono questo cilindro, infine copy scale a 3.5 e seleziono questo cilindro, adesso premiamo SZ, gli altri cilindri verranno scalati di più, adesso andiamo a, e questo è semplicemente che è solo quello che volevamo fare per creare una scena interessante, una scena interessante adesso al primo fotogramma, alla porta, inserisco un fotogramma alla location invece a questo, 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 questo e questo cilindro inserisco un keyframe alla scala adesso andiamo al centesimo fotogramma, seleziono sempre la mia porta e la sposto lungo l'asse dell'eliz fino all'apertura massima ed inserisco un keyframe alla location adesso questo cilindro lo scala lungo, premiamo SZ per scalarlo lungo l'asse dell'eliz ed inserisco un nuovo keyframe, ed inserisco il keyframe alla scala andiamo ad osservare il risultato in cento frame, ottengo questo interessantissimo effetto poi questi due cilindri creano una penetrazione qui in basso magari posso provare a risolvere inserendo magari un semplicissimo cubo che sarà invisibile nel rendering, è solo un riferimento con display as bounds lo scalo in questo modo e per evitare che i cilindri penetrino metto a tutti un bel modificatore di boolean differenza in cui seleziono questo cubo non è proprio fisicamente corretto rischiamo che il risultato è un po' irrealistico però pazienza dai bene, andiamo ad osservare il risultato e vediamo che se io adesso faccio partire la mia animazione la porta si apre e queste canne si alzano non c'era qualcosa in particolare da rappresentare era solo un esempio questa è la nostra azione che coinvolge in realtà tutti questi oggetti quindi sia la porta che il cilindro nella azione della porta la rinomino apertura porta e invece questo cilindro la sua azione la rinomino alzatura canne magari vediamo che in questi tre cilindri l'aggiunta del nuovo booleano ha influenzato l'ombreggiatura quindi magari un altro edge split male non fa possiamo anche concentrarci sulla scalatura solo di questo cilindro perché tanto è la scalatura di questo cilindro ad andare ad influenzare quella di tutti gli altri allora io adesso mettiamo che io crei una piccola leva quindi aggiungo un cerchio ry 90 gradi per votare di 90 gradi lungo l'asse delle y s per scalare e magari partiamo da qui per creare una leva tab per l'edit mode 1 per la selezione vertici shift z per la wireframe mode selezioniamo tutti questi vertici e premiamo its vertices adesso andiamo in edit mode a per selezionare tutto e its per estrudere lungo l'asse delle its adesso premiamo i per il comando insert ed e per una nuova estrusione ed s per scalare inseriamo un semplice shade smooth ancora andiamo ad applicare un nuovo edge split andiamo in edit mode shift z 1 selezioniamo tutti questi vertici f selezioniamo tutti questi vertici f e questo è un buon risultato di modellazione adesso inseriamo un cilindro aumento la depth ma abbasso il radio forse la depth così è anche troppo alta inseriamo uno shade smooth ed inseriamo un edge split adesso inserisco il cursore in questo punto equivale in set origin origin to 3d cursor in questo modo se ruoto lungo l'asse delle its questo cilindro si ruota esattamente come una leva che è ciò che io voglio shift z per andare in wireframe mode selezioniamo questi vertici shift s cursor to selected aggiungiamo una semplicissima sfera a cui magari inseriamo un paio di suddivisioni da utilizzare come booleano con la funzione di unione insieme al cilindro prendiamo la sfera e inseriamo la modalità di visualizzazione bounce quindi magari ogni volta che inserite un booleano legge split mettete sempre alla fine di tutto in modo che abbia l'influenza massima e adesso applichiamo il booleano adesso posso anche cancellare questa sfera e adesso posso ruotare la mia leva come preferisco lungo l'asse delle its quindi per poterla ruotare solo lungo l'asse delle its rotation y e z le blocco nel pannello transform e in questo modo se premo r si ruoterà solo attorno all'asse delle its tuttavia io voglio anche limitare questa rotazione e quindi la posso fare con il constraint limit rotation diciamo per esempio che lo rendo un attimo invisibile per vedere i valori voglio che la rotazione voglio che la rotazione massima sia di 65.4 gradi e quella minima di meno 65.4 gradi infatti vedo che 65.4 gradi e meno 65.4 gradi quando la leva raggiunge questi valori di rotazione si trova al limite della zona che può percorrere riazzerriamo il valore di rotation andiamo ad inserire limit its rotation come limite minimo meno 65.4 e come limite massimo 65.4 riabilitiamo il constraint e se adesso premo r posso ruotare la mia leva però solo lungo l'asse its e solo per quanto è compreso tra questi due intervalli molto bene adesso selezioniamo magari questo oggetto andiamo in edit mode selezioniamo questi vertici in basso e premiamo F per unirli e creare una semplice faccia questo sarà un po' la struttura di S per scalare sarà la struttura di la leva che vogliamo usare io praticamente ho creato questo oggetto che rinomino in percorso leva quest'altro oggetto che rinomino in leva io voglio che ruotando la leva si apra la porta come faccio a farlo? utilizzando il constraint action quali sono gli oggetti che si devono muovere perché la porta si apra se voglio che l'apertura della porta sia associata anche alla struttura delle canne devo influenzare sia questo oggetto che questo oggetto e voglio che avanzino lungo l'animazione è creata quando ruota questa leva quindi per prima cosa eliminiamo l'azione vera e propria perché adesso la dobbiamo risettare attraverso la leva tuttavia per evitare che ci si cancelli otteniamo ctrl z due volte per annullare la cancellazione di queste due azioni prima di andare ad eliminare rendiamo la fake user in questo modo siamo sicuri che non si cancellerà mai adesso infatti se vediamo le due azioni alzatura canne e apertura porta sono contrassegnate con una F che vuol dire appunto che non si cancellano che non si cancelleranno mai nel corso neanche se chiudo blender neanche se sono orfane adesso quali sono gli oggetti da influenzare questo e questo facciamolo per un oggetto alla volta prima selezioniamo questo oggetto andiamo ad aggiungere un constraint e scegliamo il constraint action andiamo a selezionare l'oggetto che deve influenzare lo scroller lungo lungo l'azione per esempio la leva clicco con il contagocce e seleziono la leva adesso se io vuoto la leva vedo che non succede niente questo perché non abbiamo settato tutto ciò che c'era da settare quindi per esempio invece di its location voglio che sia la rotazione lungo l'asse della leva a influenzare il movimento del mio della mia porta in più voglio che in più anche questo è molto molto importante voglio che consideri il movimento della rotazione della mia leva non solo se è compresa tra gli 0 e gli 0 gradi ma se è compresa tra i 65 e i 65.4 gradi è ok ma qual è l'azione con cui devo lavorare l'azione in questo caso apertura porte e quanto dura dal primo al centesimo frame adesso se io vado a ruotare la mia leva la porta si chiuderà in particolare se la leva si trova alla fine della sua rotazione la porta è chiusa man mano che io vuoto la mia sfera la mia leva la porta si andrà a aprire vedo quindi adesso che basta selezionare una leva e premere R per andare a cambiare l'apertura di una porta vedo però vedo però vedo però che il risultato va bene anche se la sfera si trova solo ai meno 27.2 gradi di rotazione già la porta è completamente aperta non serve che si apra ancora di più quindi vediamo che non serve che non servirebbe ruotare la leva ancora di più perché a questo livello la porta già è completamente aperta allora basta andare a cambiare quindi diciamo che già la porta è completamente aperta quindi vediamo che già una rotazione più piccola basterebbe ad influenzare la mia la mia porta magari in range massimo mettiamo quindi meno 27.2 per fare in modo che la mia sfera non si possa ruotare oltre i meno 27.2 gradi ok però ovviamente non è un problema posso anche lasciare 65.4 gradi e basta che andandola a ruotare io non la ruoto eccessivamente tuttavia si tratta di non ruotare troppo non è una questione non è un problema anche se lascio 65.4 andiamo a prendere il mio cilindro e facciamo più o meno la stessa cosa inserisco un constraint action inseriamo l'azione che ci interessa quindi in questo caso la salzatura e canne leva its rotation 1 100 e in frame range e frame minimo inserisco anche qui meno 65.4 e magari 65.4 adesso se io ruoto la mia adesso magari se io ruoto la mia leva si apre la porta ma si alzano anche le canne fate magari qualche prova tuttavia è sicuramente molto 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 interessante adesso seleziono tutti questi oggetti li muovo in una nuova collezione che rinomino in porta magari una cosa interessante questi buchi poi sono rimasti vuoti questi che vediamo qui possiamo andare a inserire un modificatore migliore a questi cilindri andiamo a vedere come semplicemente andiamo ad inserire il semplicissimo modificatore migliore ed insieme come mirror object il mirror control punto 001 qui e poi magari lo stesso modificatore mi serve anche per gli altri cilindri quindi seleziono tutti i cilindri quello a cui ho già applicato il mirror lo lascio come cilindro attivo e inserisco control l copia i modificatori e adesso i modificatori vengono totalmente copiati tuttavia ho fatto un errore un errore di ho fatto un piccolo errore di valutazione perché questo è un constant relationship però mi sono sempre mantenuto nella scena tracking invece forse sarebbe stato meglio aprire una nuova scena dedicata ai constant relationship beh non è un gran problema però ok adesso abbiamo questa bellissima scena dove se io vado a ruotare la mia leva si apre la porta e si alzano queste canne simili alle canne di un organo magari posso sempre andare a risettare come valore massimo scusate magari posso sempre andare a settare come valore massimo della ruotazione un valore dove la porta non sporge oltre dove questo oggetto non sporge oltre questo oggetto per farlo basta andare a inserire un massimo di meno 19.3 gradi comunque ora fate prove però ovviamente è un constant molto 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 interessante lo risettiamo nel valore di soglia di meno 65.4 quando la porta è perfettamente chiusa è un constant molto interessante molto utile fate magari qualche prova e poi ci ha permesso anche di ripassare il concetto di azione e questa è la collezione porta posso sempre andarla a disattivare e riattivare come preferisco infatti poterli disattivare una marea di oggetti in mondo così semplice è un vantaggio che le azioni hanno ok adesso andiamo a creare effettivamente quella nuova scena e andiamo a rinominarla in relationship dove andiamo ad esplorare gli altri constant del relationship allora tra poco vedremo che i constant possono essere applicati anche alle ossa in realtà il constant insieme a una testolina di scimmia armature lo abbiamo anche come constant oggetto perché i constant possono essere applicati sia agli oggetti che alle ossa i constant che vedete qua possono essere applicati solo agli oggetti abbiamo anche il constant armature che in effetti il constant armature può essere applicato a degli oggetti però funziona solo con le ossa perciò finché lavoriamo con gli oggetti il constant armature non lo potete usare perciò ignoratelo parleremo del constant armature quando impareremo ad applicare dei constant alle ossa di un'armatura quando lo vedremo tra pochissimi minuti perciò adesso si finiamo con i relationship poi vediamo un'opzione importantissima che è l'opzione bake action e poi saltiamo subito a vedere il constant dell'armatura che volete perché tutta un'altra serie di vincoli no sono quasi tutti uguali a questi ci sono due vincoli in più di cui uno già l'abbiamo visto nella lezione 37 perciò è veramente poco allora andiamo a vedere il vincolo C child of ora ve lo dico in parole povere il vincolo child of è la versione constraint dei legami di parentela se non vi ricordate che cosa sono andate a rivedere la lezione relativa ma in realtà mi pare che dovrebbe essere circa la lezione 14 quella sui legami di parentela però ovviamente è un po' di tempo fa quindi non me lo ricordo andiamo a ripassare i legami di parentela funzionano così io ho due oggetti li seleziono se premo ctrl p object l'oggetto attivo diventerà l'oggetto padre l'oggetto inattivo diventerà l'oggetto figlio che vuol dire che un oggetto è padre vuol dire che se lo muovo lo ruoto o lo scalo l'oggetto figlio subirà pari e pari le stesse trasformazioni bene voglio fare questo in modo non distruttivo apro parentesi non distruttivo vuol dire essenzialmente che la modifica che la modifica che faccio posso andare a eliminare in un attimo questo l'abbiamo visto in particolare in relazione modificatori ma anche un constraint è non distruttivo perché qualsiasi constraint lo posso eliminare con un click perciò in un certo senso i constraints sono non distruttivi esattamente come i modificatori a proposito di modificatori andiamo ad inserirne uno per esempio un bel subsurf e lo andiamo ad applicare magari 5 suddivisioni sono una pazzia che non è necessaria ne bastano anche 2 lo andiamo ad applicare si può il comando di applicazione si chiama con control A e abbiamo questa partenza andiamo a vedere il constraint chai chilled off il constraint chilled off ci permette di selezionare un altro oggetto che diventerà l'oggetto padre dell'oggetto a cui applichiamo il constraint prendiamo l'oggetto che appliciamo il constraint cioè la scimmietta in target selezioniamo l'empty e adesso l'empty è diventato l'oggetto padre e la scimmietta è diventata l'oggetto figlio è solo un altro modo di creare un legame di parentela solo che adesso il legame di parentela è di tipo constraint quindi non discutivo se sposto vuoto o scallungo un asse e il mio empty le stesse trasformazioni andranno alla scimmia per quanto queste trasformazioni sono dovute alla parentela con l'empty se io vado a disabilitare il constraint spariscono in un attimo così come spariscono in un attimo se abbasso l'influenza non finisce qui posso anche decidere cosa questo legame di parentela può controllare il cosano attraverso questa matrice cioè posso dire a Blender se deve o non deve tenere il conto della scala dell'empty lungo l'asse delle X se deve o non deve tenere il conto della scala dell'empty lungo l'asse delle Y lungo l'asse delle Z per esempio se disattivo scale Z le esprimo SZ la modifica alla scimmia la scimmia non verrà scalata invece se abilito l'asse delle Z la scimmia si verrà scalata cerchiamo di spiegarci meglio posso fare lo stesso per rotation e location voglio dire se io sposto il mio cubo lungo l'asse delle X delle Y la stessa trasformazione viene trasferita alla scimmia se scalo il mio empty lungo gli assi delle Y non delle Z la stessa trasformazione viene trasferita alla scimmia e parolina magica io così posso disabilitare uno o più trasformazioni il trasferimento di una o più o più trasformazioni per esempio se prendo l'empty e lo muovo lungo l'asse delle X alla scimmia viene trasferita la stessa trasformazione se disabilito location X la scimmia smetterà di ereditare la location X dell'empty se io riabilito location X la scimmia tornerà a ereditare la location X dell'empty oppure per esempio rotation Z se attivato e ruoto il mio empty lungo l'asse delle Z la scimmia subire la stessa trasformazione se disabilito rotation Z questo tipo di trasformazione non influirà più con la mia scimmia e così via set inverse va a risettare e spero che abbiate trovato chiara la spiegazione set inverse è uno dei pulsanti più importanti ma anche meno intuitivi di questo constraint se premo set inverse semplicemente risetto il mio constraint quindi così facendo magari rinomino il constraint con F2 in shield off control in pratica set inverse va a fare finta che io il constraint l'ho appena inserito e che quando l'ho inserito l'empty si trovava in questa posizione quindi se premo set inverse la scimmia torna a ritrovarsi con i valori che ha senza constraint quindi con i valori di location rotation e scale che vediamo nel pannello transform tuttavia il constraint funziona ancora se io sposto ruoto o scalo la mia scimmia continuerà a subire le stesse trasformazioni reset set inverse adesso la scimmia è tornata ai dati originari ma è ancora vero che se grabbo ruoto o scalo la scimmia subirà le stesse trasformazioni set inverse e reset clear inverse annulla tutti i set inverse spero di essere stato chiaro per esempio se io disabilito tutte le opzioni di scaling la scimmia rimarrà alla scala originaria perché ho detto che questo constraint non deve tenere conto di nessun dato di scala del mio del mio constraint se disabilito rotation hits il constraint non te racconto di nessun dato di scala dell'empty lungo l'asse delle hits disabilito rotation y e non te racconto di nessun dato di scala dell'empty lungo l'asse delle y di rotazione dell'empty lungo l'asse delle y disabilito rotation z e il mio constraint non te racconto di nessun dato di rotazione dell'empty lungo l'asse delle z disabilito tutte le rotazioni e il mio empty e il mio constraint non te racconto di nessun dato di rotazione location hits dico a Blender se deve o non deve tenere il conto della posizione dell'empty lungo l'asse delle hits location y se il mio constant deve o non deve tenere il conto della posizione dell'empty lungo l'asse delle y location z se Blender deve o non deve tenere il conto della posizione dell'empty lungo l'asse delle z spero che abbiate trovato chiara la spiegazione e questo è il Child Off Alt G, R ed S per annullare tutte le trasformazioni del mio Empty andiamo ad eliminare il Child Off torniamo al mio Empty magari inserisco l'opzione in front per vederlo anche attraverso gli oggetti magari cambio anche il tipo di Empty lo metto in Airwaves che magari sembra un po' più chiaro più facile da utilizzare, mi fa vedere gli assi locali dell'Empty e adesso andiamo a vedere un altro constraint che ci manca il constraint di tipo floor poi ci manca solo follow path, pivot, skin wrap e questi constraint li conosciamo tutti tranne quelli di motion tracking che vedremo appunto nella lezione sul motion tracking che è proprio un ambito di Blender collegato al VFX ma lo vedremo in un'altra parte di questo corso prepariamoci a osservare il constraint di tipo floor il constraint di tipo floor mi permette di identificare un piano utilizzando due cose il primo è un oggetto che Blender identifica come un punto quindi un punto e in secondo luogo una retta a lui perpendicolare se Blender il constraint floor identifierà questo piano che la mia mesh per nessun motivo potrà attraversare quindi iniziamo provando a selezionare il mio empty adesso muoviamo la mia mesh sembra che io la possa muovere come voglio adesso provo ad abbassarla per farla scendere sotto il piano xy ma sfortunatamente non ci riesco vedo che non posso mandarla sotto il piano xy in realtà non posso mandarla sotto il mio empty cerchiamo di capire meglio Blender ha identificato un piano utilizzando due fattori il primo è un punto che è l'oggetto target quindi prima Blender ha preso il mio oggetto target che sarebbe il mio empty dopodiché Blender è andato a dopodiché Blender è andato a prendere una retta perpendicolare all'empty quindi aveva questo punto e mi ha preso una retta perpendicolare in questo caso l'asse delle z quindi Blender aveva un punto e una retta aveva un punto e una retta che sapeva che doveva essere perpendicolare al piano da identificare e in questo modo Blender ha identificato questo piano mi spiego meglio Blender sa che la retta che noi abbiamo selezionato nel campo min-maz cioè non l'abbiamo selezionata Blender qui è un campo cioè il campo minimo-massimo Blender sa che lui deve identificare un piano che su cui giace l'oggetto target e a cui la retta selezionata in min-maz è perpendicolare quindi un piano su cui giace questo punto e la cui è dove è perpendicolare all'asse quale asse l'asse delle z qual è l'unico punto passante per l'oggetto target e perpendicolare con l'asse delle z questo punto è questo piano è l'unico piano che ha queste proprietà e perciò questo piano è il piano che il constraint ha identificato ok e beh perché il constraint deve identificare un piano perché quello che fa il constraint è impedire la mia scimmietta di andare oltre questo piano e infatti il pivot della scimmia non può andare più in basso rispetto a questo piano proviamo a cambiare la retta perpendicolare insieme a per esempio l'asse delle hits adesso Blender sa sempre che Blender conosce sempre l'oggetto target che il nomino in target Blender sa sempre che questo oggetto deve giacere sul piano che lui deve identificare però adesso sa che non è più l'asse delle z ad essere perpendicolare a questo piano ma l'asse delle hits qual è l'unico piano passante per l'oggetto target e perpendicolare all'asse delle hits questo piano e perciò è questo il piano che la mia scimmietta non potrà attraversare difatti vediamo che la mia scimmietta non può attraversare questo piano è bloccata nella parte destra del è bloccata nella parte della parte destra dello spazio 3D diviso in due dall'asse delle z prima di inserire in main maps l'asse delle hits adesso cambia di nuovo tutto perché Blender sa sempre che il piano deve passare per il target però sa che adesso l'asse perpendicolare deve essere l'asse delle hits e perciò il piano è questo notiamo subito che la mia scimmietta adesso non può più non può ovviamente oltrepassare questo piano inutile dire che io posso spostare che io posso anche spostare l'empty e quindi spostare questo piano per esempio se metto l'empty in questa posizione e seleziono l'asse delle z Blender sa sempre che deve essere l'asse delle z ad essere perpendicolare al piano ma che adesso il piano deve passare per questo punto e quindi il piano identificato dal floor oltre il quale la mia mesh non può attraversare è questo se invece seleziono l'asse delle y Blender sa sempre che il piano deve passare per questo punto ma adesso l'asse perpendicolare è l'asse delle y cioè quest'asse e perciò il piano identificato da Blender è questo infine se seleziono l'asse delle hits Blender sa sempre che il piano deve passare per questo punto ma sa anche che adesso l'asse perpendicolare è l'asse delle hits e che perciò il piano in questione è questo scusate fate qualche prova se volete capire meglio cioè se volete magari un pochino esercitarmi poi con Target Blender utilizzerà sempre come punto di riferimento lo spazio globale ma se cambiate in Local Space utilizzerà lo spazio globale tuttavia abbiamo altre due opzioni abbiamo un altro paio di opzioni che ci arrivano a complicarci la vita immaginiamo di settare per esempio l'asse delle hits se io seleziono l'asse delle hits il piano sarà questo e adesso la mia bella scimmietta è bloccata da questa parte di questo piano e non può andare oltre infatti se io provo a spostarla col tasto G oltre questo piano non ci va e quindi questa altra parte della scena 3D per la mia scimmia è inaccessibile la mia scimmia non ci può andare quindi la mia scimmia può rimanere solo nella parte rossa se non potrà mai accedere alla parte verde come faccio come faccio ad invertire la situazione quindi come faccio a fare in modo che invece di essere bloccata nella parte rossa sia bloccata nella parte verde basta che vado a vedere quale quale asse ho selezionato e inserisco l'asse contrario quindi se ho Y inserisco meno Y adesso la mia scimmia è bloccata nella parte verde e non riesco più a farla accedere alla parte rossa facciamo qualche altro esperimento inseriamo come asse l'asse delle Z adesso sappiamo che il piano essenzialmente è questo la mia scimmia è bloccata in questa parte della mia scena 3D e non potrà mai e poi mai accedere a quest'altra parte della mia scena 3D grazie al constraint florio infatti se io muovo la mia scimmietta non potrà mai scendere al di sotto della linea blu ma se sarà sempre bloccata nella zona rossa ma se io volessi fare il contrario se vorrei renderla per sempre bloccata nella zona verde basterebbe passare dall'asse delle Z all'asse meno Z adesso la mia scimmia è bloccata nella zona verde non potrà mai poi mai accedere alla zona rossa facciamo un ultimo esempio whip whip inseriamo l'asse delle hits adesso la mia scimmia adesso il piano che ci interessa è questo la mia scimmia è sempre bloccata nella zona rossa e non potrà mai e non potrà mai poi mai accedere alla zona verde ormai è abbastanza chiaro no? e se io invece voglio che sia il contrario che sia bloccata nella zona verde e non potrà mai poi mai accedere alla zona rossa basta invece di hits mettere meno hits adesso la mia scimmia sarà bloccata nella zona verde e non potrà mai poi mai accedere alla zona rossa andiamo a eliminare i livelli verde verde e rosso e cancelliamo le annotazioni di livello blu ok molto bene adesso andiamo a vedere altre due opzioni interessanti inseriamo l'asse delle z vediamo che non posso mai spostare la mia scimmia sotto il mio empty se volessi per esempio non poterla mai spostare sopra basterebbe mettere meno z lasciamo per esempio queste settings vediamo che il piano passa perfettamente lungo il mio empty ma se io lo volessi spostare come potrei fare? semplicemente basterebbe usare l'offset che mi permette di spostare il piano gestito dal flore lungo l'asse qui selezionata per un valore che vado a inserire qui se inserisco per esempio 3 metri adesso il piano si è spostato lungo l'asse delle z di 3 metri quindi è 3 metri più sopra e infatti adesso io non posso più spostare la mia scimmietta più in alto rispetto a questo punto qui c'è il piano non sta più qui se invece inserisco meno 3 metri il piano invece di trovarsi 3 metri più sopra si trova più 3 metri più sotto e adesso il piano si trova qui e infatti non posso spostare la mia scimmietta più in alto rispetto a questo punto quindi l'opzione offset sposta lungo l'asse delle x delle y delle z il piano identificato di un numero di metri che scegliete qui con 0 il piano passa perfettamente attraverso l'oggetto target ma quindi questo constraint ci permette di gestire essenzialmente mura pavimenti e soffitti però solo perfettamente orizzontali o perfettamente verticali alcuni di voi potrebbero aver immaginato che se ruoto il mio empty quindi il mio oggetto target il piano che il constraint floor va a identificare subisca la stessa rotazione beh ciò accade solo se abilitiamo l'opzione use rotation immaginiamo di ruotare il mio empty e adesso il piano lungo il quale il mio lungo il quale la mia scimietta è costretta ha subito la stessa rotazione infatti vediamo che senza use rotation il piano nonostante la rotazione dell'empty si manteneva orizzontale ruotando l'empty non cambiava niente il piano oltre il quale non potevo muovere la scimietta restava questo se invece abilito use rotation il piano oltre il quale non posso muovere la scimietta diventa questo cioè subisce la stessa rotazione dell'empty spero che abbiate trovato chiaro questo esempio adesso ci manca il constraint follow path che forse dopo il track 2 è quello che io utilizzo in assoluto il constraint follow path è una versione incredibilmente magnificatamente più avanzata rispetto al clamp 2 nonostante si trovino in colonne diverse il follow path è talmente avanzato che se andiamo ad utilizzare una curva anzi dobbiamo per forza andare ad utilizzare una curva questa curva la dobbiamo prima inserire e poi prima dobbiamo stare il constraint e poi editare la curva per evitare il ruore andiamo a cercare di capire il il perché andiamo a riprendere il raggio di prima per farlo basta inserire si trova in un'altra scena ma per farlo basta inserire un oggetto qualsiasi andare nel menu object data tra gli object data quindi tra i data oggetto che selezioniamo qua c'è anche la forma del mio oggetto e qui vado a cercare l'insieme degli object data del raggio di prima andiamo a vedere qual era il suo nome quindi torniamo nella scena di poco fa cerchiamo l'oggetto razzo eccolo qua l'oggetto razzo e vediamo che il nome del suo object data è cycle adesso torniamo nella collezione relationship e qui cerchiamo il nome degli object data cycle così facendo abbiamo portato tutti gli object data del razzo al cubo appena inserito e quindi adesso il cubo è diventato questo tuttavia adesso i due oggetti condividono gli object data cioè si vado ad editare questo oggetto edito proprio i suoi object data e quindi anche il razzo nell'altra scena se voglio risprimere migogne basta che clicco su questo 2 e rendo questo oggetto indipendente dal razzo nell'altra scena e magari li nomino addirittura i suoi object data in rocket gli object data li vedete anche qui anche sotto espandendo il menu dell'oggetto magari questo lo rinomino in rocket 2 questi sarai i razzi che andiamo ad utilizzare per questo esempio contro la rotation per applicare la rotazione e andiamo a vedere che il constant follow path ci permette anch'esso di fare in modo che il mio razzo si muova lungo una curva però in modo magnificatamente più avanzato anche se non è qualcosa di troppo complesso su cui lavorare tuttavia questo è una regola d'oro che si impara con l'esperienza se aggiungete una curva e volete per esempio una bezier e volete rz a 90 gradi meno per dirgli la direzione opposta in bio la scaliamo potete ruotarla scalarla però prima di editarla quindi prima di andare in edit mode e iniziare a gestire la vostra curva vi ricordo questo corn script vi permette di fare in modo che il raggio segua la curva ma prima di andare a editare la curva prima andiamo a settare il follow path poi editiamo la curva in questo modo ci risparmiamo grande aumentiamo la risoluzione della curva per rendere la più smussata prima andiamo ad editare a inserire il follow path e poi andiamo ad editare la curva perché altrimenti non avete idea di quante volte mi sono messo a lavorare ho editato una curva bellissima fatta benissimo esattamente come volevo ci inserisco l'oggetto all'inizio inserisco il follow path e il follow path fallisce ormai ho imparato la lezione ve lo dico io fate tesoro della mia esperienza prima settate il follow path e poi evitate la curva è una regola d'oro il follow path fa in modo che il mio rozzo che il mio razzo vada a seguire questa curva allora in target io vado a selezionare proprio questa curva e sembra che abbia funzionato se io aumento l'opzione di offset il mio razzo segue la mia curva tuttavia vediamo che se metto un valore troppo grande il mio razzo supera la curva se invece metto un valore troppo piccolo va prima della mia curva e comunque sia questo dover aumentare un valore numerico è un po' complicato allora prima opzione un'opzione che io di solito abilito sempre perché è fantastica fits the position se l'abilitate al posto dell'opzione offset avete un'opzione offset factor un fattore dove 0 è l'inizio della curva e 1 è la sua fine andando ad editare questo fattore potete far muovere il razzo lungo la vostra curva questo magari è molto 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 più comodo io personalmente lo vado a fare sempre poi un'altra opzione molto importante è follow curve essenzialmente fa in modo che non solo la posizione ma anche la rotazione del razzo cambi in relazione alla curva osservate senza follow path con senza follow curve con follow curve fantastico per un'altra cosa interessante cube radius immaginiamo di aumentare il raggio di questa maniglia premendo altesse aumento il raggio della maniglia e diremo adesso e come vediamo non cambia nulla a meno che non abilito curve radius se abilito curve radius il mio razzo viene scalato in base alle dimensioni della maniglia in cui si trova quindi si ingrandisce quando va davanti la maniglia più grande disattiviamo curve radius che in questo caso non ci serve ma io non lo trovo molto utile adesso vediamo che abbiamo sempre l'opzione forward axis cioè quale asse locale del mio del mio razzo viene puntata in avanti verso la curva l'asse delle i l'asse delle z o l'asse delle y oppure posso puntare l'asse delle i al contrario oppure l'asse delle z al contrario o meglio o in questo caso è quello che mi serve l'asse delle y al contrario fate varie prove cambiate le opzioni sicuramente troverete un'opzione in cui il razzo si trova nella posizione che volete e adesso andando a cambiare l'offset factor vado a spostare il mio razzo lungo la curva avrete notato che se impostavo le curve in z il razzo si ritornava alla posizione di default questo grazie all'opzione app azis infatti io posso decidere ecco cosa rende il follow path molto più avanzato posso anche decidere quale asse locale del mio del mio razzo deve essere puntata verso l'alto l'asse delle iz delle y o delle z detto che di default sia stata l'asse delle z in questo caso va più che bene se io mettevo z anche in forward azis dicevo che l'asse locale delle z doveva essere puntata sia in avanti lungo la curva infatti in forward azis scegliete quale asse del mio razzo deve essere puntata in avanti lungo la curva in up azis quale asse locale del mio razzo deve essere puntata in alto ma se in entrambi campi scegliete z z deve essere puntata sia in avanti sia in alto il che è un po' impossibile perciò se siete in trame le opzioni l'icona del mio consent diventa rosso il consent ovviamente fallisce questo è il set che ci serve in altre parole potete prenderla così il follow path sta al clamp 2 come il track 2 sta al dump e the track cioè il follow path e il clamp 2 fanno una cosa molto simile fanno muovere un oggetto lungo una curva solo che il follow path è molto più avanzato mi permette anche di scegliere quale asse puntare verso l'alto infatti io lo preferisco è come con il track 2 e il dump di track fanno la stessa cosa però il track 2 è più avanzato mi fa anche scegliere quale asse puntare verso l'alto e infatti io tra il dump di track e il track 2 preferisco il track 2 questa opzione è molto utilizzata a livello di animazione in particolare andando ad animare l'offset posso andare ad animare il movimento del mio razzo per esempio vado al centesimo frame aumento il valore di offset e inserisco un keyframe perciò adesso il mio razzo si muove magari inserisco un'interpolazione lineare e ho risultato che volevo magari metto fine dell'animazione a 100 fotogrammi questa è la parte noiosa dopo che avete fatto dopo che avete stato tutto ciò solo dopo se lo fate prima rischiate di far fallire il constraint potete andare alla vostra curva e andare a modificarla facendolo dopo avrei applicato il constraint siete sicuri che funzionerà benissimo posso andare a rendere la mia curva il più complessa possibile ricordatevi sempre che quando l'offset diventa 1 il mio razzo sarà sempre alla fine della curva mentre quando l'offset è a 0 starà all'inizio perciò se allungate la curva e fate passare l'offset da 0 a 1 sempre in 100 frame il mio razzo dovrà passare più velocemente dalla fine all'inizio della curva perché avrà una curva più lunga da cui passare dall'inizio alla fine magari adesso vogliamo fare delle cose di una precisione impressionante inseriamo una camera la inseriamo in questa posizione inseriamo un track 2 e scegliamo il nostro razzo adesso vado in vista camera e lo vediamo muoversi magari se proprio proprio volete diventare di super pro possiamo anche fare esplodere il razzo alla fine senza creare fumo o fuoco solo farne saltare in aga i pezzi non so se vi ricordate come si fa l'abbiamo visto nella lezione 33 inseriamo un sistema particellare facciamo iniziare l'emissione delle particelle al frame 100 ne facciamo mettere molte molto velocemente perciò la facciamo finire al frame 105 in questo modo quando arriva alla fine il mio raggio emetterà una magra di particelle di cui la vita la inserisco solo a 10 frame che voglio che queste particelle non sentano la gravità quindi a 0 gli effetti della gravità ok mettiamo la fine a 150 frame ok adesso in velocity la velocità data dalle normali la aumentiamo per esempio fino a 10 metri al secondo ho un effetto che ricordo un'esplosione e adesso inseriamo un bel modificatore explode in cui ti abilitiamo l'opzione cut age adesso il mio magari nel sistema particellare inserisco una vita delle particelle tale da non farle morire perché quando le particelle muoiono i frammenti associati si i frammenti associati restano immobili vedete al 120 frame le particelle sono tutte morte così i frammenti del mio del mio razzo non hanno più riferimenti e diventano immobili quindi magari in lifetime inserisco un valore per esempio di 50 io tengo questo bel risultato magari volete essere più precisi ctrl r effettuate qualche taglio per esempio 50 mettiamo 60 tagli tanto per fare cifra tonda effettuiamo anche da questa parte sempre 60 tagli anche da questa parte sempre 60 tagli e anche da questa parte sempre una sessantina di tagli adesso sarà un pochino più semplice inserire di tagli anche qui magari ne bastano anche una decina ok è sufficiente andiamo a vedere andiamo a vedere il risultato e vedo che ho proprio un effetto esplosione del mio razzo però continuo a vedere le particelle mentre magari vorrei che le particelle fossero invisibili e vedo su le frammenti del razzo per farlo basta che nel sistema particellare in render metto non il che vuol dire essenzialmente rendere invisibili le particelle in questo modo appena il razzo arriva nella posizione finale esplode con violenza in normal inseriamo un valore ancora più alto per esempio di 20 metri al secondo e boom inseriamo anche 40 metri al secondo e ho proprio un effetto a forte e violentissima esplosione poi potreste anche metterci una simulazione di fuoco e fiamme per solo ovviamente un piccolo esempio creato durante una lezione tuttavia è interessante spero che lo troviate utile nella vostra produzione a H per nascondere tutto selezioniamo questi oggetti li rendiamo momentaneamente visibili in modo da poter selezionare nella viewport risposti in una nuova collezione che rinomino in razzo che esplode e la disabilito ok adesso ci mancano solo due constraint il constraint pivot e lo shrink wrap inseriamo il constraint pivot partendo dalla solita nostra carissima testa di scimmia inseriamo inseriamo una monkey inseriamo sempre il solito modificatore adesso conosciamo i modificatori la fisica i constant quindi ormai abbiamo un grande bagaglio dietro che ci permette di creare effetti molto belli in pochissimo tempo inseriamo un subsurf un paio di suddivisioni sono più che sufficienti se consideriamo che sono sommate a uno shade smooth per andare a vedere l'opzione di pivot dobbiamo prima andare a ricordarci cos'è l'origine di una mesh l'origine di una mesh a strumenti detta pivot di una mesh è il centro di rotazione e di scala della mia mesh per modificare in modo più efficiente premere il ctrl punto in questo modo se premo g o r con la mesh selezionata vado a editare solo il pivot ctrl punto procede da questa modalità e adesso ho posizionato in questo luogo il pivot della mia mesh adesso vedo che se ruoto o scalo la mia mesh il pivot è diventato quel punto che posso impostare facilmente come centro di rotazione o di scala adesso una cosa interessante è se io volessi impostare un qualsiasi punto esterno come centro di rotazione o di scala quindi dovrei spostare il pivot il che magari può essere fastidioso perché il pivot è qualcosa di molto importante in realtà un'alternativa al semplice muovere il pivot come abbiamo visto è l'utilizzare il constraint pivot andiamo a capire come funziona questo constraint il constraint pivot ci permette di editare qual è il centro di rotazione e il centro di rotazione della mia mesh cerchiamo di capire se in target non seleziono niente il blender cosa utilizzerà come centro di rotazione della mia mesh il suo pivot originario che tuttavia posso spostare con pivot poi non dove è proprio il pivot originario ma dove è il pivot considerato per esempio andando a inserire il pivot point it's 1 sposto il punto di coblender che il centro di rotazione non deve più essere il pivot ma deve essere un punto che rispetto al pivot è spostato di un metro lungo l'asse delle it's per evitare problemi in rotation range premiamo always per dire a blender che questo sistema deve che blender deve tenere conto di queste modifiche ogni volta che andiamo a ruotare la mia mesh se adesso premo rotate vedo che la mia mesh vuota non più attorno al suo pivot ma attorno a un altro punto rispetto al pivot è distante un metro mi spiego se in pivot point abbiamo 0 0 e 0 il centro di rotazione è effettivamente il pivot quindi al centro di rotazione rispetto al pivot lo posso muovere lungo l'asse delle it's delle y o delle z per esempio così facendo ho spostato il centro di rotazione rispetto al pivot di 6,5 metri lungo l'asse delle it's di 6,7 metri lungo l'asse delle y non è di 16,3 metri lungo l'asse delle z se adesso premo r osserviamo quanto è diverso il centro di rotazione della mia mesh tuttavia esiste anche un sistema un pochino più semplice possiamo anche andare a selezionare un oggetto esterno da utilizzare come pivot scegliamo che ne so un empty qualsiasi come per esempio questa sfera questo è un empty sferico perché avevo l'empty sferico ne ho scelto uno qualsiasi lo rinomino in pivot point un empty è perfetto per un pivot perché un pivot in F è solo un punto di riferimento se in target lo vado a selezionare cliccando così col contagocce o semplicemente aprendo e cercandolo qui nell'elenco di tutti gli oggetti oppure semplicemente scrivendo pivot point adesso io seleziono questo oggetto e se premo R sarà questo oggetto ad essere considerato come pivot point sono ancora valide le opzioni di pivot offset X, Y e Z che mi permettono di spostare il centro di rotazione non più rispetto al pivot originale della mia mesh ma rispetto al pivot sostitutivo quindi all'empty per esempio se inserisco Z rispetto all'empty ho spostato il centro di rotazione di un ulteriore metro verso l'alto se in pivot offset X inserisco per esempio 2 metri sposto il centro di rotazione rispetto al mio empty di altri 2 metri lungo l'asse delle Z prendiamo un backspace per ritornare ai valori di default è sempre possibile un'opzione di influence che se a 0 mi va a riportare la mesh nella posizione in cui si sarebbe trovata se avesse effettuato la medesima rotazione lungo il pivot originario risetiamo tutti i valori se adesso vado a ruotare viene ruotato esattamente come mi aspetterei andiamo ad osservare che abbiamo un'opzione rotation range cioè quando blender deve tenere conto di queste modifiche always sempre meno X rotation solo quando lo ruoto lungo l'asse delle X all'indietro meno Y rotation solo quando lo ruoto lungo l'asse delle Y non all'indietro meno Z rotation solo quando lo ruoto lungo l'asse delle Z all'indietro oppure X rotation solo quando lo ruoto lungo l'asse delle Y in avanti Y rotation solo quando lo ruoto lungo l'asse delle Y in avanti Z rotation solo quando lo ruoto lungo l'asse delle Z in avanti fate qualche esperimento a h per nascondere e questo era il semplicissimo vincolo pivot vi ricordo che constrink è una parolina inglese che vuol dire pivot allora prima di vedere le ultimissime cose di questa lezione tranquilli anche questa lezione è stata per giungere al termine ci manca veramente molto molto poco andiamo a vedere il vincolo shrink wrap avevamo già visto una parolina come questa nei modificatori infatti avevamo studiato nella lezione 34 se la memoria non mi inganna appunto sempre nella lezione 34 quindi anche troppo tempo fa il modificatore shrink wrap bene il vincolo shrink wrap cosa fa? semplicemente ci permette di muovere un oggetto solo lungo la sua proiezione sopra un altro oggetto qualsiasi andiamo a iniziare aggiungendo un piano andiamo in edit mode scaliamo S5 5 volte tasto del mouse subdivide centro suddivisioni tab per uscire dall'edit mode questo ci permette di ottenere le nostre riglie di base adesso add modifier displays new cloud nome della tessio clouds proprieties cloud tipo della tessio aumentiamo shade smooth due di size duplicate nuova tessio nome rilievi piccoli properties properties sempre clouds però molto più fitta e con una strength molto più bassa in questo modo ottengo la mesh iniziale che mi interessa cioè la mesh che utilizzeremo tra poco come target ora aggiungiamo qualcosa di semplice come per esempio un cilindro facciamone scendere molto la depth fino a 0.2 metri adesso andiamo in edit mode artz per la modalità it's ray gz 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 punto 1 metri cioè la metà del suo raggio adesso sempre c'è la metà scusate della sua altezza in questo modo il pivot coincide con la base inferiore adesso selezioniamo questo vertice mettiamoci sopra il cursore e al cursore facciamo concidere il pivot in questo modo quando io vado a premere error it's 90 gradi questa specie di ruota diventa bella eretta alt z per uscire dalla modalità it's race adesso cosa fa il complesso vincolo shrink wrap cioè complesso con tante opzioni semplicemente proietta la mia mesh sopra un'altra quindi la mesh di target e fa in modo che se io sposto la mesh avendo il vincolo essa si sposterà lungo la superficie della mesh target le tre parole povere proietta in questo caso la mia ruota cilindrica sopra in questo caso il mio oggetto landscape quindi questa mia landa io prendo questa ruota cilindrica e andandola a muovere vedete viene proiettata viene proiettata dalla sua posizione originaria e se viene proiettata sopra questa landa e si potrà muovere solo lungo la sua proiezione quindi praticamente è una proiezione e si potrà muovere solo lungo questa stessa proiezione posso anche andare a cambiare l'influenza vediamo che blender ci mette a disposizione una miriade di interessanti funzioni e adesso le andiamo a scoprire magari andiamo nella landscape e inseriamo perché no un bel modificatore solidify come questo certo che il solidify ha proprio tante opzioni va bene comunque a parte questo io posso sempre spostare la mia ruota e comunque la vado a spostare aderirà sempre alla mia landa qui abbiamo una miriade di opzioni di controllo in realtà sono molto 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 simili alle opzioni del modificatore shrink wrap perciò inizialmente pensavo anche che non fosse necessario andare a spiegare perché tanto sono molto simili a quelle del modificatore shrink wrap però in realtà per essere sincero qualche piccolissima differenza c'è perciò ho deciso che le vada a rispiegare tutte e pazienza male non fa intanto distance che nel modificatore shrink wrap si chiama offset semplicemente mi permette di settare la distanza che ci deve essere tra la ruota e la proiezione cioè andandola ad aumentare posso distanziare la ruota dal mio piano in modo veramente molto molto semplice tuttavia si parla sempre di creare una proiezione e ovviamente questo è qualcosa su cui Blender ci dà come al solito un controllo mostruoso l'opzione più semplice è il mio arrest vertice dove la mia superficie viene proiettata sul mio piano in base a quale è il vertice del piano più vicino in modo veramente molto molto semplice e è sicuramente magari l'opzione un pochino più che ci dà meno opzioni aggiuntive da conoscere poi abbiamo near surface point che invece proietta la mia mesh non sul vertice più vicino del piano ma sul punto della superficie più vicino del piano quindi lo può anche proiettarmi la mia ruota dove nel piano non ci sono vertice solo su un punto della superficie e questo rende diciamo un po' più complesso il modificatore intanto dobbiamo dargli queste opzioni con on surface la ruota viene proiettata sul piano e se io aumento distance l'applicazione della distanza se aumento distance la mia ruota si andrà a muovere se aumento distance la mia ruota si andrà a muovere su quel segmento che congiunge la posizione in cui si trova adesso e la posizione in cui si trova originariamente consideriamo la posizione in cui si trova adesso e la posizione originaria consideriamo il segmento che collega le due posizioni per posizione originaria intendo dire quella senza constraint aumentando distance la ruota si muove lungo questa superficie con snap method on surface con outside surface aumentando distance la mia ruota si muove verso semplicemente l'esterno del mio target quindi è qualcosa di leggermente diverso con outside surface e invece con above surface aumentando distance la mia ruota si muove lungo le normali del target quindi vedete come con on surface aumentando distance la ruota si muove diciamo in diagonale e invece con above surface si muove verso l'alto perché si muove in direzione delle normali del mio oggetto target per capire le altre opzioni facciamo un altro esempio per esempio inseriamo una sfera v la scalo un poco un subsurf male non fa lo applichiamo mettendoci sopra il pulsore premendo ctrl a shade smooth e alziamo il nostro oggetto andiamo in wireframe mode inseriamo il pulsore con colsetto selected e andiamo ad aggiungere per esempio un'altra sfera v molto più piccola e applichiamo la scala adesso andiamo ad aggiungere il constraint skin wrap e andiamo a selezionare la sfera più grande adesso se muovo la sfera più piccola essa si muoverà solo e solamente lungo la superficie della sfera più grande in modo che sia il pivot della sfera più piccola a coincidere con la superficie della sfera più grande adesso andiamo a vedere le opzioni outside e inside se abbiamo quindi le snap method outside e inside cerchiamo di capire come funzionano allora per capire outside e inside dobbiamo momentaneamente disabilitare il constraint osserviamo la posizione in cui si trova la sfera piccola si trova all'esterno della sfera grande quindi nella parte esterna riabilitiamo il constraint e se io inserisco outside in questa situazione il constraint non funziona se inserisco inside in questa situazione il constraint funziona benissimo disabilitiamo di nuovo il constraint e spostiamo la sfera all'interno della sfera più grande e riabilitiamo il constraint in questa funzione inside non funziona invece outside funziona benissimo allora cerchiamo di capire meglio outside è un algoritmo che funziona solo se ha constraint disattivato quindi se disattivo il constraint io controllo la posizione in cui si trova la sfera piccola con outside il constraint funziona solo se la sfera piccola si trova all'interno della mia mesh se invece si trova all'esterno con outside non funziona invece inside è diverso inside ha constraint disattivato funziona se e solo se la mia sfera piccola si trova all'esterno della sfera grande quindi a constraint disattivato se la mia sfera si trova al di fuori della sfera grande tra inside e outside funziona solo inside se si trova all'interno della sfera grande tra inside e outside funziona solo outside quindi outside funziona solo se la mia sfera si trova dentro la sfera grande invece inside funziona solo se la mia sfera piccola si trova fuori dalla sfera più grande e queste sono le opzioni outside e inside bene adesso queste due sfere le andiamo a nascondere momentaneamente torniamo al piano qui in basso torniamo a questa sfera e vediamo in mode il tangent normal project che è uguale paro paro al near surface point solo che è molto più preciso adesso sarebbe bello poter dire che abbiamo finito però abbiamo l'opzione project vedete la strana poche opzioni la selezionata e vi prende un colpo perché avete tantissime opzioni cerchiamo di vederle in modo magari un pochino più veloce intanto voi potete il project non vi proietta la vostra sfera verso il vertice più vicino o il punto della superficie la vostra ruota verso il vertice più vicino o il punto della superficie più vicino dell'oggetto target vi proietta tutti i vertici della vostra ruota in una direzione se incontrano qualche vertice dell'oggetto target li vengono proiettati se non lo incontrano restano alla posizione originaria ricordatevi che in questo caso la proiezione è solo qualcosa che ci serve per andare a far funzionare il constraint allora con più z tutti i vertici del mio cilindro vengono proiettati in questa direzione non incontrano niente quindi restano nella posizione originaria non avviene la proiezione e quindi il constraint non funziona con più y vengono proiettati lungo vengono proiettati lungo l'asse delle y anche in questo caso non incontrano niente e perciò non avviene la proiezione e quindi restano dove sono e il constraint non funziona più x mi proietta tutti i vertici lungo l'asse delle x anche in questo caso non incontrano niente però li posso anche proiettare in direzione contraria quindi per esempio lungo l'asse delle x al contrario lungo l'asse delle y al contrario o lungo l'asse delle z al contrario quindi io posso proiettare essenzialmente ogni vertice del mio della mia del mio cilindro in sei direzioni verso l'alto verso l'asse delle x verso l'asse delle y verso il basso verso l'asse delle x al contrario verso l'asse delle y al contrario ho queste opzioni e c'è solo un'opzione che se selezionata farà avvenire la proiezione e perciò farà funzionare il mio constraint in questo caso con project axis il mio consiglio è questo cliccate e scorretele tutte finché non vedete che il constraint funziona il constraint funziona quando la vostra ruota aderisce perfettamente al piano del target adesso quando è che la ruota aderisce perfettamente al piano del target quando clicco su meno y con meno y la ruota aderisce perfettamente al piano del target e quindi la proiezione è stata effettuata con successo tuttavia una grande domanda che ci verrebbe da Paul ci è ma com'è possibile? perché se la posizione originaria della mia ruota è questa tecnicamente per proiettare i vertici lungo sopra il piano le avrei dovute proiettare in questa direzione questo è vero e quindi questa direzione che direzione è? sarà l'asse delle z al contrario sarebbe l'asse delle z al contrario se usassimo il sistema di riferimento globale invece stiamo usando il sistema di riferimento locale si inserisca il sistema di riferimento globale effettivamente per far funzionare il constraint ah il concept in questo momento non funziona non capivo il perché non funziona perché il semplice motivo che abbiamo che l'abbiamo disabilitato non capivo perché non vedessi risultato semplicemente l'avevamo disabilitato comunque dicevo con local space vediamo che il risultato funziona se proietto al contrario lungo l'asse delle y per il semplice motivo che stiamo utilizzando il sistema di riferimento locale dove questa direzione è l'asse delle y al contrario nel sistema di riferimento locale anche se ci viverebbe da pensare che questa direzione è l'asse delle z al contrario ma è l'asse delle z al contrario solo se usiamo il sistema di riferimento globale infatti se inserisco il sistema di riferimento globale con world space il mio conoscente funziona se metto meno z ovviamente ricordatevi sempre di controllare che il conoscente sia abilitato perché anche a me in realtà è successo già qualche altra volta prima che dico ah perché non funziona il mio coro che era nascosto una cosa terribile poi questa sarebbe la distanza poi tuttavia ammetto che può essere un po' fastidiosa anche questa cosa delle direzioni degli assi perché lungo l'asse delle z è facile intuire la direzione delle assi verso l'alto asse delle z al dritto verso il basso asse delle z al contrario tuttavia lungo l'asse delle iz e delle y è un po' meno intuitivo capire qual è la direzione dritta e qual è la direzione al contrario degli assi delle iz e delle y e quindi è facile risolvere basta abilitare l'opzione project opposite dove se selezionate più iz viene prioritato anche nella direzione meno iz più y anche nella direzione meno y più z anche nella direzione meno z che è quella che ci serve e infatti adesso se la selezione meno z che più z funziona lo stesso quindi con project opposite magari state un po' più tranquilli ignorate le ultime tre opzioni e più e meno e semplicemente immaginate che scegliere più iz equivale a proiettare lungo l'asse delle iz su entrambe le direzioni più iz equivale a proiettare lungo l'asse delle iz su due direzioni più z proiettare lungo l'asse delle z su entrambe le direzioni se project opposite è attivato se invece è disattivato più iz corretta solo sull'asse delle iz al dritto eccetera 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 avete capito ok spero che lo siete spero che stiate seguendo spero che vi risulti tutto abbastanza chiaro poi abbiamo l'opzione face cool che è veramente molto molto semplice per capirla meglio negli overlay satiam il face orientation vi ricordate di che si tratta poi ho eliminato momentaneamente il modificatore solidify da questo piano proprio per rendere un pochino più semplice la comprensione di questa opzione vediamo che abbiamo ovviamente un lato della mesh con le normali rivolte un lato della mesh davanti quindi blu e un lato della mesh dietro quindi rosso questo è dovuto essenzialmente alle normali ed è una delle cose fondamentali di blender che abbiamo visto se la memoria non mi ingana nella lezione 8 ormai dopo tutte queste lezioni inizia a essere quasi difficile ricordarsi cosa abbiamo visto in ogni lezione però vabbè non è uguale comunque stavo dicendo se in face cool inserite front potete proiettare se in face cool inserite front potete proiettare solo sui lati rossi della vostra mesh in questo caso se la proiezione avvenisse correttamente proiettereste su un lato blu del target e perciò non funzionerebbe con back invece dovete proiettare su un lato blu invece con off potete proiettare su tutti i lati cerchiamo di capire un pochino meglio ok disattiviamo momentaneamente il constraint e inseriamo in questa posizione il mio cilindro se la proiezione avvenisse correttamente quindi se venisse proiettato correttamente verrebbe proiettato lungo questo lato del mio target e perciò lungo un lato di che colore rosso riabilitiamo il target e vediamo che funziona benissimo viene proiettato sul lato rosso ma con il lato rosso va a coincidere il pivot che si trova nella parte bassa del cilindro e quindi alla fine il cilindro emerge qui in alto ma in realtà viene proiettato sul lato rosso se inserite front dite che sul lato rosso può proiettare ma se si trovasse sul lato blu non potrebbe infatti inserito front disattiviamo magari un attimo il constraint alziamo il cilindro e adesso la proiezione dovrebbe avvenire sul lato blu e infatti con front non funziona più con off in altre parole la proiezione funziona sempre con front la proiezione funziona solo se avviene sul lato rosso se avviene sul lato blu non funziona più lo abbasso adesso lo riabilito e dato che adesso la proiezione avviene sul lato rosso e funziona di nuovo quindi con front funziona solo e solo se la proiezione avviene sul lato rosso se invece avviene sul lato blu se in face cool è selezionato front non funziona infine abbiamo il back che è il contrario di front ma guarda con back il constraint funziona solo e solo se la proiezione avviene sul lato blu se invece avviene sul lato rosso ovviamente il constraint non funziona con off invece il constraint funziona sempre quindi con front il constraint funziona solo se è proietto sul lato rosso con back solo se è proietto sul lato blu infine abbiamo la facilissima opzione invert cool che inverte le cose con front se premio invert cool è come se avessi back con back se ho invert cool attivato è come se avessi front ovviamente con off non ha senso l'opzione invert cool perché con off funziona tutto sempre e quindi invert che non ha molto senso e questo è finalmente il constraint screen wrap spero che l'abbiate trovato intuitivo intuitivo almeno che l'abbiate capito poi se non l'avete trovato intuitivo ma l'avete capito lo stesso non è un gran problema che non l'avete trovato intuitivo adesso prima di chiudere questa lezione lo so che è lunga io infatti ne approfitto per scusarmi della lunghezza eccessiva delle lezioni me ne rendo conto che sono troppo lunghe però io sono logoroico mi dilungo quando parlo metteteci anche il fatto che magari gli argomenti sono vastini e che sono fissato con la completezza con farvi capire tutto e col farvi più esercitazioni pratiche possibili perché mi sembra necessario penso essere più giusto così messi tutti questi fattori capisco che le lezioni sono un po' lunghette via questa lezione è quasi finita dobbiamo solo capire essenzialmente questa è bella che i miei che i constraint possono essere applicati anche e soprattutto ai bones vediamo come all'interno di un'armatura di un rigging per farlo dobbiamo prima rigare un personaggio che bello iniziamo a modellare no non è necessario creiamo un'armatura molto molto velocemente iniziamo un cubo m collapse per collassarlo ed e per estrudere adesso ez per estrudere nuovamente e ed ez in questo modo creiamo questo mezzo stickman inseriamo adesso un modificatore mirror shift s cursor to selected set origin to 3d cursor verrà utilizzato come centro come centro del mirror il pivot quindi impostiamo il pivot dove appunto deve passare l'asse di semia del personaggio ok ottimo lavoro adesso magari andiamo ad inserire un bel non so le dico scusate un bel modificatore skin che fa che è sempre un modificatore molto molto importante magari se aumentiamo un po' il branch smoothing che ci permette di correggere un po' i nodi tra i vari rami del del dello skin magari applico anche il mirror premo a per selezionare tutto m by distance per eliminare eventuali vertici duplicati che danno fastidio ok va tutto abbastanza bene adesso andiamo ad applicare per finire un subsurf con sei divisioni sono quasi troppe quasi magari iniziamo cinque anche quattro vanno più che bene a patto che iniziamo uno shade smooth anzi dobbiamo attivare lo smooth shading nello skin questo è un nostro semplicissimo stickman con qualche leggero artefatto qui c'è un piccolo artefatto magari aumentiamo il bridge smoothing beh non è un gran problema ma è però premiamo contro la per aumentare qui il raggio del vertice e abbiamo corretto l'errore adesso aumentiamo il branch smoothing per far diminuire le dimensioni ai vari rari le dimensioni dei nodi gz per spostare un pochino questo vertice quindi adesso suddividiamo le braccia e le gambe in modo da avere singoli gomiti ecco ho dovuto aumentare molto le dimensioni di quel nodo ma li mettiamo a posto con il branch smoothing adesso shift z risposte scelto z per lavorare in modo seleziono questi vertici li sposto in basso e tengo questo buon personaggio adesso lo riggo e ho fatto il rigging automaticamente creando un'armatura quale deve essere la root dell'armatura questa quindi mark root e creiamo l'armatura adesso magari andiamo a cambiare la modalità di visualizzazione in bandy bone andiamo ovviamente in post mode cioè la modalità in come devo essere per andare ad evitare l'armatura e vedo che il mio semplicissimo personaggio risponde bene alla mia armatura ma perché abbiamo creato questo semplice personaggio per andare a ripassare un po' di armature no ovviamente no l'abbiamo fatto perché i constraint esistono anche per le armature ora se io voglio inserire un constraint alla mia intera armatura quindi volessi proprio limitare la location dell'intera armatura quindi seleziono sia il personaggio che l'armatura cremo G per spostarli per esempio potrei inserire un constraint agli interi oggetti per non poterli spostare più di tanto come con qualsiasi altro oggetto tuttavia se io vado in post mode e seleziono un singolo osso io posso inserire dei constraint anche a quel singolo osso non dal classico pannello degli object constraint perché se lo facessi da qui inserirei un constraint a tutta l'armatura lo devo fare da questo menu bone constraint che mi da esattamente a parte di alcuni un paio di constraint in più gli stessi constraint che abbiamo visto prima il che mi permette di andare a lavorare appunto con i miei constraint sulle singole ossa non serve rivederli tutti perché sono constraint che già conosciamo per esempio il constraint maintain volume se io adesso scalo il mio osso mi ne clicca le informazioni in modo da mantenermi nel volume oppure oppure facciamo un altro esempio posso inserire un oggetto qualsiasi come per esempio un empty e utilizzare questo empty come target del pivot di quest'osso adesso se ruoto quest'osso si ruoterà attorno all'enti che magari può essere una cosa che io voglio ottenere può essere utile in determinate situazioni oppure posso utilizzare anche il limit rotation per esempio considerato il mio osso posso limitare nella rotazione lungo l'asse delle hits per esempio a un minimo di meno 45 gradi e a un massimo di 45 gradi in questo modo limito la location limito la rotazione del mio osso lungo l'asse delle hits oppure che ne so posso anche usare il transformation selezionando un altro osso qualsiasi ah una cosa importante per selezionare un osso nel target dovete selezionare prima l'armatura e poi in bone andare a selezionare quel singolo osso perciò se voglio selezionare quest'osso della gamba prima devo andare a vedere come si chiama si chiama bone07 adesso vado al constant e qui cerco proprio il bone07 adesso in target ho selezionato quest'osso cioè il bone07 per esempio posso prendere le informazioni sulla sua rotazione e utilizzarle per controllare la scala di quest'altro osso per esempio prendere i dati di rotazione che vanno dai meno 180 ai 180 gradi su tutti gli assi in modo da prendere qualunque dato di rotazione e utilizzarlo per garantirmi un'influenza che mi scala il mio osso per un valore che va da 0 a 1 o magari da 0 a 4 in questo modo andando a ruotare quest'osso vado a controllare la scala di quest'altro osso oppure posso anche andare ad utilizzare per esempio l'opzione action per un osso scelgo un'azione qualsiasi cerchiamo per esempio di creare un'azione molto veloce i location andiamo al decimo frame erase i no scusate eh erase non i rotation i rotation andiamo al decimo frame erase i rotation in questo modo creiamo questa breve animazione con l'azione la rinomino rotazione del braccio fake user per essere scuoli non perderla e la elimino adesso qui cerco l'azione rotazione del braccio come fake user seleziono un altro oggetto che può essere per esempio anche un altro osso per esempio vado a selezionare l'intera armatura per esempio voglio prendere quest'osso vedo che si chiama bone06 e allora qui vado a cercare il nome dell'osso lo vedete qui in alto bone06 adesso quale proprietà per esempio la sua rotazione lungo l'asse delle z che io considero che io considero da un minimo di meno 180 a un massimo di 180 deve andare ad influirmi su questa azione che va dal frame 1 al frame 10 adesso premendo r z per quest'osso vale ad influire sull'avanzamento nell'azione di quest'altro rosso comunque sia vi faccio notare essenzialmente che l'azione io non la devo creare necessariamente con l'oggetto a cui la applico per esempio inserisco questo cubo il rotation vado al decimo frame rz il rotation adesso quest'azione la rinomino in prova non mi vengono più mentre altri nomi fake user la cancello così adesso è rimasto nel database di questo blender file adesso vado in post mode e qui potrei anche benissimo scegliere l'azione di prova e sarebbe quest'azione che andrebbe ad usare questo osso o almeno in teoria perché non funziona perché se l'azione è stata creata manipolando un osso e l'applicate a un osso anche diverso funziona se l'azione è stata creata manipolando una mesh e l'applicata a una mesh anche diversa funziona ma se è stata creata manipolando una mesh e l'applicata a un osso dovete andare ad abilitare l'opzione object action così facendo andando a ruotare quest'osso lungo l'asse delle z faccio avanzare quest'altro osso lungo l'azione di prova che però attenzione sarà un'azione lungo l'azione di prova che però attenzione sarà un'azione che ho creato con un altro oggetto posso scegliere una qualsiasi azione anche l'azione muoviti lungo l'asse delle hits devo fare qualche altra prova per esempio andando a inserire scusate prendo questo cono lo duplico primo fotogramma il location ventesimo fotogramma g il location ho creato questa azione che rinomino in test rendo fake user e elimino adesso dico che quest'altro cono deve rispondere alla medesima azione chiamata test che va dal frame 1 al frame 20 e che deve subire un'influenza che va dal frame 1 al frame 20 deve lavorare in base alla rotazione lungo l'asse delle z di quest'altro cono quindi per esempio z rotation la rotazione lungo l'asse delle z di quest'altro cono che deve essere considerata in base a dei valori presi da un minimo di meno 180 a un massimo di 180 adesso andando a modificare la rotazione lungo l'asse delle z di questo cono quest'altro si modifica in base a quest'azione anche se è stata creata con un altro oggetto h per nascondere i coni quindi abbiamo visto che io posso prendere un qualsiasi osso e applicarli uno di questi constraint spero che sia abbastanza chiaro per esempio posso sempre andare a prendere un empty come questo che ho aggiunto prima e andarlo ad associare una qualche proprietà di un mio oggetto sempre attraverso i constraint lo faccio sempre da buon constraint transformation e inserisco la rotazione la rotazione della spina dorsale per esempio è basata nella rotazione dell'oggetto target quindi in questo caso di quest'empty va a influire sulla rotazione della spina dorsale inseriamo valori minimi e massimi che ci permettono di considerare tutte le trasformazioni di rotazione del mio empty e diciamo a blender che può ruotare la mia spina dorsale in base a questo di quanto vuole inserendo valori minimi e massimi adeguati infatti adesso andando a ruotare il mio empty si ruota la spina dorsale del mio personaggio quindi abbiamo a disposizione degli strumenti molto potenti i constraint disponibili anche per le ossa poi fate qualche prova fa sempre bene vediamo per esempio che se voglio che le braccia siano esattamente nella stessa posizione inserisco un copy rotation a questo braccio vado a selezionare a quest'osso vado a selezionare quest'altro osso bone 08 e infatti in bone scego proprio bone 08 adesso la rotazione è para para esattamente la stessa vedete esattamente la stessa rotazione magari in questo modo si sovrappongono per evitare inserisco add a livello di rotazione in questo modo se seleziono l'osso verde e lo ruoto io manualmente per esempio provendo rz cioè l'osso a cui ho applicato il copy rotation esso si ruota però se ruoto quest'altro osso la sua rotazione va a raggiungersi viene copiata all'osso verde qui la stessa cosa inserisco magari qui un altro copy rotation seleziono seleziono sempre l'armatura questo che osso è è il bone 04 quindi qua vado a scegliere bone 04 in inizio modo mi ricordo di inserire replace scusate add in questo modo andando ad editare questo osso singolarmente esso si muoverà singolarmente ma se ruoto quest'osso le trasformazioni vengono trasferite al corrispettivo dell'altro branch fate magari qualche prova per esempio scegliamo di non copiare i valori di rotation lungo l'asse delle hits magari quelli influiscono troppo oppure magari fate qualche prova oppure possiamo decidere di non copiarle lungo l'asse delle z ecco in questo modo abbiamo un pochino più di controllo fate ovviamente delle prove ci mancherebbe altro fate più prove che potete per vedere come che risultati riuscite ad ottenere tuttavia potremmo finire qua se è con le ossa quindi ora non vi sto a rispicare tutti i constraint collegati alle ossa semplicemente sappiate che tutti i constraint che abbiamo visto funzionano esattamente allo stesso modo anche per le ossa perché le ossa in post mode sono oggetti distinti eliminiamo i constraint già esistenti torniamo momentaneamente in object mode torniamo a questo empty magari lo ruotiamo un po' per cambiare la rotazione della spina dorsale oppure semplicemente andiamo ad eliminare questo constraint della spina dorsale che non ci serve più ora in realtà purtroppo a complicare un filino la situazione ci sono i constraint c'è il fatto che ci sono due constraint in più alla voce tracking e un constraint nella voce relationship che con le armature funziona e con gli oggetti normali no ma che c'è stranamente anche con gli oggetti normali perciò dobbiamo andare magari a studiarli tutti e tre beh no perché il constraint inverse cinematic l'abbiamo già visto nella lezione 37 quindi lo conosciamo già l'abbiamo già visto nella lezione 37 e quindi per ora lo tralasciamo andiamo a vedere il constraint spline ik però non lavoriamo con dei constraint complessi come questi andiamo a creare una semplice catena d'ossa molto molto elementare in modo da poter lavorare un po' più liberamente ora questo osso è alto un metro quindi per averne un uguale basta selezionare la tip e premere ez1 ripetiamo l'operazione con shift r ripetiamo l'ultima operazione ripetiamola 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 ed otteniamo questa semplicissima catena d'ossa adesso ricordatevi sempre la differenza che c'è tra questo pannello e questo pannello con questo pannello se siete in post mode potete applicare un constraint a un singolo osso invece con questo pannello applicate proprio un constraint all'oggetto armatura ma non è questo che vi devo dire andiamo in pose mode e vediamo che abbiamo un con andiamo nella modalità di posa e vediamo che nel pannello add bone constraint abbiamo un constraint molto speciale il constraint splena i key che ci permette di fare in modo che una catena di ossa segua una curva quindi è uno strumento fantastico ve lo faccio vedere subito prendiamo questa curva magari la ruotiamo lungo la magari premiamo r z 90 gradi r x 90 gradi r x no scusate prendiamo il sistema di riflettimento globale r x 90 gradi adesso premiamo g z e scaliamo lungo l'asse delle z otteniamo in questo modo abbiamo questa nostra bellissima curva magari la vado a rendere più smussata aumentando la resolution preview bene è il risultato che volevo questa bella curva adesso in pose mode prendiamo un osso e andiamo ad inserire il constraint splenike vado a selezionare la mia curva e vedo che l'osso viene ridimensionato in modo da seguire la mia curva è un singolo osso quindi non è che la può seguire in modo molto preciso aumentando chain length facciamo in modo che il constraint influenzi anche l'osso precedente in questo modo sono due le ossa a seguire la curva e quindi il risultato è un pochino più preciso aumentiamo chain length finché tutte le ossa non seguono la curva e adesso vediamo che effettivamente ho proprio una curva che mi va a regolare una catena d'ossa può sembrare uno di quei classici strumenti poco noti e misconosciuti ma in realtà questo è qualcosa che per i blenderisti o essenzialmente per chi lavora tanto con il rigging questo è uno strumento interessantissimo perché il suo vantaggio è quello di metterci a disposizione una curva editabile che tale da permetterci editando questa curva di editare una fila di ossa quindi tutte le ossa seguiranno questa curva ho diviso tre volte la catena di ossa torniamo in post mode e ovviamente se aumenta il numero di ossa devo aumentare la lunghezza di chain length perché se il numero di se un valore inserito in chain length è inferiore al numero di ossa poi va a finire che ci sono delle ossa non influenzate questo può creare brutti risultati vediamo essenzialmente che adesso tutte le ossa sono state ridimensionate riposizionate in modo da seguire alla perfezione la mia curva e è per questo che questo per i blenderisti è uno strumento inestimabile prendiamo ctrl z fino ad arrivare a un livello magari con una curva un pochino più dove non avevamo ancora suddiviso la nostra curva e eliminiamo qualche segmento appunto dalla curva in modo da renderla più semplice e lavorarci meglio quindi essenzialmente con spline i key io prendo un singolo osso che di solito si trova alla fine della mia curva e in questo osso vado ad inserire questo constraint poi vado ad aumentare il valore di c in length in modo da influire su tutte le altre ossa della catena in questo caso ne sono servite 12 e in questo modo le mie ossa sono andate ad ottenere in questo modo sono andate ad ottenere una curva che viene seguita da una catena d'ossa se io vado alla mia curva e la edito la catena d'ossa si adatta di conseguenza e questo ovviamente è uno strumento inestimabile a livello di reading perché di una precisione incredibile ci permette di avere delle forme morbidissime influence è il valore dell'influence di questo constraint e adesso andiamo a vedere le altre opzioni che Blender ci mette in disposizione Blender è andato a scalare le ossa lungo l'asse delle Y aperta parentesi qui ci riferiamo al sistema di riferimento locale per un osso l'asse delle Y sarebbe l'asse per un osso l'asse delle Y sarebbe l'asse parallelo al segmento che unisce la root e la tip quindi in parole povere scalare lungo l'asse delle Y vuol dire allungare l'osso in questo caso Blender ha scalato tutte le ossa lungo la loro asse delle Y quindi le ha allungate al solo scopo di coprire tutta la lunghezza della curva noi possiamo anche dire a Blender di non farlo in questo modo Blender non mi va a riscalare le ossa per coprire la lunghezza della curva se metto non e se invece inserisco buono original Blender va a tenere conto della lunghezza degli osso originari con FitCurve invece quindi per esempio se un osso originariamente era più lungo con BuonOriginale lungo l'asse delle Y continua ad essere più lungo con Non non c'è nessuna scaling ulteriore dovuto al constraint invece con FitCurve le mie ossa vengono appositamente ridimensionate lungo l'asse delle Y cioè per quest'osso per esempio l'asse delle Y sarebbe questo per quest'osso l'asse delle Y non sarebbe questo sono state automaticamente ridimensionate per poter coprire tutta la lunghezza della curva poi possiamo anche andare a scalare lungo tutte e due le altre assi per esempio possiamo chiedere a Blender di mantenere la scala originaria lungo le altre due assi in questo caso non cambia niente Valium Preservation cioè possiamo chiedere a Blender di scalare lungo l'asse delle Y e delle Z per preservare il volume possiamo andare a dire a Blender quanto deve essere esponenzialmente la variazione del volume finale possiamo andare a dare a Blender un volume minimo e un volume massimo se che può assumere la mia catena di osso se glielo date le pare anche un'opzione di Smooth che vi permette di smussare il risultato finale per ottenere magari qualcosa di più morbido con Inverse Scale lungo le assi delle Y e delle Z ogni osso è scalato per l'inverso di quanto è scalato lungo l'asse delle Y gli osso original scale si è attivato dice a Blender che le ossa che nella posizione di riposo cioè questa sono più lunghe devono rimanere più lunghe senza gli osso original scale non è più così adesso abbiamo Chain Length semplicemente io applico questo constraint a un osso ma poi devo andare ad aumentare ma poi diciamo che Blender rispetto all'osso a cui io lo applico che sarebbe appunto l'osso giallo lui considera quest'osso e andrebbe ad influire solo su questo se Chain Length fosse 1 se Chain Length fosse 2 andrebbe ad influire anche sull'osso prima con 3 anche sull'osso prima con 4 andrebbe ad influire anche sull'osso prima con 5 andrebbe ad influire anche sull'osso prima e così via vi consiglio sempre di influire su tutte le ossa quindi aumentare il Chain Length finché non vedete che tutte le ossa sono state ridimensionate per coincidere con la curva allora essenzialmente l'opzione Event Divisions va ad ignorare la lunghezza relativa degli ossi all'interno della posa di riposo per esempio nella posizione di riposo andiamo a prendere quest'osso e andiamo a scalarlo per esempio premiamo SZ in questo modo adesso senza Event Divisions Blender tiene conto di show cioè del fatto che questo osso è più lungo con Event Divisions Blender tiene totalmente Blender ignora completamente il fatto che quest'osso avesse inizialmente una scala maggiore e questo è ciò che essenzialmente ci interessa infine l'ultimissima cosa da sapere Use Curve Radius cioè è una cosa abbastanza semplice se seleziono adesso la mia curva e ne aumento il raggio premendo altesse con Use Curve Radius gli ossi vicini a una maniglia con un raggio maggiore diventano più grandi senza Use Curve Radius questo comportamento non si verifica e il raggio della curva diventa irrilevante infine a questo punto alcuni si potrebbero chiedere se è possibile animare una curva a livello di forma sì perché anche per le curbe esistono gli Shipkeys immaginiamo di inserire uno Shipkey di riferimento per lo Shipkey on durazione andiamo in Edit Mode con questo Shipkey selezionato in modo da salvare all'interno di esso le modifiche che effettueremo alla nostra curva in questo modo adesso andando a cambiare l'effetto dello Shipkey ondulazione posso andare a cambiare la forma della curva andando ad animare eventualmente il valore di Shipkey ondulazione posso andare a cambiare essenzialmente la forma della mia curva e consecutivamente della mia catena d'ossa creiamo una nuova proprietà la rinomino per esempio in Shape Copy as New Driver e qui Paste Driver in questo modo qui all'interno della sidebar ho una proprietà che mi va a controllare la forma della mia curva se non avete capito cosa stavo facendo andate a rivedere la lezione al 38 nella parte finale in cui abbiamo parlato dei driver se non avete capito quello che ho fatto ok e questo essenzialmente è quello che dovevamo sapere sul driver Spline IK adesso prima di chiudere definitivamente questa lezione andiamo a vedere le opzioni di armature premiamo AH per nascondere Shift S cursor toward origin adesso andiamo ad aggiungere magari una nuova armatura e ovviamente abbiamo un unico osso adesso lo duplico e lo muovo lungo l'asse delle Y adesso vado in post mode e questi sono due ossi semplicissimi ma allora adesso andremo ad utilizzare queste due ossa le potremo utilizzare per fare moltissimi esperimenti sui vincoli iniziamo andando a vedere l'unico constraint che non conosciamo ancora il constraint delle armature è veramente molto molto semplice ci permette di fare in modo che un osso ne vada a controllare un altro queste due ossa sono separate perciò se io vado a ruotare quest'osso questo non viene alterato posso cambiare questo comportamento con il constraint armature che mi permette di associare di assegnare all'osso aventi il constraint uno o più ossa che padri allora l'osso aventi il constraint lo rinomino in osso owner quindi osso proprio osso aventi il constraint e l'osso di riferimento lo vado a rinominare in osso target adesso io voglio che l'osso target muovendosi vada a influenzare l'osso owner cioè io voglio che l'osso owner sia l'osso figlio dell'osso target lo potrei fare semplicemente con child off cioè vado all'osso owner in target seleziono l'osso target e se muovo e ah ovviamente io adesso ho selezionato l'armatura blender mi chiede quale osso dell'armatura deve essere l'osso padre specifico il target e adesso se muovo l'osso target l'osso owner viene influenzato tuttavia se volete un sistema ottimizzato e unico per le armature vi conviene utilizzare il modificatore armature che è molto semplice add target bone equivale ad aggiungere un padre tra virgolette a quest'osso quindi ad aggiungere un osso che lo vada a controllare add target bone e adesso io posso selezionare un osso di controllo in realtà potrei anche selezionare un osso che fa parte di un'altra armatura per esempio quest'osso per esempio potrei selezionare l'armatura 003 cioè l'armatura che ho appena aggiunto che ha un singolo osso e andare a selezionare quell'osso adesso addirittura se vado a muovere quest'osso di questa armatura si muove un osso di un'altra armatura il che è fantastico non avrei potuto fare con l'opzione child off oppure seleziono la stessa armatura e vado a scegliere l'osso target e adesso questo è l'osso padre il vero vantaggio quindi l'osso che selezionate qua diventerà padre dell'osso a cui applicate il constraint potete anche andare a modificare l'influenza di questo non è anche andare a modificare l'influenza di questo constraint particolare ma potete fare di più potete aggiungere più ossa padre per un singolo osso per un singolo osso figlio per esempio aggiungo un altro osso padre seleziono l'armatura 003 e seleziono il bone adesso sia l'osso target di armatura 002 sia l'osso target di armatura 002 che l'unico osso di armatura 003 andranno ad influenzare l'osso avendo il constraint adesso posso anche andare in edit mode e duplicare queste ossa per esempio le rinomino in test 1 e test 2 torniamo in post mode e magari in target bone seleziono gli entrami al target bone per selezionare altri ossa padri armature 003 armature 003 no scusate armature 002 e armature 002 che è l'armatura di cui fa parte l'osso owner e guardo a selezionare gli ossi test 1 e test 2 adesso sia l'osso target che l'osso test 1 che l'osso test 2 che addirittura l'osso bone che fa parte di un'altra armatura andranno ad influenzare l'osso a cui ho inserito il constraint l'elenco di tutti gli ossi che andranno ad influenzare quest'osso lo vedete all'interno dell'opzione lo vedete all'interno del menu bones potete andare a regolare l'influenza complessiva del vostro constraint però potete anche andare a fare qualcosa di molto 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 più interessante potete anche andare a cambiare lo weight di ognuno di questi singoli ossi di controllo per esempio posso fare in modo che l'osso target cioè questo abbia la metà dell'influenza su quest'osso per esempio adesso se muovo l'osso target esso andrà ad influenzare sull'osso verde la metà delle altre ossa in altre parole accanto ad ognuno di queste ossa io posso scegliere quanto il suo movimento andrà ad influenzare l'osso avanti il constraint ve lo rispiego in parole povere voi potete ogni premere add target bone e poi li potete cancellare premendo su questa hits e qui ad aggiungere un osso padre per selezionare un osso qui selezionate l'armatura di cui fa parte può anche essere un'altra armatura rispetto all'osso owner cioè l'osso verde e poi andate a selezionare l'osso a cui vi riferite tutte le osse che andate ad indicare qui saranno ossa padre dell'osso avanti il constraint cioè ossa che se mosse trasferiranno la loro trasformazione anche all'osso avanti il constraint quanto un determinato osso andrà ad influenzare l'osso avanti il constraint quindi quanto una di queste ossa padre che avete qua andrà ad influenzare l'osso avanti il constraint lo potete decidere con lo weight per esempio inserendo punto 1 l'osso dell'armatura 003 quindi quell'osso che fa addirittura parte di un'altra armatura avrà un decimo dell'influenza sopra quest'osso rispetto agli altri con normalize weights blender va a ricalcolare tutti gli weight tutti i valori di weight quindi di influenza di ciascuno di queste ossa in base a cosa blender lo va a fare? è semplice va a risettare tutti questi weight in modo che la loro somma sia 1 se i valori inseriti da voi prima di premere normalize weights erano tutti uguali blender lascia i valori tutti uguali in modo che la somma complessiva sia 1 se però un determinato osso aveva un valore di weight più basso quando premete normalize weights blender manterrà un valore di weight più alto se un osso aveva uno weight molto alto quando premete normalize weights blender manterrà uno weight più alto ma farà sempre in modo che la somma di tutti gli weight sia 1 detto proprio in parole molto molto povere e questo è il fantastico constraint di tipo armature adesso andiamo momentaneamente in edit mode cancelliamo queste due ossa che non ci interessano per niente e torniamo in post mode adesso l'armatura non funziona più perché io ho cancellato delle ossa e se anche uno di questi campi ossa è vuoto il concept non funziona più quindi quando cancellate un osso o lo rinominate dovete andare al modificatore armature e ricorreggere le opzioni di conseguenza per esempio se eliminate due ossa i campi nel modificatore armature relative a quelle due ossa li dovete eliminare per esempio adesso elimino tutti i campi relativi a tutte le ossa tranne quello relativo all'osso target che è quello che ci interessava sin dall'inizio adesso eliminiamo il constraint armature e andiamo a vedere perché in realtà i constraint li conosciamo tutti tranne quelli della prima colonna che vedremo in futuro tanto ci vorrà poco anche in futuro perché sono molto molto colti magari andiamo a fare qualche esperimento velocissimo per esempio proviamo ad aggiungere una griglia cioè un piano già suddiviso noi lo suddividiamo ulteriormente una cinquantina di volte lo scaliamo e adesso aggiungiamo un modificatore displacement ma non fa scegliamo come texture sempre la solita clouds e ne aumentiamo la scala le dimensioni vediamo che il constraint funziona benissimo anche il constraint funziona benissimo come anche con le ossa posso selezionare la griglia come oggetto target e se sposto l'osso esso tenderà a muoversi sopra la mia griglia gli esempi poi con il constraint delle ossa se ne potrebbero fare a dir poco a migliaia si potrebbero fare tantissimi esempi anche per esempio con il floor per esempio aggiungo il floor come oggetto target magari seleziono proprio la mia armatura 002 e seleziono l'osso target come osso perpendicolare scelgo come asse perpendicolare scelgo l'asse delle y e infatti adesso l'osso owner quindi l'osso con il constraint non può più andare oltre l'osso target in particolare oltre un piano passante per l'osso target e perpendicolare all'asse delle y per farvi un esempio come vediamo i constraint continuano a funzionare a meraviglia ecco fate qualche prova perché c'è tantissimo da sperimentare ma io non vi posso farvi vedere tutti i constraint in relazione alle ossa in una singola lezione anche se vorrei però non lo posso fare durerebbe troppe ore sarebbe cominciare da capo quindi voi fate qualche prova a vedere come relazionare questi constraint alle ossa fate qualche prova voi poi anche con l'esperienza imparerete pian piano è tutta proprio una questione di esperienza questa armatura non mi serve quindi la cancello e andiamo a vedere l'ultima nozione di oggi che è veramente molto 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 breve magari la possiamo anche vedere non è collegata alle ossa inseriamo per esempio una scimmietta e facciamo un altro esempio di constraint disattiviamo il phase orientation inseriamo il solito subsurf abbiamo quasi finito eh adesso inseriamo magari un piccolo empty che la mia scimmia andrà a guardare come mi assicuro che la scimmia lo vada ad osservare si rivolga verso di esso utilizzando un bel track to cambio le assi selezionate per esempio in questo modo mettendo l'asse verso l'alto l'asse delle z e il trecatsis l'asse meno y e il mio risultato è esattamente quello che voglio adesso ammettiamo che io voglia applicare il constraint quindi mettiamo che io voglia avere una funzione magica che mi applica il constraint in questo caso che vuol dire applicare il constraint vuol dire questo è il risultato che mi ha dato il constraint basta io voglio che rimanga questo quindi io voglio congelare la scimmia in questa posizione voglio che la scimmia rimanga così com'è e che anche se muovo lempty la scimmia rimanga così voglio che questo risultato che mi ha dato il constraint rimanga così e basta non voglio che venga più variato voglio congelare il constraint in questa posizione se fosse un modificatore basterebbe applicare il modificatore io voglio infatti che la scimmia si congeli in questa posizione tuttavia non abbiamo un pulsante apply nei constraint però abbiamo di meglio se vado nel menu object animation ho anche l'opzione bake action che sarebbe essenzialmente un'azione che mi va a applicare i constraint andiamo a capire di che si tratta intanto vediamo che intanto andiamo a capire appunto come funziona cerchiamo di rend vediamo che se io premo ok mi sono stati inseriti tantissimi keyframes questo perché molto spesso i constraint provocano movimento cerchiamo di capire il perché inseriamo un keyframe alla location e alla rotation anzi magari solo alla location quindi ctrl z i location di questo empty adesso andiamo al centocinquantesimo frame quindi all'ultimo spostiamo il mio empty e premo i location in questo modo il constraint mi ha provocato un movimento adesso però io voglio applicare il constraint quindi questa trasformazione che il constraint mi da questo risultato ce lo voglio avere e stare tranquillo tenermi questo risultato che mi ha dato il constraint cioè la scimmia si muove in questo modo io voglio applicare questo effetto per farlo basta andare a animation bake action adesso devo inserire il primo frame dell'animazione l'ultimo frame e dire a blender quanto deve essere preciso adesso andiamo a premere ok ora sembra che blender abbia sostituito il movimento dovuto ai constraint lo abbia convertito in un movimento dovuto ai keyframes però vediamo che se nascondiamo il constraint la scimmia non si muove più e allora c'è qualcosa che non va blender in realtà mi ha creato dei keyframes che sostituiscono il constraint però se nascondendo il constraint non vedo il movimento vuol dire evidentemente che quei keyframes non contengono il vero e proprio movimento dettato dal constraint e infatti c'è qualche altra piccosa da sapere intanto io vorrei che se blender mi vada applicare il constraint quindi se voglio congelare il constraint vero e proprio io vorrei che il constraint sparisse perché questa opzione cosa fa? io voglio trasformare l'effetto del constraint in un effetto alternativo che non è più dettato da un constraint in questo modo o la mia mesh è congelata resta ferma nella posizione del constraint o il movimento provocato dal constraint resta così com'è posso andare a dire a blender di andarmi quindi a fare un clear constraint cioè eliminarmi i constraints definitivamente e lasciarmi solo il e lasciarmi solo dei dati provenienti da un'altra fonte quindi se seleziono clear constraint i constraints verranno eliminati e al loro posto avrò dei keyframes che detteranno il movimento della mia scimmia tuttavia vedo che questi movimenti non ci sono prendiamo ctrl z per annullare e cerchiamo di capire perché con visual keying noi diciamo a blender ora abbiamo anche questa opzione visual keying vi sembrerà vi sembrerà strano ma in realtà i keyframes di prima non facevano niente non contenevano nessun dato perché per fare in modo che quei keyframes vadano a contenere dei dati dovete abilitare l'opzione visual keying quindi se volete convertire la trasformazione dettata dal constraint in una trasformazione dettata dai keyframes dovete selezionare sia visual keying che clear constraint proviamo premiamo ok e adesso vedo che i constraints non ci stanno più ma che il movimento dal loro dettato si è trasformato in dei keyframes il che è fantastico perché adesso posso spostare il mio empty posso addirittura cancellarlo senza preoccuparmi che il movimento venga alterato la mia scimmietta continuerà a muoversi in modo normalissimo quindi ecco il trucchetto andate in object animation bake action selezionate sia visual keying che clear constraint premete ok e badaboom vedete la trasformazione il movimento dettato dal constraint è stato trasformato in un movimento dettato dai keyframes il che ovviamente porta tantissimi vantaggi in determinate situazioni quindi è qualcosa di molto interessante andiamo a rendere di nuovo visibile l'armatura .002 questa semplicissima armatura e andiamo in post mode adesso eliminiamo questo constraint e riportiamo l'osso nella posizione originaria adesso inseriamo un empty come questo e adesso andiamo ad inserire un paio di constraint inseriamo per esempio un constraint track2 e andiamo a selezionare questo empty andiamo a dire andiamo a cambiare le opzioni di tracking affinché non vediamo che blender ha capito che l'osso deve essere puntato in direzione dell'empty cambiamo anche up z cambiamo le opzioni ecco in altre parole cambiamo un po' a caso le opzioni 3 cuts e up finché non vediamo che il mio osso è effettivamente puntato verso il mio empty se torno in object mode lo posso selezionare e vedo che è il risultato che desideravo e adesso inserisco un constraint del tutto simile di tipo però stretch2 a quest'altro osso e seleziono il mio empty adesso vado a far scendere original length cioè la distanza a cui si dovrebbe trovare l'empty perché l'osso non venisse deformato in altre parole dico che la distanza a cui l'empty si dovrebbe trovare dall'osso perché l'osso non si deformi dovrebbe essere più piccola perciò l'osso si deforma adesso vediamo molto chiaramente che se prendo l'empty gli ossa si deformano di conseguenza d'accordo adesso immaginiamo di animare l'empty e location andiamo semplicemente al frame 40 e location adesso andiamo alla mia armatura e andiamo a vedere cosa vogliamo fare se voglio effettuare sempre la trasformazione di tutto ciò da qualcosa di dettato dai constraints a qualcosa dettato con i keyframes stavolta devo usare il menu pause e andare anche qui in animation bake action in questo caso in end frame posso anche mettere solamente 40 perché posso anche mettere solamente 40 perché tanto l'animazione dell'empty due solo 40 frame inoltre vediamo che se voi avete fatto inoltre vediamo che back data ci sono semplicemente due opzioni se state andando ad applicare questa funzione a delle ossa come in questo caso dovete avere selezionato pause se invece state applicando questa funzione a un oggetto quindi come per esempio nel caso della scimietta che è uguale da valenti dovete avere selezionato object tuttavia l'opzione bake data la seleziona automaticamente il computer se selezionate dal menu pause che vuol dire che state lavorando con delle ossa e blender vi seleziona pause se lavorate dal menu object vuol dire che state lavorando con un oggetto e blender vi seleziona l'opzione di object in altre parole l'opzione bake data è sempre corretta perché la set la capisce da solo blender quale opzione ci deve essere e ci azzecca adesso noi abbiamo selezionato solo quest'osso se adesso io metto animation bake action con only selected bones e premo ok blender ha fatto ciò che doveva però solo per quest'osso blender ha convertito i constant in keyframes per quest'osso per questo altro osso non l'ha fatto strano perché non l'ha fatto per un motivo molto molto semplice premiamo ctrl z per annullare perché qui era selezionato only selected bones cioè farlo solo per le ossa selezionate se io elimino questa funzione adesso blender l'ha fatto per entrambe le ossa selezionate o no quindi detto in parole povere abbiamo visto un'opzione magica l'opzione in anime l'opzione big action che mi trasforma il movimento dettato da un constraint essenzialmente in una sequenza di keyframes di solito dovete selezionare sia visual king che clear constraint se volete che funzioni solo per l'osso selezionato dovete avere selezionato only selected bones big data lo setta da solo blender lasciatelo così com'è e ovviamente adesso i constant di quest'osso sono stati sono stati trasformati in keyframes se volevate che lo facesse per tutte le ossa anche i non selezionate la prima icona doveva essere disabilitata adesso se io muovo il mio empty le ossa non le andano più dietro perché sono state trasformate in perché adesso il loro movimento è dettato da un keyframes ho eliminato i keyframes e le empty vedo che se lo muovo le osse ovviamente non le vanno più dietro questo vale logicamente per qualsiasi tipo di constraint non solo per il constraint di tipo non solo per il constraint trick 2 per qualsiasi tipo di constraint il movimento dettato da un constraint viene trasformato nel movimento dettato dai keyframes e a quel punto il constraint qui nel pannello dei constraints non ce l'ho più e anche se vado a modificare l'oggetto target le sue modifiche non influiranno sull'oggetto a cui avevo applicato il constraint perché il constraint non esiste più è stato sostituito da una sequenza di keyframes spero che abbiate trovato chiara la lezione magari vi faccio un ultimo esempio velocissimo per esempio inserisco un toro inserisco un child off seleziono il mio empty di cui inserisco un keyframe alla location vado all'ultimo fotogramma lo muovo inserisco un altro keyframe alla location l'empty gli va dietro perché il constraint lo fa comportare come un figlio dell'empty tuttavia se io trasformo il constraint in una sequenza di keyframes per esempio anzi necessariamente andando nel pannello animation back action messi poi di aver selezionato sia visual king che clear constraint premo ok il constraint non c'è più muovi keyframes adesso anche se io vado addirittura a eliminare l'empty il toro continuerà a muoversi lo stesso è come se io avessi applicato il constraint spero che abbiate trovato chiara la lezione ma la prossima lezione sarà mi scuso ancora se la lezione magari può sembrare un po' lunga ma è sempre per completezza nella prossima lezione invece inizieremo un cammino in un mondo veramente veramente straordinario quello dei materiali infatti questa era l'ultima lezione di animazione non mancata perché la prossima volta in una breve lezione vi commento che la prossima lezione sarà breve inizieremo un cammino veramente fantastico allora non vi fermate qui in questo corso di Blender di Blender Grazie a tutti.